Buongiorno a tutti e tutte. Oggi è una giornata veramente particolare perché mi presento, sono Giuseppe Giacon, vicepresidente dell'Associazione Giochi Antichi. È particolare perché è la prima volta che ci riuniamo, tanto in luogo simbolo non solo della regione ma dell'umanità, che è Palazzo Ducale in Sala Piovego, e che si riuniscono quelle che sono le realtà di giochi sport tradizionali di tutta la regione Veneto. Lascerei doverosamente la parola per i saluti alla sovraintendente, l'architetto Emanuele Carpani, che ci ospita qui all'interno di questo spazio. Grazie vicepresidente, veramente vi do un calorosissimo benvenuto. Ieri parlando col segretario dell'Associazione Giochi Antichi abbiamo realizzato che l'ultimo evento in presenza in questo meraviglioso salone l'anno scorso è stato fatto con questa associazione e il primo in presenza di nuovo con questa associazione. Quindi è proprio un segno del destino che ci lega con la collaborazione con questa veramente interessante realtà associativa. La proposta mi è arrivata dall'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, che è retto dal dottor Leandro Ventura, che mi ha segnalato questa opportunità e ho pensato che fosse una cosa molto bella come iniziativa. Il gioco è sì cultura, ma è soprattutto vita, è soprattutto coesione, insegnamento di comunità e consente di avere delle società più sane, sia come gioco che come sport. Se in più è un gioco, uno sport tradizionale che mantiene viva una tradizione storica, ha un contenuto culturale in più, che è quello che consente alle giovani generazioni di relazionarsi con quelle più mature per mantenere viva la propria identità. Quando negli anni scorsi ho retto la soprintendenza di Siena mi ero resa conto di una grossa differenza tra le due province che avevo di competenza, Siena e Grosseto. A Siena c'erano le contrade che erano delle realtà aggregative importanti che consentivano di avere dei posti di ritrovo dal nonno al nipotino all'adulto che si prendevano cura del proprio territorio, del proprio patrimonio e lavoravano tutto l'anno per il palio, per vincere il cencio. Non c'era praticamente nessun fenomeno di vandalismo. A Grosseto invece questa realtà non c'era, ogni volta che si finiva il restauro di un monumento la notte dopo veniva imbrattato. Questo per riflettere sul fatto che non è solo un discorso così di divertimento, di rievocazione, è proprio un discorso di vita e richiede proprio delle riflessioni non tanto sugli strumenti di tutela perché siamo tutti consapevoli che nessun vincolo salverà delle tradizioni se non sono vissute, ma più che altro degli strumenti politici di scelta delle amministrazioni di sostenere queste realtà e di dar loro la possibilità di continuare a operare per coinvolgere anche i giovani, anche i bambini per dare continuità perché altrimenti si estingueranno da sé mettendo tutti i vincoli che vogliamo. Quindi sono veramente contenta di ospitarvi, vi auguro buon lavoro e vi seguirò con molta curiosità, io sono architetto, non sono antropologa, però penso che sia veramente una delle chiavi segrete per poter preservare anche il nostro patrimonio culturale, materiale e immateriale. Grazie. Grazie, grazie veramente perché tocca il tema del rapporto tra il materiale e l'immateriale e della pratica perché noi qui oggi abbiamo di fronte sia in presenza che ricordiamo l'online perché alcune comunità non hanno potuto esserci qui fisicamente il tema della pratica, del vivente. Quindi siccome questo progetto è nato grazie alla collaborazione con la Regione Veneto che da anni c'è al fianco e ci sostiene proprio sul lavoro, sul territorio sia del regionale, nazionale e internazionale, sostiene anche la candidatura a buona pratica nel registro di salvaguardia dei beni materiali del Toccati Festival. Do la parola con particolare piacere all'assessore alla cultura e allo sport della Regione Veneto, Cristiano Corazzari. Grazie. Allora, innanzitutto un ringraziamento per questo invito e un saluto che porto dalla Regione del Veneto, dal Presidente Luca Zai, oltre che al mio personale. Il rapporto tra di noi è un rapporto consolidato, quindi abbiamo avuto modo di lavorare insieme sul Toccati e su questo grande coinvolgimento di un mondo di volontariato attorno al concetto delle discipline di gioco, di sport tradizionali. Sicuramente una capacità attrattiva che è diventata anche una caratteristica peculiare attraverso il Toccati di una città e di una regione, perché abbiamo voluto sposare anche questo evento che allongeva sempre una dimensione più internazionale. Quindi oggi mi compiaccio particolarmente per questa volontà di realizzare un incontro all'interno di una rete regionale per la salvaguardia dei giochi e degli sport tradizionali della Regione del Veneto. Quindi questo concetto di un'associazione di giochi antichi è per noi sicuramente un modo utile e intelligente di fare il sistema e interpreta perfettamente quello che è anche una finalità delle nostre politiche, delle nostre scelte amministrative come regione. L'aspetto identitario, culturale, tradizionale per noi rappresenta un obiettivo da perseguire anche in una visione di sfide future. Pensiamo che questo concetto sia altremodo da rimadire in un momento complesso come quello che abbiamo appena attraversato, che ci ha fatto un po' riscoprire l'importanza della comunità e quindi la voglia di riannodare un filo che è stato interrotto. Quindi mi fa particolarmente piacere che questo incontro si tenga in presenza e che i temi trattati siano temi che poi daranno vita all'iniziativa di rete, a manifestazioni, a capacità di incontro, di dialogo tra realtà che hanno un radicamento profondo, oltre che nelle comunità locali e anche nella nostra identità. Quindi non posso che ringraziarvi per il vostro lavoro, perché sappiamo che siamo qua nella sede della sovrintendenza che si occupa di conservare e tutelare il patrimonio e quindi lo tuteliamo e lo tuteliamo anche attraverso questo tipo di iniziative, di interazioni, di sinergie e non è assolutamente scontato quello che state facendo. Viviamo in un mondo in cui abbiamo tutto a portata di mano in modo immediato all'interno di uno strumento tecnologico, ma noi ci rendiamo conto della fragilità che questo ha, di quanto sia effimero poi sapere all'interno di situazioni che invece non vengono portate avanti attraverso un vero coinvolgimento delle persone, delle tradizioni, dello scambio di conoscenze vera e rischia di poi sparire con la stessa velocità con cui viene reperito l'informazione. Quindi questo evento, come sottolineavo, è perfettamente coerente con le politiche regionali in materia di valorizzazione delle tradizioni dell'intività. Sono queste discipline un'espressione di una radicata e diffusa tradizione culturale e popolare e per noi costituiscono un patrimonio immateriale, immenso, che forse rappresenta un po' il senso anche profondo dei valori che interpreta il Veneto e il popolo Veneto. Abbiamo voluto integrare la legge sullo sport con i giochi tradizionali e le discipline perché ritenevamo fosse giusto che fosse dato anche un riconoscimento legislativo e naturalmente abbiamo questa sfida importante del riconoscimento da parte dell'UNESCO dell'associazione della candidatura del Toccati attraverso il programma condiviso per la salvaguardia dei giochi e sport tradizionali per l'inserimento delle buone pratiche del patrimonio culturale e materiale dell'UNESCO del Toccati. Una sfida su cui abbiamo investito molto, continueremo una strada che mi pare stia andando anche bene, quindi sono rassicurato su questo. Visto che il Veneto ha la fortuna di essere una delle regioni con una particolare ricchezza anche in termini di luoghi riconosciuti a livello internazionale dall'UNESCO, abbiamo siti UNESCO, siamo all'interno naturalmente di Venezia però non solo Venezia e anche questo penso che possa essere un elemento ulteriore e importante che rappresenta per noi o anche forse un altro modo di interpretare il riconoscimento internazionale. Quindi un lavoro sicuramente che va fatto su più piani con la capacità di fare squadra assieme ma mi pare che le condizioni ci siano tutte e che ci vuole vedere presente e così insomma sarà, noi saremo al vostro fianco e oltre a complimentarci per quello che state facendo vi vogliamo stimolare e supportare per le iniziative future, sicuri che ci sarà anche un esito adeguato e auspicato. Grazie ancora. Grazie e grazie anche per la stima ma penso che uno dei passaggi che poi lo toccheremo ulteriormente dell'assessore Corazzari è stato questo articolo di legge all'interno ovviamente dell'ambito dello sport che abbiamo lavorato proprio con i funzionari dirigenti della regione che per la prima volta ha messo al centro proprio il nostro mondo. Ora siccome parliamo di luoghi che devono, cioè di comunità, iniziamo dalla comunità padrone di casa e quindi dal Comune di Venezia, invito il consigliere alle tradizioni veneziane Giovanni Giusto che poi figura, sappiamo insomma, usciamo in tanti che ricopre anche più aspetti e in un ultimo insomma uno dei fautori della cultura della voga alla Veneta che poi ci racconterà perché lui riveste più ambiti. Prego. Bene, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per l'invito agli organizzatori e l'opportunità di poter partecipare a quello che è sicuramente per Venezia necessario per la continuità. Grazie per aver scelto questa sede, per aver scelto Venezia come luogo di aggregazione per questo progetto di discussione e grazie soprattutto alla dottoressa Carpani che non manca mai di aprire le porte in quello che è il cuore diciamo pulsante della nostra città che è il palazzo lucale e che mai sede magari più appropriata per dare non notizie, attenzione, per dare vita a quella che è la continuità di un sistema di vita sicuramente particolare e speciale che non tutti i Veneti, soprattutto io parlo per il Veneto, parlo per Venezia, ma bene necessariamente abbiamo bisogno di far continuare. Poi l'argomento è sicuramente un argomento a mio avviso fondamentale che non deve essere cambiato nel significato e tradotto in nostalgia perché solitamente quando si parla della storia passata, delle vicende anche popolari, quelle da strada che sono le più belle, le più caserecce, magari nostrane ma importanti nel trasportare all'interno della famiglia quelle che erano le abitudini attraverso il modo di vita speciale e particolare, tante volte viene interpretato come una nostalgia. Soprattutto questo purtroppo da alcuni anche giovani ma non solo giovani, invece no. A Venezia quando parliamo di quello che è accaduto, tra virgolette, dobbiamo assolutamente comprenderlo come elemento indispensabile per poter mantenere quello che è l'identificare una città e quindi un popolo così particolare, straordinariamente unico e diverso perché la diversità sta nel comportamento. Noi galleggiamo, noi abbiamo una città che galleggia, che fluttua sul mare, noi siamo praticamente, abbiamo le branche, va bene, siamo anfibi e abbiamo creato quella che è la compatibilità di un ambiente sicuramente strano, diverso, incompatibile sembrava così con l'uomo e che invece questo grande popolo ha creato sicuramente qualcosa di indiscutibilmente straordinario e diverso. Quindi quando parliamo del passato parliamo di quello che è il bagaglio culturale assolutamente per la nostra continuità. Fino a quando noi continuiamo a vivere in questa diversità e a trasmetterla e farla continuare attraverso i nostri figli, i nostri nipoti, noi parleremo per esempio, scusate se parlo un po' troppo territorialmente, parleremo della continuità di Venezia che è la continuità di un grande paese e di un grande popolo che è quello veneto, che è straordinario e che comunque si identifica attraverso quella che è, attenzione bene, non soltanto la città opportunisticamente oggi, ma che è una storia che ci appartiene e che ci lega a tutti e la storia è fatta soprattutto dall'ambiente popolare, là da dove all'interno delle famiglie eccetera si parlava, si trasmetteva, si insegnava, no? Ecco, e gli sport, quelli che vengono definiti sport tradizionali, abbiamo visto la parola sport in una parola un po' stretta, perché in realtà stiamo parlando di tradizione, che non deve essere banalmente racchiusa all'interno una parola sportiva, ma deve essere cotta invece come un sistema di vita che era stato adottato in un ambiente particolare e per questo l'ha nato. A Venezia noi non facciamo per esempio la voga esclusivamente come attività sportiva, ma lo facciamo perché a Venezia si voga, perché a Venezia ci si sposta in acqua, perché per tutta la storia veneziana, per 1600 anni, così abbiamo fatto e così dobbiamo continuare a fare, ma non perché siamo ostagici, scusate se ripeto questo termine, ma perché in questo modo manteniamo inalterata Venezia, manteniamo inalterato quello che è l'orgoglio veneto, la straordinarietà del comportamento di un popolo, sicuramente un popolo che orgogliosamente, al quale orgogliosamente noi tutti facciamo parte, ma dal quale, attenzione, dobbiamo attingere senza perdere la memoria, altrimenti parliamo sicuramente di qualcos'altro. Venezia, i Veneti sono sempre stati così avanti e quando si giravano vedevano il futuro e dobbiamo entrare in questa mentalità, quindi parlare di tradizione vuol dire parlare di futuro e se attraverso le tradizioni noi trasmettiamo, insegniamo quello che è l'elemento necessario per continuare a parlare di futuro in città storiche come le nostre, va bene? Noi garantiamo quella che è una grande continuità, allora non parliamo di una Venezia o comunque di una città storica, veneta, trasformata e adeguata a qualcos'altro opportunisticamente e soprattutto economica, ma scriviamo e continuiamo a scrivere quella che oggi noi pensiamo di dover soltanto leggere, cioè quello che è accaduto nel passato. Attenzione, perché noi oggi scriviamo le pagine di quel libro della storia di Venezia che sta continuando, la storia del Veneto che sta continuando e fra qualche anno, anche magari diciamo fra un secolo qualcuno leggerà queste pagine e attenzione, attenzione, che non diventiamo quelli che hanno fermato una grande storia. Noi abbiamo questa responsabilità di continuare e quello che magari qualcuno banalmente potrebbe dire, sì va bene, ma i giochi da strada, oggi i giovani hanno bisogno di qualcos'altro, no, i giovani hanno bisogno di ritrovare quelle che sono le loro radici, l'orgoglio dell'appartenenza, il semplice giocare sui campi a Venezia o sulle strade comunque, fare aggregazione spontanea, creare quel sano confronto, quel sano, chiamiamola anche agonismo in quello che è un gioco che nasce in strada a seconda dell'esigenza dell'uomo. È benissimo, ne parlo di uno solo eccetera, noi l'altro anno abbiamo già discusso che c'è un gioco straordinario che Venezia lo ricorda sicuramente per le finestre infrante, va bene, è già la massa il pindo, ha chiamato in vari nomi in tutto il Veneto ed era sinonimo dei bastoni delle scope della mamma che improvvisamente trovava la scopa ribassata almeno di un metro, va bene, perché il figlio già era in campo che giocava a massa il pindo. E c'era un sano confronto e quel gioco era nato, pensate, con strumenti che comunque riuscivi a raccattare, a trovare o comunque a trasformare, umilissimi, semplicissimi ma che radunavano centinaia di bambini e che li confrontavano sanamente. Ed è, sono e fa parte di quelle che sono nei bambini soprattutto, nei ragazzi, cioè in quelli che saranno gli uomini del domani, sono medicine per recuperare quello che attenzione spadattamente noi oggi rischiamo di perdere. La conoscenza che non è soltanto un ricordo, va bene, ma l'elemento, quel treno, eccetera, che porta a bordo quella che è l'unica speranza di continuare. Continuare attivi e orgogliosamente rappresentativi di una grande storia. anche e soprattutto partendo dai giovani con i sport detti tradizionali, perché sono i giochi tradizionali che ogni nostro luogo comunque ha. Quindi grazie a tutti porto naturalmente i saluti del sindaco Luigi Brugnano che con entusiasmo è venuto a conoscenza appunto di questa ripetuta, tra virgolette, aggregazione con un argomento che sicuramente anche a lui, e soprattutto a lui, va bene, gradisce molto perché ne è convinto delle parole che adesso vi ho detto, eccetera, e quindi orgogliosamente, insomma, non dico ci ospita, ma Venezia sicuramente sarà per sempre a vostra disposizione e anche a servizio. Viva la tradizione! Grazie, grazie perché Giovanni Giusto ci ha con grande passione e con grande competenza anche da cultore storico e ci ha raccontato ovviamente quello che è, sì, il valore della memoria, il valore, voglio dire, di cose che ci appartengono ma che devono avere uno sguardo rivolto al futuro e di un lavoro che deve essere fatto nella contemporaneità, che quindi i linguaggi devono essere dipensati, no? Cioè noi molto spesso ci troviamo di fronte alla difficoltà di far vedere che le vostre realtà non sono realtà in qualche maniera là all'interno di una vetrina o di una teca, ma sono pratiche, come le definisce l'UNESCO, sono pratiche, sono... la parola stessa è abbastanza, come dire, esplicativa, anzi, è esplicativa. Lì dove c'è vita, allora le nostre idee, le nostre visioni del mondo vengono portate avanti anche in una dimensione di giochi e sport tradizionali e giustamente, è giusto, dice, non releghiamo solo a una parola che è stretta in questo caso, che è sport, a parte che i giocosport partono come sinonimi, ma voglio dire, nell'accezione contemporanea hanno assurdo dei valori diversi, sono sostanzialmente di fatto innestate dentro il corpo vivo di una comunità e questo ci ha raccontato, no? Ci ha raccontato di una Venezia che è ancora viva dove la voga non è solo un'attività di disciplina, ma è lo spostarsi da una parte all'altra all'interno della comunità. E io di comunità in comunità, se siamo già in collegamento, se ce l'abbiamo, ok, adesso abbiamo un collegamento con un'altra, diciamo, istituzione che è il comune di Verona, che anche lì un lavoro sia all'interno del comune che nella provincia è stato fatto per quanto riguarda i giochi e sport tradizionali. Voglio ricordare che queste due voci che noi diamo, Venezia e Verona, non sono, perché riteniamo queste due realtà, come dire, principi rispetto a tanti altri piccoli comuni, perché la nostra regione è fatta in realtà di tanti comuni piccoli, medie grandi, sono abbastanza rappresentative per la loro storia e perché portano all'interno, in questo caso, le pratiche. Ecco, qui oggi, quindi, oltre al padrone di casa, è perché portano proprio delle pratiche vive. Una di queste su Verona, ricordiamolo, è quello che giusto chiama Venezia Massa e Pindolo, a Verona chiamiamo Scianco, o come diremmo il mio presidente che è seduto di fronte a me, mi sembra che lo chiami Pirinelli, una roba così, ma perché a pochi chilometri da Verona c'è un paese che, no, a parte le battute, quindi se abbiamo collegata l'assessore Francesca Toffali, che è, ricordo, assessore non solo all'UNESCO della città di Verona, anche essa riconosciuta, ma è anche assessore alle tradizioni popolari, ai costumi veronesi, tradizionali e, tra l'altro, anche al turismo. Quindi ha, diciamo, un assessorato abbastanza ampio che tocca, tra l'altro, i temi forti oggi, no, di come raccontarsi, anche in chiave turistica, sul tema delle proprie radici e delle proprie dimensioni. Ce l'abbiamo? Grazie mille, buona giornata e tanto invito anche Paolo Avigo a sedersi qui con noi. che è presidente dell'associazione Giochi Antichi, ma praticamente lo conoscete, direi tutti. Dicevo sì, anche col comune di Verona in realtà porta in sé minimo tre giochi, così vi racconto anche un po' la dimensione di giochi e sport tradizionali di questa città, che è, dicevo, lo scianco, poi chiamato Lippa in italiano e la tradizione, e noi l'abbiamo qui di un piccolo borgo meraviglioso a ridosso dell'Alessinia, quindi delle nostre montagne, a Sezzano, in una frazione del comune di Verona, che è il Zug dell'Ovo, che poi ci racconteranno gli amici, e anche vi è una tradizione che in questo momento ha delle difficoltà. E come mi sentite adesso? Perfetto, sì sì, ti sentiamo. Buongiorno Assessore, ti ho già presentato l'Assessore Francesca Toffoli anche con tutte le tue deleghe, anzi ho detto quanto è interessante, visto che tocchi deleghe che sì, come dire, sono assolutamente contigue un all'altro, Unesco, Turismo e Tradizioni, e quindi lascio la parola a te. Grazie Francesca e ci dai anche un bello sguardo da Verona all'aperto. Grazie. Grazie, scusate per gli intoppi, ma ero collegata prima da un PC, poi ho dovuto spostarmi. Io cercherò di essere breve e spero anche a tema, non avendo sentuto gli interventi di miei predecessori. Innanzitutto vi porto i saluti dell'amministrazione comunale di Verona, in primis del sindaco Federico Sbuarina, oltre logicamente che dei miei. Cosa dire sul Tocati e di tutta l'attività che fa del Tocati? Sulla attività generale che fa all'interno del comune di Verona, della comunità di Verona, la migliore cartina torna sole è stata proprio nella ammissione della tentative list dell'UNESCO e quindi parla da solo questo tipo di risultato. Per quanto riguarda invece l'ambizione della rete che ha costituito, che sta costituendo, che cerca di legare in questo momento e proprio con questo convegno, la riflessione che mi viene da fare è questa. Il Tocati, l'associazione giochi antichi, lavora sul gioco, quindi su un'attività di relazione. Il gioco è proprio unione di persone e di movimenti, di azioni sia fisiche che intellettuali. Con questo tipo di secondo passaggio l'associazione giochi antichi mette letteralmente in gioco tutti i giochi, cioè unisce non solo le persone e la propria comunità, ma unisce attraverso i giochi delle altre comunità anche le persone delle altre realtà territoriali. Si ripropone quindi in una grande scala, in una più ampia scala, quello che è il fine ultimo e unico del gioco, mettere insieme appunto dei soggetti. Questo tipo di, io la uso tantissimo, questo tipo di parola, quindi questo tipo di relazione è la cosa più importante che abbiamo conosciuto nell'ultimo anno e mezzo, quando ci è stata letteralmente negata dalle condizioni per evitare i contagi e quindi per evitare che la pandemia potesse proliferare oltre a quello che ha fatto. Di conseguenza ritengo che questo tipo di passaggio sia un'ulteriore sfida nella sfida, soprattutto se fatta in questo periodo, perché puntare su una rete di giochi non territoriali, ma oltre il proprio territorio in questo periodo è proprio voler sfidare quasi il destino e diciamo che io vi auguro tutto il successo che meritate, sia voi e le altre comunità che avete lì, perché la tradizione dei nostri giochi non è scontata e non la dobbiamo dare scontata, perché i giochi attuali sono completamente diversi dai giochi che portate avanti voi, perché i giochi attuali non mettono in relazione le persone, ma mettono in relazione la persona con la tecnologia, cosa ben diversa di quella che fate voi. Tra le altre cose, ed è l'ultima riflessione che porto, tenete presente che qualche settimana fa il Ministero mi ha chiesto di indicare quali siano le attività del Comune di Verona da poter mettere in comunione con altre realtà con cui abbiamo gemellaggi internazionali. Io ho portato tre realtà, una l'Opera, perché noi siamo come Verona capitale dell'Opera, due il Toccatì, tre il Carnevale veronese, il Carnevale più vecchio d'Italia. La prima è un'attività che voi tutti conoscete, che viene svolta all'interno dell'arena, ma che comunque mette in relazione tantissime persone con gli attori, con i cantanti e il pubblico. Le altre parlano da sole, il Toccatì porta la gente nelle strade, nelle piazze, il Carnevale fa la stessa identica cosa, porta la gente a divertirsi e a stare insieme nelle strade e nelle piazze. Quindi in bocca al lupo a tutti, non mollate perché la tecnologia serve, ma non deve essere la soluzione a tutto e per tutti, soprattutto in questo ambito di relazione. Grazie. Grazie, grazie Assessore, grazie mille. Anche l'Assessore ha toccato dei temi ovviamente importanti, non ultimo quello della tecnologia. È sicuramente una sfida, è una sfida perché oggi la tecnologia, parlare che sia solo strumento, sappiamo che in realtà è molto complicato, sta diventando quasi un arto nostro a tutti gli effetti e quindi questa sarà una delle sfide. Fintanto che terremo al centro il pensiero, questo è il tema importante, il pensiero, la mente come guida rispetto a, probabilmente riusciremo anche a far evolvere i nostri mondi anche su degli aspetti che molto spesso ci sono un po' indigesti, cioè li vediamo quasi in contraddizione. In realtà la tecnologia non è un nemico, come dice, è uno strumento però gli strumenti vanno governati, perché se no, se non sappiamo governarli, quindi dobbiamo conoscerli, possono diventare delle armi letali, anche per noi stessi. Ora, in questo giro di presentazioni importantissimo di tutte le nostre istituzioni, chiudiamo dando la parola al professor Leandro Ventura dell'Istituto Centrale Patrimoni Materiali, che è l'Istituto autonomo del MIC, del Ministero della Cultura Italiano, l'istituto che diciamo per il Ministero si occupa dei beni intangibili, cioè delle, come le chiamiamo noi, in maniera più semplice delle tradizioni italiane. Questo, diciamo, anche questa giornata la dobbiamo anche all'Istituto, al professor Ventura che ci ha reso possibile in dialogo con la sovraintendenza e col sovraintendente questo, ovviamente, questo spazio straordinario. Ricordiamo che l'Istituto sta facendo un lavoro enorme, enorme, per lavorare sul tema della cultura tradizionale italiana in una visione più integrata possibile, cioè non a comparti, quindi anche lavorando tra quello che è il rapporto con i beni materiali, sul tema della conservazione, ma l'Istituto lavora sul tema, come lavoriamo tutti, sul tema della salvaguardia, che è qualcosa di molto più, come dire, contemporaneo al tema della conservazione. E se, non so se il professor Ventura ci sente, se è collegato, non lo sentiamo ancora, Ventura ci sente? Questo è un refrain da un anno e mezzo, non ti sento, ti sento, tutto il discorso di queste tecnologie, come dicevamo prima. Il rapporto che ha l'Associazione intanto, fin tanto che riusciamo a collegarci. Ricordo un attimo il rapporto che ha avuto con l'Istituto l'Associazione, che è nata ormai più di quattro anni fa. Abbiamo fatto un lavoro fianco a fianco. Per la prima volta l'Istituto ha reso possibile degli incontri a livello nazionale nei vari territori italiani, dal nord a sud Italia. Si ricordava prima che l'ultimo incontro, che è stato fatto qui a Palazzo Ducale, proprio prima della pandemia, è stata una giornata nazionale, patrimoniale. Vedo che anche Giovanni Giusto era presente con noi, abbiamo anche fatto dei laboratori, poi dei workshop, dove arrivavano da tutta Italia, realtà, ovviamente di giochi e sport tradizionali. Ecco, questo viaggio nell'Italia da qualche anno lo facciamo con il professor Ventura. Eccoci qua. Bene, lascio la parola a Professor Ventura. Ti ho già presentato, quindi ti lascio la parola. Vedo che sei in viaggio. Sì, sì, sono in viaggio e purtroppo è il motivo per cui non posso essere a Venezia, perché dai vari progetti che stiamo seguendo, oltre alcolpia e ai giochi tradizionali, stiamo lavorando anche con la produzione con l'AGA, con un progetto studio portale della cultura alimentare. Oggi pomeriggio lo dobbiamo presentare, siamo stati invitati per presentare il giocortale nell'ambito di Slow Fish, che è appunto questa qui da Genova, sulla pesca e sulla marineria. Prima si diceva dei progetti che l'Istituto segue e appunto oltre al giocortale noi stiamo lavorando sulla cultura marinara e insomma il tema veneziano chiaramente per noi è molto interessante perché abbiamo un po' intrecciato, incrociato, forse i veneziani in più occasioni, sia per quanto riguarda le rievoche assustizioni che sia per quanto riguarda le veniere e la veneta. Quindi insomma lavorare sulle tradizioni vuol dire lavorare in maniera trasversale, trasversale su svariati aspetti della produzione culturale e quindi è importante che il patrimonio culturale sia letto in maniera appunto omogenea, cioè che si possa affrontare il tema della grande arti, della grande pittura. Io come storico dell'arte laureato, tra l'altro in storia dell'arte veneta, posso, come dire, solamente invidiare voi che siete a Venezia in questo splendido posto. Questo non canto alla grande arte bisogna anche ragionare su quelli che sono gli elementi di contesto che hanno portato i grandi artisti a realizzare con loro opere e che ci consentono oggi di vivere in un ambito così ricco di elementi legati alle tradizioni, legati alla cultura, legati a tutti gli elementi identitari che ci consentono di essere quello possibile. Quindi io a tutti i approvando potete poter essere con voi, ma sicuramente in una prossima occasione sarò. Una giornata e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie. Sappiamo la difficoltà perché sei in viaggio, quindi il collegamento non è stato, ahimè, chiarissimo, però i concetti di base li abbiamo colti e quindi ringraziamo appunto l'Istituto e il sovventura. Si sta delineando ovviamente quello che è poi di fatto il lavoro che stiamo facendo e che faremo tutti insieme, cioè un lavoro tra istituzioni, associazioni, diciamo realtà di natura anche diversa. Quindi la Costituzione, poi ce ne parlerà il Presidente, la Costituzione e la Costituzione di una rete. Io ora tornerai invece alla regione. Scusa, Giuseppe, scusa. Prego, prego, prego Leandro. Giuseppe? Sì, sì, ti sentiamo. No, scusa, ovviamente poi raccontate quello che ho detto oggi, insomma. Ti sentiamo molto male, Leandro, purtroppo, perché vai e vieni. Se provi a togliere la telecamera. Prego. Senti dire, ecco, allora dicevo, ovviamente raccontatemi poi quello che farete oggi, non lasciatemi all'oscuro degli eventi e degli esiti dell'incontro di questa mattina. Sì, sicuramente, anche perché è un po', diciamo, l'obiettivo quello di far evolvere una giornata così, poi una, diciamo, strutturazione di progetto permanente. Ecco, ma non svegliamo di più che poi ne parlerà anche Paolo. Grazie ancora e buon viaggio e ci sentiamo presto. Dicevo che... Grazie, a presto. Un saluto a tutti. Dicevo che ritorniamo invece al lavoro che ci aspetterà in questa mezza giornata e ci ritorniamo con la Regione Veneto. E nella figura di Sandro Perini, che è una figura per noi stata molto importante perché ha fatto un lavoro nell'ambito, ovviamente, dell'articolo di legge sullo sport di raccordo, di coordinamento, di riflessione. Quindi ha reso possibile poi che tutto questo avvenisse. Quindi è con grande piacere che ancora una volta lo abbiamo al nostro tavolo. Quindi oltre ai saluti istituzionali e alle parole importanti dell'assessore, poi vediamo che la Regione, come dire, entra in campo, ha già lavorato tanto e insieme a noi vorrà lavorare. Quindi lascio la parola a lui perché poi oggi sarà con noi tutta la giornata per raccogliere anche quelle che sono tutte le vostre realtà. Mi sentite? Sì, sì. Grazie mille per le parole di stima e ovviamente ci tengo a portare i saluti del nostro direttore, la dottoressa Bressani, direttore della Direzione Bene, Attività Culturali e Sport, che solitamente è sempre presente nelle iniziative, negli appuntamenti organizzati da AGA. Oggi non ha potuto partecipare, ha delegato me per rafforzare questo rapporto di collaborazione che da anni c'è tra la Regione e l'Associazione Giochi Antichi. Lo ha già detto l'assessore, certamente non vado a ripetere e a ribadire i concetti che già l'assessore ha espresso in maniera molto chiara. Ho visto che mi è stata consegnata una cartellina e all'interno di questa c'è un dépliant che non è nient'altro che il riassunto, il sunto di un lavoro lungo e complesso che è stato realizzato qualche anno fa, nel 2018. Un lavoro attraverso il quale la Regione Bene ha potuto individuare un primo elenco, ci tengo a sottolineare, primo elenco di discipline sportive ludico-tradizionali. E' stato un lavoro lungo ed è stato un lavoro che si è reso possibile grazie alla collaborazione di vari soggetti. Aga, FIGEST, il mondo delle remiere, tutti i soggetti che hanno collaborato nell'andare ad individuare le varie discipline sportive tradizionali presenti nel nostro territorio. Noi conoscevamo una disciplina, forse la più nota, la più importante, la Voga alla Veneta, anche perché c'era una legge regionale qualche anno fa che era dedicata alla Voga alla Veneta. E facendo questo lavoro invece noi abbiamo conosciuto delle realtà e altri giochi incredibili e bellissimi che sono disseminate nel nostro territorio, magari ce ne saranno anche altri. E' stato un lavoro quindi, The Keep, il tema di oggi è quello di creare una rete. Quella che si è creata con Aga, con FIGEST e con le remiere, quel mondo anche della Vela al Terzo, è stato proprio un lavoro di squadra, una sorta di rete, di istituzioni che hanno collaborato e di questo bisogna darne atto. Abbiamo individuato 15 discipline, a volte molto simili. Prima per esempio si parlava del Massa e Pindolo che a Verona è lo stanco, a Padova assume un altro nome, adesso non lo ricordo, ma se parliamo di altri giochi, i giochi sferici, andiamo a Melle e giochiamo al Tovegna. Ci spostiamo nel Veronese, andiamo a Galleggio sul Mincio, che è molto famoso per i tortellini, ma per noi è diventato famoso anche per la balina. Due giochi abbastanza simili. Poi c'è lo Spacere, il Bureas Geppera, giochi molto simili ma che si sono sviluppati nelle varie realtà territoriali. È stato un lavoro il nostro, di tipo, se vogliamo, anche amministrativo, perché abbiamo fatto la nostra bella delibera, il consigliere giusto ne conosce, sa di cosa ne parliamo, abbiamo fatto le nostre schede, ma in realtà è stato un lavoro veramente divertente. Divertente perché, ripeto, come ho detto prima, abbiamo conosciuto altre lealtà, altri, diciamo, sport o giochi, diversi da quelli che abbiamo visto ieri sera che ci hanno fatto esultare. Abbiamo visto altre discipline molto, ma molto divertenti. Mi ha fatto, ho potuto così, cogliere un aspetto di quel che ha scritto nella presentazione Aga. A un certo punto si dice, non basta studiare, conservare, organizzare mostri e scrivere libri. Bisogna giocare. E io sono d'accordo, bisogna giocare. Nel 2019, grazie a Aga, abbiamo partecipato al Tocca T, presentando tutte le discipline sportive e tradizionali. Per poter essere preparati per l'evento, personalmente mi sono anche un po' mosso nel territorio. Mi sono andato a conoscere gli amici della Corella Casale Sussile. Sono andato a, non a Noale, vicino a casa, un par di mestri, diciamo, e ho giocato e ho conosciuto la comunità dello Spaciale. Potete, lo posso assicurare. Io ho giocato e mi sono divertito. È stato proprio bello e divertente. Mi piacerebbe andare a visitare qualche altra realtà. Forse, forse, spero, a metà luglio, a Amel, per vedere il Tovegna. Ho visto anche a Valeggio sul Mincio, ho toccato con mano, incredibile. Non ho delle foto, dei contributi, video. Mi posso assicurare che è fantastico. Il Ravalina, perché è un gruppo di amici, i classici amici, diciamo, della partita del giovedì, del calcetto della giovedì, che ogni mattina, ogni domenica mattina, si incontrano, si trovano, mettono una rete e su uno spazio antistante, un supermercato mai dismesso, loro giocano alla Valeggio. Posso assicurare che c'era anche un atleta, io lo chiamo un atleta, un campione di 87 anni. Quindi, tutte le mattine. E quindi, cosa dire? Ecco, una cosa volevo dire. Noi abbiamo dedicato uno spazio sul nostro sito regionale, uno spazio dedicato a tutte le discipline, alle 15 discipline. È stato fatto anche la stessa cosa sul portale della cultura del Veneto, che è un portale da poco, insomma da qualche anno ormai, da un paio di anni che è sulla rete, e c'è uno spazio dedicato. In questi giorni stiamo pubblicando una a una tutte le discipline sportive tradizionali venete sulle pagine Facebook del portale della cultura. e se non sbaglio, se non sbaglio, mancano le ultime due rispetto a quell'elento che avete là, manca il Centurel di San Zeno e la Montagna. Non so se c'è qualcuno. Ecco, infatti, ti conoscevo? Speriamo di poter passare di là, anche perché San Zeno è bellissimo. È una vista pazzesca, però a San Zeno in montagna si si chiama il Centurel, che è un gioco delle voci itinerate. giocavano lungo le strade, e quindi, bocce di strade, esatto, con tutta una serie di caratteristiche, il mangiare, che veniva posizionato lungo le strade, perché giustamente, giocando, poi bisognava mangiare, bisognava anche bere. E loro, e loro facevano questo. Al primo di settembre, se non sbaglio, cioè il Centurel, toccherà il Centurel e poi i Carettini, sempre la provincia del Comune di Verona, ma sono state presi in assegna tutte, tutte le vostre discipline. e se avete qualche evento, qualche iniziativa particolare alla quale volete dare diffusione, potete farlo sempre attraverso il portale della cultura. Eventualmente ci chiamate, se possiamo dare il mio riferimento, ma solitamente queste cose vengono fatte tramite gli uffici turistici territoriali, ma, ripeto, se avete necessità, perché, fratellità, proprio ieri, ho visto che sul portale della cultura è stata venuta fuori la notizia dei campionati delle bisse, quelli del lago di Garda. C'è qualcuno? Ecco, infatti. È vero, ieri era sulle pagine Facebook, un modo per divulgare, di farvi conoscere, di rendere visibile la vostra attività. È poca cosa, non lo so, ma voglio dire, un portale lo vedono in tante persone. e quindi è giusto conoscere tutte queste attività. L'ultima cosa, poi concludo, è, come ho detto prima, quell'elenco famoso è un elenco aperto, per cui se, anche grazie a Aria, riusciamo, perché poi nel programma ho visto che ci sono anche altre comunità, altre discipline che non conoscevamo, se ci sono altre discipline che riteniamo di dover prendere in considerazione, ben vengono, perché con le 15 abbiamo chiuso e tiriamo avanti così per sempre. Se diventano 16, 17, 18, ovviamente questo sarà uno stimolo ulteriore per poter, insomma, dare evidenza di altre cose che sicuramente ci saranno. Sicuramente ci saranno. Ovviamente ho fatto un'attività, un'attività istruttoria, veramente amministrativa, ma dovremmo valutare tutta una serie di elementi per poter eventualmente incrementare il nostro lavoro. Io vi ringrazio. E finito. Tutte le volte che ci rapportiamo con Perini capiamo quanto all'interno delle istituzioni, e non lo dico per sviolinata, ci siano invece dei valori di persone che ci credono e che portano avanti in maniera fattiva. Allora, il riscontro di questo è che lui è andato a giocare e è andato a conoscervi, vuole conoscervi lui e anche tutto il gruppo che ci lavora. Quindi queste cose non accadono sempre. Abbiamo a volte nelle istituzioni, per n motivi non così, una vicinanza di entrare proprio a essere parte integrante del progetto. Penso che l'esperienza che abbiamo avuto come Associazione Giochi Antichi con la Regione attraverso figure come Perini dia proprio la dimensione anche della riuscita di operazioni di questo tipo. Giustamente Sandro ha anche detto che questo è solo un inizio. Abbiamo condiviso anche dei criteri, qui c'è anche la FIGEST che è un'altra nobile realtà italiana, poi daremo la parola anche, che lavora in ambito ovviamente di federazione sportiva, in quel caso lì però specifica, a livello italiano e c'è stato fatto un lavoro, ci ricordiamo anche con la Remiere stessa, perché è una tradizione poi di come si porta avanti una cultura ludico-sportiva e quindi quell'articolo di legge è stato veramente vissuto e quindi è diciamo una linea guida, ci sono dei criteri di valutazione, il fatto che anche sulle pagine social oggi ci sia un lavoro e noi che ci stiamo dentro da vent'anni che una Regione dia visibilità al mondo della cultura ludico-tradizionale, guardate che è un evento, cioè non c'è nessuna Regione in Italia e noi che giriamo l'Europa, perché siamo anche all'interno di un'associazione europea, vi assicuro che è cosa molto molto rara. cioè noi dobbiamo essere veramente consapevoli che qui stiamo un po' dando il segno non solo al territorio nazionale ma poi riporteremo anche in Europa questa esperienza qua e diventa un vero e proprio laboratorio e quindi per noi avere al fianco la Regione con poi sono le persone che muovono le cose al di là delle sigle è veramente un grandissimo piacere quindi grazie e continuare molto a fare insieme è venuto anche a vedere quelli che loro dicono di essere i campioni mondiali del mondo di Scianco ma che tutti sanno che non è così ma in questo caso avete sentito che si è autopresentato il nostro presidente Giorgio Paolo Avigo dell'associazione Giochi Antichi a cui lascio la parola lascio la parola Sandro resterà con noi per ascoltarvi ecco una cosa importante poi avremo dei coffee back avremo anche un buffet ci ascoltiamo ci presentiamo poi la cosa importante è anche entrare in contatto prendere relazioni nei momenti più informali diciamo davanti al momento del ristoro no scusate c'è vuoi Valentina dire ok ok quindi prego Paolo ma in realtà ovviamente mi accodo come dire ai ringraziamenti quando io sono convinto che i rappresentanti delle comunità che sono presenti per loro è sempre un'emozione arrivare a Venezia specialmente se arrivano come me dalla periferia del mondo e in più entrare all'interno di ambienti come quello dove siamo quindi ringrazio prima di tutto chi ci ospita ringrazio chi ci ospita perché sono convinto che come sono emozionato io in questo momento sono tutti quelli che sono qui ad ascoltarmi qui si respira la storia e quindi faremo un po' fatica ad inserirci e ringrazio Giovanni Giusto per aver fatto prima questo collegamento con le nostre pratiche e la storia che c'è stata nei nostri luoghi nei luoghi da dove arriviamo e quella che siamo qui per continuare a fare sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto Giovanni prima però io darei la parola alla dottoressa la piccerella Zingari che ci segue da qualche anno ci indirizza una via dal punto di vista ha seguito l'iter di candidatura al registro delle buone pratiche e sta seguendo da è una delle persone che si è appassionata a questo mondo che non conosceva quando l'abbiamo conosciuta mi sento di dire questo prima di dare la parola però poi dovrei riaverla per concludere il mio intervento mi sento di dire che siamo qui siamo qui una quindicina di realtà purtroppo non ci sono alcune realtà che avrebbero dovuto essere presenti Sandro ha parlato prima della balina di Valleggio sul Mincio purtroppo è una di quelle realtà che mi sento di dire interessantissime e ha sofferto probabilmente molto più di altre di questi quasi due anni di pandemia che li hanno costretti a non trovarsi più e li ho sentiti prima in occasione di questo incontro e penso che facciano molto fatica a riprendere è una delle realtà che noi abbiamo documentato abbiamo documentato all'interno del nostro libro ancora quattro anni fa perché la consideravamo proprio una delle realtà importanti è l'unica realtà disferistica al di là del tamburello nella provincia di Verona e non vorrei che questi questi quasi due anni di inattività avessero dato il colpo finale ad una ad una realtà che faceva comunque fatica a a trasmettere la propria pratica alle nuove generazioni speriamo non sia così ma ho un forte timore io do la parola alla dottoressa Zingari perché voi avete compilato un modulo che è stato dato dalla nostra associazione con dei dati che sono utili per avere una visione una visibilità di quello che è la situazione di ogni nostra pratica sul nostro territorio quindi per spiegare questo io direi do la parola a Valentina se poi me la ridai perché devo fare un paio di considerazioni grazie buongiorno a tutti vedete quanto quanta emozione quanta passione quanto impegno quanta preoccupazione anche ci unisce in questa giornata abbiamo chiuso nel 2020 con il lockdown riapriamo con anche la consapevolezza di quanto impegno e quanto lavoro tutto questo ci sta ci sta portando e questo lo dico perché da molti anni ormai accompagno l'associazione in questo percorso anche di candidatura all'UNESCO e ritengo e dagli interventi di stamattina è emerso sono emerso molto forti alcune parole chiave che stiamo vivendo una grande evoluzione direi quasi anche in qualche modo una rivoluzione patrimoniale la nostra sovrintendente ha detto giustamente cultura ma è vita allora probabilmente stiamo prendendo coscienza ci siamo occupati molto di patrimoni monumentali in Italia abbiamo una grande tradizione di storia dell'arte di architetti ci dicevamo proprio all'inizio che ci sono pochi antropologi e c'è per il momento c'è stata poca attenzione a queste tradizioni vive come se fossero qualcosa di spontaneo che andava avanti da solo oggi sappiamo che non è così che se non ci impegniamo tutti perché la consapevolezza diventi veramente impegno quotidiano lavoro quotidiano sappiamo quanto il fatto che voi siate qui in questa sala tutte le comunità presenti quanto impegnativo è anche per voi perché ci avete creduto state seguendo e quando Sandro Perini per l'osservatorio dello sport e la legge regionale ci dice continuiamo a scoprire ci sta dicendo non solo che questo non è il passato come ci diceva giusto ma è il futuro ma ci sta dicendo che questo futuro impegna allora ecco io vorrei e adesso poi appunto su questo tema dell'impegno lascerò la parola a Paolo per concludere dirvi che quello che avete in mano cioè questo programma con questa copertina verde questa mappa del Veneto con tutti questi simboli dei giochi è frutto di un grandissimo lavoro di squadra e questa sala lo rappresenta questo lavoro di squadra ci sono i giovani i nostri giovani Sofia Scomparin Lorenzo Carcereri che veramente hanno lavorato intensamente con voi e per arrivare insieme a tutti noi e sono stata anche contenta della frase che non basta studiare ecco questa è un po' la rivoluzione della salvaguardia la rivoluzione della salvaguardia che ci dice che tutto questo tutto questo lavoro è cultura è patrimonio e che l'associazione che ha avuto un grande coraggio perché ha intrapreso davvero un percorso coraggioso oggi cosa desidera fare mettere a disposizione questo patrimonio per tutti noi istituzioni e comunità e se voi guardate la cartellina nella cartellina avete delle cose fondamentali avete un manifesto dell'associazione giochi antichi che ormai è insomma data del 2008 ed è un atto importantissimo delle comunità che si sono incontrate fra di loro per mettere sulla carta dei punti che corrispondono a dei bisogni sociali un bisogno di riconoscimento per poter continuare appunto a giocare in strada a giocare e a navigare sull'acqua sappiamo quanto è difficile oggi in laguna e nei laghi riuscire a continuare ne parlavamo con Boselli per la Bissa trasmettere ai giovani il questionario che avete compilato vi fa proprio questo tipo di domande quali sono i bisogni quali sono le difficoltà perché dobbiamo capire che stiamo proprio lavorando insieme perché le cose possono cambiare e migliorare insieme a questo manifesto avete i 12 principi di etica del patrimonio immateriale che sono un documento importantissimo una sorta di sintesi della convenzione UNESCO in cui si dà centralità a che cosa? a voi a quello che voi state facendo voi comunità sul territorio e giustamente le persone perché senza le persone cosa diventerebbe la laguna o i nostri monumenti se noi non fossimo qui ad animarli a credere che questo è un patrimonio di tutti che cosa diventerebbero fra pochi anni è questo che ci sta dicendo l'UNESCO attenzione lavoriamo sul patrimonio vivente quindi lavoriamo con le persone per le persone e vedete che questo lavoro si traduce in leggi fondamentali le normative ci diceva Sandro Perini quanto a volte è difficile perché è amministrazione ma è fondamentale questo lavoro amministrativo senza questo lavoro noi non avremmo oggi la possibilità di stare qui insieme guardando effettivamente a un futuro molto concreto e poi ci avete un'altra cosa che è molto importante che è questo piccolo diciamo questo piccolo Deplian che parla di una cosa che è anche un po' strana e suscita curiosità Casa Colombare che cos'è Casa Colombare? Casa Colombare è una piccola casa di giardinieri che si è trasformata in questi anni grazie al supporto del Comune di Verona in un centro per la salvaguarda dei giochi sport tradizionali io che viaggio molto attraverso il mondo incontro comunità del cibo del gioco dell'artigianato so che questo tipo di luoghi questi che l'UNESCO definisce centri comunitari sono fondamentali sono tanto importanti quanto un grande museo io vengo da Firenze e so che gli uffizi sono considerati il gioiello che cosa sono gli uffizi alla fine se non ci sono più gli artigiani i corniciai e tutta quella vitalità popolare della città di Firenze che purtroppo si sta spegnendo mentre resta al museo ecco noi non vogliamo che questo accada e quindi siamo ribelli e questa ribellione è una ribellione sana forte e che ci sta conducendo proprio a costruire un mondo migliore ecco quindi io adesso proprio per questo lascio volentieri la parola sul tema della rete perché insieme possiamo uscirne come diceva Don Milani ma ognuno da solo e per conto proprio come si diceva prendendo il caffè stamattina non siamo quasi niente mentre tutti insieme siamo veramente una grande forza grazie grazie Valentina grazie Valentina scusa Paolo era solo per fare mi do subito la parola ricordo che Valentina che abbiamo presentato formalmente tutti è la professoressa la pecerele Zingari è uno dei due facilitator italiani riconosciuti dall'UNESCO l'unico facilitator italiano antropologo e questo che cos'è un facilitator? poi ve lo spiego alla fine poi ve lo spiega lei quindi rilascio la parola rilascio la parola Paolo va bene allora entriamo un po' nel contenuto di questa di questa giornata che fa seguito come diceva Sandro prima al lavoro che abbiamo fatto qualche anno fa e che ha dato oltre a tutto anche al risultato che abbiamo in cartellina e che sta dando risultati che ha spiegato prima Sandro ora questo lavoro ci ha dato modo di approfondire ulteriormente un lavoro che già da anni da quando praticamente l'associazione è nata stiamo facendo sul nostro territorio venendo a contatto con realtà che sapevamo che esistevano e abbiamo approfondito il rapporto ed anche con nuove realtà che che sorgono per fortuna prima ho fatto l'esempio di una comunità che il nostro malgrado è probabilmente sul su un crinale discendente per fortuna ci sono comunità invece che entrano a far parte del nostro mondo ne vedo qui un paio e sono felice della loro presenza e che ci danno stimoli ulteriori per proseguire con il lavoro e siamo convinti però che come accennava prima Valentina un lavoro fatto in comunione dia maggior risultato ed è per questo che abbiamo indetto questa giornata per vedere cominciare un lavoro che potrebbe portare alla formalizzazione di una rete regionale nell'ambito del gioco dello sport tradizionale di una rete che veda partecipare le varie organizzazioni indipendentemente dalla loro struttura indipendentemente dal fatto che facciano parte di strutture organizzate piuttosto che di gruppi informali qui vedo una persona che ho conosciuto che conoscerò personalmente per la prima volta oggi con cui abbiamo dialogato molte volte e che è venuto in contatto con noi perché hanno riattivato un'attività che è lavorativa e che l'hanno trasformata da qualche anno in un'attività una pratica ludico sportiva mi riferisco ai tiratori di burchio tiratori di burchi è una cosa molto interessante che vedremo poi in seguito ma voglio dire queste attività che emergono ci danno danno la forza a tutti noi che da qualche tempo lavoriamo in questo ambito per proseguire per proseguire e fanno pensare come sia importante strutturare qualcosa di più all'interno della nostra regione la nostra regione come è stato detto per molti aspetti è all'avanguardia rispetto a queste tematiche sta lavorando da qualche anno e l'obiettivo è che la regione consideri patrimonio lei stessa quello che stiamo le nostre le nostre realtà questo è uno degli obiettivi e probabilmente se noi riuscissimo a formalizzare in qualche modo una una struttura che che porti avanti questa questa cosa forse la regione avrebbe modo di di andare avanti lei stessa con le norme che permetterebbero proprio la questa considerazione considerare patrimonio della regione le nostre le nostre pratiche indipendentemente dal fatto che sia una pratica importante come quella quella delle remiere per Venezia oppure una piccola realtà come il Zucco dell'Ovo del Cezanne o i tiratori di Burchio delle riviere del Brenta o i giocatori di Morra dell'Alessinia dell'Alessinia veronese dell'Alessinia veronese quindi io ho nominato alcune attività che si presenteranno però le ho nominate perché sono strutture organizzate molto diversamente i tiratori di Burchio che sono attualmente un gruppo informale perché stanno ancora vedendo come inserirsi all'interno di questo di questo mondo ma i stessi giocatori di Balina di Valleggio sul Mincio erano un gruppo informale non erano strutturati in nessuna delle forme che abitualmente noi abbiamo sia in forme associative come federazioni come organizzazioni sportive qui abbiamo un ventaglio molto ampio di queste possibilità quindi questo vuole essere un primo un primo incontro un primo incontro e per vedere se conseguentemente la regione del Veneto per come siamo in relazione potremmo continuare insieme a vedere di formalizzare maggiormente questa questa struttura detto questo io mi taccio come si dice generalmente e do la parola a Giuseppe che darà la parola a qualcun altro e che per continuare anche perché siamo un po' in ritardo come è il solito come è il solito siamo in ritardo in realtà facciamo il gioco del passaparola perché gli do un secondo la parola a Valentina un secondo adesso davvero ci mettiamo in ascolto allora l'idea di questa mattinata è proprio ascoltare dare la possibilità vedete nel programma abbiamo messo le prospettive di conoscersi tessere relazioni semplicemente la parola per dire che abbiamo presenti in sala anche due non giocatori che sono la rappresentante Marisa Convento dell'arte delle perle di vetro della laguna veneziana elemento iscritto da poco nelle liste UNESCO e siamo particolarmente felici perché noi lavoriamo veramente in una visione integrata al patrimonio quindi ecco tutte le tradizioni importanti forti sono veramente in dialogo è veramente una rete aperta questo dialogo e la responsabile del sito UNESCO sappiamo quanto l'approccio integrato al patrimonio culturale costituisce il futuro anche dei siti del patrimonio e quindi sempre di più cercheremo anche grazie all'impegno della regione Veneto che ci mette tutti insieme intorno a un tavolo regionale di stringere sempre di più queste sinergie per fare davvero un lavoro comune e adesso ci mettiamo in ascolto delle comunità sempre i giovani hanno preparato una bellissima presentazione con fotografie molti materiali che voi avete mandato e una sintesi estrema sintesi dei dati emersi dal questionario quindi vi chiameremo qui al tavolo e ognuno parlerà diciamo con le proprie immagini si la rappresentante del sito unesco Venezia e la sua laguna volevo specificare si scusa si hai ragione Venezia e la sua laguna la dottoressa mi sembra che ci sia giusto Cata Basili bene grazie anche a lei e adesso in realtà passiamo la parola ai protagonisti cioè noi abbiamo parlato anche troppo e quindi siamo in ascolto veramente iniziamo omaggiando la tradizione di casa delle remiere e quindi chiamiamo nella duplice veste come avevo anticipato prima il buon Giovanni Giusto che a noi veneziani sta un po' stretta però lo diciamo così in casa quindi ci comprendiamo perché la vogala veneziana per noi ma comunque è un vogala veneta e oggi sicuramente un qualcosa di straordinario che lega come dicevo prima all'inizio della nostra storia e che non è che all'inizio della nostra storia si praticava uno sport no era un sistema necessario per andare a iniziare a sopravvivere in quel luogo che rifiutava la presenza dell'uomo va bene e che era contornato da quelle che poi noi abbiamo adoperato come mura che era l'acqua quindi dovevamo sicuramente adattarci a un ambiente ed è bello pensare logicamente con la fantasia ma è bello perché materializza quello che è poi tra l'altro il nostro pensiero che ci unisce eccetera che chi è arrivato per primo per vari motivi magari anche scappando da quelle che erano le incursioni dal nord eccetera si è trovato un certo momento davanti a questo specchio d'acqua va bene che era sicuramente un qualcosa di anomalo tra virgolette dove non si riusciva a capire se c'era vita di là in quell'appezzamento di terra che ogni tanto emergeva dall'acqua e dopo scompariva nuovamente e dove invece chi scappava a un certo momento ha detto là forse mi salvo e da quel momento è nata la diversità cioè da quel momento noi abbiamo adoperato quello che è lo strumento che ancora oggi adoperiamo o meglio non sapendo come affrontare l'acqua ha sicuramente trovato un elemento galleggiante che poteva essere un tronco va bene si è messo a cavalcioni e poi ha strappato un ramo da questo tronco e l'ha usato come remo a noi piace pensare che là abbiamo incominciato in questo modo la nostra storia abbiamo raggiunto queste terre e l'abbiamo fatto vogando quindi abbiamo iniziato vogando la nostra grande avventura e ancora lo stiamo facendo quindi questo è l'elemento come dicevo prima necessario per poter garantire quella che è non una nostalgia del passato ma una necessità per il futuro continuare a mantenere inalterato quello che è un equilibrio che mantiene attraverso una tradizione così forte va bene la continuità noi a Venezia non vogliamo per sport vogliamo perché è lo strumento diciamo più pratico per sentirsi adeguati a quello che è un territorio che è un ambiente particolare e che è compatibile con questo ambiente l'uomo è sempre stato il Veneziano è sempre stato alleato difensore della natura perché la laguna sono sempre state le mura che hanno difeso la nostra città le mura hanno accolto il primo veneziano e l'hanno difeso all'interno di essa l'acqua quindi la laguna e da quel momento per la comunità veneziana le acque erano sacre erano sacre chi violava le acque e lagunari era un traditore della patria ecco perché attraverso la voga noi diamo la continuità a quella che è l'alleanza con la natura e è l'elemento necessario per poter sopravvivere con la natura laddove nessuno prima aveva osato quindi vogare a Venezia non è riduttivamente soltanto uno sport è sicuramente oggi una punta dell'iceberg quella che emerge di più perché è importantissima perché è aggregativa perché aggrega soprattutto le giovani leve i bambini che si avvicinavano i bambini hanno bisogno del confronto e attraverso la voga trovano sicuramente il più sano il più ideale il più culturale storico motivo ed è quindi un qualcosa che va molto ma molto oltre a quello che magari oggi potrebbe essere interpretato il turista è il gondoliere che ti porta a fare il giro in gondola e se canta magari è ancora più beo banalmente fare la sintesi di quello che invece è il fondamento della nostra esistenza noi vogliamo perché in questo modo riconosciamo non soltanto il nostro ambiente va bene ma anche lo rispettiamo perché è il mezzo ideale per poter allo stesso modo oltre che affluirne garantirne la protezione e la compatibilità è un equilibrio proprio quindi vogare a Venezia è una necessità e come dicevo all'inizio finché vogheremo daremo continuità a questa che è una storia infinita praticamente nata sicuramente vi faccio un passaggio mia mamma per esempio quando da bambino avevamo il perché tutti abbiamo passato il periodo del perché e ogni tanto quando succedeva qualcosa tipo la qualta robe del genere così che erano situazioni sicuramente particolari dove magari un bambino ha bisogno di capire come mai scompare il lastricato scompare cioè Venezia viene inondata e ti fai queste domande e mia mamma dopo mi ha confessato che come a sua volta da bambina sua mamma quindi mia nonna gli aveva detto sai perché il nostro Signore Dio va bene non se l'è ancora messa via io non capivo inizialmente e dopo mi ha cercato di spiegare un po' meglio ha detto che c'era un po' con noi tante volte e giustamente lui vuoi far capire che ancora non gli è passata gli chiesi ma cosa ero bambino ma cosa non gli è passata sai Dio ha creato l'universo ha creato la terra ha creato l'uomo e poi il settimo giorno si è riposato e là che noi veneziani abbiamo creato Venezia lo abbiamo anticipato e da quel momento se l'è legata il dito e non ce l'ha più perdonata e ogni tanto si manifesta così quindi è l'orgoglio anche di poter entrare in questo tema addirittura di aver potuto contribuire a creare quello che oggi è un aspetto sicuramente quotidiano per chi lo viene a visitare ma che sta diventando un ozio quotidiano per chi invece abita che ha perso i riferimenti e soprattutto i valori di questa straordinaria unicità che solo lui può garantirla nella sua continuità altrimenti diventa un contenitore che non ci merita logicamente privo di vita vogando chi voga oggi è come posso dire l'eroe della continuità chi voga lo fa per passione innanzitutto perché sa che vogando fa cultura perché sa che vogando è veneziano e attenzione quando dico veneziano non intendo coloro che sulla carta di identità hanno la residenza a Venezia eh no eh no là è questione di fortuna nascere a Venezia va bene e il fatto di essere definiti veneziani anche a quel punto là bisogna meritarselo perché si è veneziani quando si dimostra di esserlo e chi voga già lo dimostra già lo dimostra ecco perché io ho sempre definito i veneziani nel mondo quelli che vogano perché arrivano in un ambiente sconosciuto tra virgolette dove in punta di piedi si sono intinti come un pennello e si sono colorati con quella e hanno rispettato senza imporre un'alterazione per proprio comodo cioè aspiro l'ambiente e ne voglio far parte e devo mantenerlo inalterato altrimenti lo stravoigo ecco quello è il mondo della voga quello è il veneziano del mondo ecco diverso è quando invece per certe opportunità o cosa si cerca di stravolgere all'interno di quelle che sono le varie sfaccettature anche di questo mondo stiamo parlando quindi di voga e cerco di rimanere sul tema dove si cerca di imporre quella che è spavaldamente l'avanzamento siete indietro perché abbiamo gli scalmi che sono le nostre forcole che sono delle opere d'arte va bene perché chi si immerge si perde all'interno delle forme di una forcola che sono qualcosa di straordinario che è uno strumento esclusivamente funzionale e che appartiene a questo mondo che è nato a seconda delle esigenze del saper vogare io devo avanzare e do l'elemento necessario per poter avanzare io devo fermarmi e do l'elemento necessario all'interno della forcola per fermarmi ho la retromarcia sulla forcola tradotto per essere più comprensibile abbiamo tutti quei punti di leva necessari per poter vogare e c'è qualcuno che banalizza sì ma che aveva ancora lo scalmo e già questa è una parola che dà fastidio di legno cioè siamo indietro noi abbiamo che ne so il carbonio la fibra noi abbiamo interesse di mantenere inalterato quella che per noi è un'esigenza da tramandare nelle future generazioni che è la nostra voga e quindi tante volte bisogna stare attenti anche all'interno del singolo ambiente la voga la voga la veneta che è la voga la veneziana è questa e così deve rimanere per sempre anche se le esigenze tecniche oggi agonistiche sportive eccetera potrebbero andare a inserirsi in strumenti diversi noi abbiamo le barche in legno noi abbiamo l'arsenale che se potrebbe se potesse raccontare era il luogo chiuso il segreto strategico dove gli agenti 007 creavano armi micidiali che era la cantieristica dove i segreti stavano nella costruzione e dove avevamo per sempre abbiamo avuto le navi più veloci avevamo le tecniche da adottare a bordo delle navi veloci avevamo chi vogava che non era schiavo incatenato ma era volontario che andava a vogare a bordo delle galee ed aveva quelle tecniche tramandate all'interno delle famiglie attenzione vere per diventare un vogatore di galea ed essere quindi anche selezionato perché così era forte e abile e che quindi produceva la velocità che era necessaria per raggiungere il nemico o per scappare dal nemico o per creare quelle manovre strane particolari che però in certi casi erano essenziali per sfuggire magari al nemico o per aggirarlo ecco la grande cultura della voga è quella che noi non possiamo permettere a nessuno di modificarla perché noi siamo quelli io capisco benissimo che oggi si adoperano materiali diversi ma noi abbiamo quella che è la continuità di una grande tradizione nella costruzione delle barche che sono opere d'arte il mondo conosce la gondola ma la gondola è una delle tantissime imbarcazioni chiamate tra virgolette modelli che venivano costruiti esattamente per la loro funzione quindi per l'esigenza del vive la Venezia c'era la barca da fresco c'era la barca da trasporto c'era la barca per le donne c'era la barca dei trasporti pesanti c'era la barca per andare a caccia in laguna alla baiotina eccetera c'era una cultura che ha creato quello che era lo strumento necessario per poter sopravvivere in questo luogo che noi oggi però non dobbiamo stravolgere anche se stiamo parlando di quella che è la sfaccettatura che probabilmente attira molto di più i giovani in questo momento che è la parte sportiva è andare più veloce nel fare la regatta che non è un termine inglese regatta perché regatta con due t è lingua veneziana si legge e si scrive regatta mettersi in riga cioè partire tutti allineati dallo stesso punto quindi fare una riga una regatta per raggiungere primi l'obiettivo è quindi un qualcosa che deve assolutamente rimanere inalterato che poi può mutare a seconda dei luoghi all'interno di una regione veneto ma oggi all'interno quasi possiamo dire quasi di tutto il mondo perché un po' ovunque si pratica la voglia veneta io ho avuto l'onore anni fa di varare una gondola sotto al potte vecchio a Firenze va bene e cogliere lo stupore dei giapponesi che a quel punto si fotografavano ma non riuscivano più a capire perché loro girano in velocità tutta l'Italia se erano ancora a Venezia o se erano a Firenze una gondola che passava sotto il ponte vecchio dove la cultura viene trasportata con l'elemento che la contiene non con qualcosa che viene stravolto e che la altera perché se dopo 1600 anni che oggi noi festeggiamo a Venezia incominciamo proprio oggi a modificarla vuol dire interromperla confonderla e dimenticarla a cancellarla ecco perché allora è necessario che tutti coloro che sono i veneziani nel mondo adottino avvicinandosi a questa cultura la la imparino ma soprattutto la proteggano in questo modo potremmo parlare di Voga alla Veneta di Voga alla Veneziana e di pratica di questo meraviglioso andare per acqua anche nei secoli a venire altrimenti parleremo di un qualcos'altro concludo dicendo che se il veneziano si fosse imposto le stravaganti idee che avrebbero alterato e modificato completamente Venezia la soprintendenza è il più forte guardiero che abbiamo a difesa di questa conservazione di questa continuità qualcuno aveva presentato e non molto tempo fa un progetto per rendere più comodo l'accessibilità a Venezia come asfaltando il Canal Grande creando un grande parcheggio a piazza San Marco ecco dobbiamo stare attenti va bene a quelle che sono diciamo le esaltazioni di un qualcuno che andrebbero a cancellare quello che in 1600 anni Venezia invece ha creato ora Veneta ripeto sono sicuramente oggi e lo possiamo con vanto dichiarare l'inizio della nostra storia che non deve terminare finché vogliamo continuiamo allora intanto grazie grazie perché avete sentito questo racconto di storia ma anche di vita quotidiana e di resistenza ovviamente in un ambiente così complesso come quello di Venezia attraverso la tradizione di voga chiamerei passerei da un elemento d'acqua a un altro elemento d'acqua prima della pausa caffè dando le parole ad Antonio Boselli che qui rappresenta una tradizione che poi voglio dire parte da lontano parte da qui che è invece la tradizione di voga delle bisse del lago di Garda quindi andiamo sul Benaco e ci viene a raccontare Benaco lui arriva Antonio è un atleta a parte insomma noi l'abbiamo già coinvolto anche un altro progetto con un altro progetto di inventario sul lago diciamo sulla sponda bresciana quindi con la regione Lombardia e lascio la parola ovviamente a lui per raccontarci la dimensione di voga sul lago di Garda buongiorno buongiorno a tutti sono Antonio Boselli mi presento sono presidente dell'associazione di Desenzano e qui portavoce della lega bisse del Garda sono molto emozionato perché la mia vita appunto è per la voga oltre alla mia vita diciamo lavorativa e familiare e quindi essere a Venezia è una cosa per me meravigliosa e tra l'altro noi volevo ringraziare prima di tutto la regione Veneto per la sede e l'opportunità di questa conferenza ringraziare i veneziani perché ci hanno portato la voga sul lago di Garda che poi si è fusa con i cittadini lacustri e con le imbarcazioni del lago di Garda per creare quella che è la nostra attività che si svolge anch'essa su delle barche di legno storiche con appunto dove si pratica la tradizionale voga alla Veneta ringrazio Aga perché secondo me sta svolgendo un ruolo fondamentale per l'esistenza della nostra attività ecco questo sono io sul primo remo perché appunto quello che sta facendo questa ricerca e questo mettere assieme tutte le associazioni che svolgono con fatica portano avanti queste tradizioni e questo patrimonio molto importante dell'italiano permette a tutti noi anche di far valere un po' diciamo far capire l'importanza che hanno queste attività perché vi posso garantire che una cosa fondamentale per la l'esistenza di queste attività è proprio la sensibilità verso le amministrazioni che è quello che stava dicendo anche prima di cui stavano parlando tutto quello che è stato detto lo condivido pienamente perché è importantissimo difatti vedo con piacere che il Veneto secondo me è molto attivo in questa cosa lo vedo anche per le remiere di Garda la scuola del Remo di Garda la remiera di Peschiera che sono in Veneto quindi capisco che il Veneto è attivo e quindi è presente nella dare continuità dovrebbe essere così anche in altre parti purtroppo non lo è perché io sono come vi ho detto anche presidente di un'associazione e la sensibilizzazione delle amministrazioni comunali benché noi portiamo appunto la bandiera del nostro comune purtroppo non è così semplice e quindi il sostentamento delle attività e anche la continuità delle tradizioni del patrimonio diventa complicato perché si basano su un'attività di volontariato ma hanno necessità di denaro di fondi che sono convinto ci siano a livello europeo e anche a livello nazionale che però se l'amministrazione del comune non agisce e non si dà da fare purtroppo non arrivano le barche nostre sono tutte in legno quindi hanno bisogno come anche le sculture e il patrimonio culturale italiano ha bisogno di manutenzione anche noi abbiamo bisogno appunto di fare manutenzione e di coinvolgere i giovani per farlo c'è bisogno di energia c'è bisogno comunque anche di di essere spalleggiati dall'amministrazione se no è impossibile e quindi cosa dire sulla nostra attività beh stavo dicendo appunto che associazione giochi antichi sta facendo un lavoro secondo me molto importante per noi ringrazio dicevo Venezia per accogliere per averci accolto e mi fa piacere incontrare giusto che penso non ci siamo mai incontrati anche per fare due parole perché secondo me è importante che noi rimaniamo collegati con con Venezia dato che comunque la nostra attività si basa sulla voga mi è fatto molto piacere sentire le sue parole perché comunque essendo io un vogatore in piedi di voga pratico la voga in piedi sono convinto di questi principi anche sul lago di Garda quindi sul cambiare cercare di tornare alle tradizioni quindi togliere la tecnologia su dei territori che vanno salvaguardati come anche Venezia io quando vengo cioè quasi vorrei che solo si vogasse ma come credo tanti vogatori cioè che i canali fossero solo praticati da gente che nel silenzio più totale si muove trasporta e fa e quindi salvaguarda il bene il bene di Venezia che invece viene deteriorato da ho visto prima navi e tutto il resto che entrano quindi credo che la mentalità sia la stessa perché anche sul lago noi subiamo grandissimi tragedie anche dovute al fatto della velocità della motorizzazione tutte queste cose mentre noi abbiamo paura spesso a vogare perché trovandoci muovendoci anche essendo veloci comunque lentamente sull'acqua abbiamo il timore di qualche imbarcazione qualcosa che ci possa travolgere quindi la salvaguardia del territorio è fondamentale e niente noi appunto pratichiamo il concetto più o meno è lo stesso di Venezia se non appunto la caratteristica delle imbarcazioni che è una via di mezzo appunto tra le imbarcazioni veneziane e quelle del lago di Garda è uno sport molto faticoso come la voga in piedi a Venezia pratichiamo poi un campionato che si svolge una volta all'anno su nove tappe nel lago di Garda e di Iseo dove appunto cerchiamo di portare e di mostrare questa attività di fatti adesso oggi c'è la tappa di la Zizia questa sera dove io non ci sono perché appunto sono venuto qui e quindi facciamo questo campionato che gira le tappe sono regate che fanno parte di un palio dove ogni gruppo porta la bandiera del proprio comune e si gareggia per vincere la bandiera del lago che è una bandiera storica che poi viene portata nel proprio comune quindi questa collaborazione tra vogatori associazioni e amministrazione è fondamentale se no non ci potrebbe essere più questa attività ti ringrazio grazie mille abbiamo sentito veramente un racconto che va da una parte all'altra del Veneto sul tema degli sport d'acqua dei giochi di sport delle discipline d'acqua e ce ne saranno ancora di racconti legati all'acqua perché avremo ancora degli altri interventi sempre di altre dimensioni di tradizioni di Barche Veneto adesso parliamo di una tradizione che in realtà è una tradizione internazionale ha fatto ben mi sembra correggimi tre olimpiadi le prime esattamente quattro ecco hai corretto grazie quattro olimpiadi le prime quattro edizioni esatto del secolo scorso però è con piacere che in realtà io presento Nicola Capellotto che è rappresentante della FIGEST che ricordo che è la federazione italiana giochi e sport tradizionali affiliata a CONI anzi l'unica organizzazione riconosciuta a CONI quindi un ambito prettamente sportivo con la cultura sportiva e che qui racconterà invece la dimensione del tiro alla fune che sappiamo che nel Veneto poi vedremo delle immagini della nazionale però in realtà nel Veneto ha una tradizione importante molto radicata ricordo e mi scuso prima se non l'ho ricordato abbiamo dieci minuti a testa perché l'importante è poi arrivare anche a un dibattito e anche a un confronto e a delle conclusioni quindi dieci minuti per raccontarci la vostra dimensione scusate se non l'ho detto per le prime due realtà grazie grazie allora buongiorno a tutti io sono Cappelletto Nicola qui sono in veste di rappresentante della FIGEST la federazione italiana giochi e sport tradizionali che raggruppa ben 20 discipline tra adesso onestamente non li ricordo tutti sono sincero comunque ci sono molti giochi e sport ovviamente tra cui il tiro alla fune ci sono le freccette la morra che ho visto prima per passare molti sport che si collocano nelle regioni centrali dell'Italia giochi con il ruzzolone della ruzzola del lancio del formaggio e poi la fionda la balestra insomma adesso l'ultima che è entrata è il calcio balilla il calcio balilla è l'ultima entrata all'interno della FIGEST è molto importante come gioco come sport perché ha molti iscritti è molto diffusa è molto capillare ecco nello specifico tiro alla fune tiro alla fune è un gioco uno sport molto antico insomma risale all'antichità come accennava prima ha fatto era una disciplina olimpica lo è stata per le prime quattro edizioni l'ultima è stata nel 1920 dopo la prima guerra mondiale ad Anversa poi purtroppo si è persa adesso la federazione internazionale la TWIF alla quale noi come FIGEST siamo affiliati siamo membri sta cercando di ritornare di essere riconfermata quale disciplina olimpica è un percorso un po' difficile perché i numeri non sono a nostro favore però insomma ci stanno lavorando è uno sport agonistico di forza di forza resistenza comprende molte capacità da parte dei tiratori i nostri atleti anch'io ancora lo faccio facciamo dai 3 a 4 allenamenti a settimana è molto radicato nel territorio veneto nelle province di Venezia di Treviso di Belluno e di Padova comunque la maggior parte delle squadre sono nel Triveneto Friuli Trentino e poi Emilia Romagna Lombardia Marche Toscana Piemonte insomma queste sono le zone e adesso c'è anche qualche squadra dalla Campania ecco queste sono le zone in cui si pratica e particolarmente qui nel nostro territorio ovviamente il tiro alla fune si praticava diciamo era una sfida tra i comuni tra amici di vari comuni quindi è di origine ovviamente contadina e poi ha sentito l'esigenza di organizzarsi si sono organizzati si si svolgono campionati nazionali internazionali a cui io ho passato alcune foto delle nostre uscite a livello internazionale è praticato da ragazzi e da ragazze i ragazzi ultimamente stanno prendendo piede in questo sport molto sì sorprendentemente però è uno sport che attira le ragazze è una cosa molto importante perché l'eterogenità insomma dello sport è molto importante e questo ci dà modo anche di essere più visibili perché voglio dire avendo le ragazze non è un primo sport solo scusatemi è un po' rude maschile però accoglie tutti i generi insomma e a noi piacerebbe come sport come specialità che questo venisse divulgato ai giovani per far sì che possono apprezzare e possono comprendere la bellezza di questo sport insomma che come vedete noi siamo in una linea ecco quindi quando si pratica la tirata cioè l'atto proprio di tirare bisogna essere coordinati è l'essenziale essere coordinati perché se si è scoordinati non si va da nessuna parte è un po' come vogare se tutti non vogliono nel stesso momento e sono coordinati non si raggiunge l'obiettivo insomma ecco questo è uno sport proprio noi facciamo agonismo ecco a differenza magari che di altri giochi più aggregativi diciamo ha una piega molto agonistica sono un toglie che comunque viene praticato anche a livello ludico nei nei compendi giovanili negli campi estivi e è molto praticato anche anche nei pali dei pali delle delle varie mi viene in mente per esempio il palio di feltre uno dei più famosi qua nel Veneto insomma comunque tutti quei paesi dove rievocano eventi storici viene molto spesso rievocato anche questo ecco vi ho portato qui giusto per farvi vedere cioè l'elemento l'attrezzo essenziale del nostro sport è questa la corda in canapa questo è uno spezzone la corda è di 40 metri come vedete si pratica in 8 atleti è una corda semplice in canapa può essere anche sintetica dipende se magari c'è la situazione di pioggia allora torna internazionali che non si possono rimandare c'è l'alternativa della corda sintetica in nylon però diciamo è molto più bello tirare con questa ecco sinceramente ecco si svolge con 8 atleti e ci sono delle categorie di peso un po' similmente come un pugilato insomma ovviamente le 8 persone non possono superare il limite della categoria di peso faccio un esempio 640 chili 680 chili 700 chili ovviamente mentre per le femminili ci sono le 520 la 540 e la mista che avete visto prima con la squadra mista ci siamo tolti una soddisfazione due anni fa agli ultimi europei arrivando al quarto posto per poco non ci non siamo arrivati alla medaglia però ecco è un obiettivo per il futuro e e niente insomma credo per il futuro insomma ci auguriamo insomma di avere più usibilità e e che nelle scuole e negli ambienti giovani insomma ci possa essere possibilità tramite queste queste associazioni ecco di dare lustro e luce ecco e visibilità per far sì che non muoiano insomma che continuano perché facciamo fatica onestamente si è ringiovanito il nostro comparto però si fa sempre fatica perché è uno sport visto un po' a lato insomma di quelli più blasonati ecco e quindi grazie che con questi convegni insomma abbiamo modo di conoscerci e di aiutarci ecco per per continuare la nostra attività perché è anche un'attività sociale sostanzialmente quella che si fa con le associazioni anche sportive delle tantistiche ecco grazie 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 a voi passare voglio dire dalla dimensione d'acqua delle remiere invece la terra no perché poi questo è un gioco che ti impianti proprio a terra e di un racconto di una dimensione sportiva ci fa capire quale sarà l'eterogeneità di questa giornata cioè di tante culture di tanti modi di interpretare la passione e l'attività di gioco e di sport tradizionali realtà che ha vissuto momenti importanti dal punto di vista sportivo come la presenza alle olimpiadi che oggi stanno anche ripensando di andarci ma che sono fortemente ancorati proprio nella dimensione tradizionale vedete come ci sono punti di vista diversi anche perché i racconti precedenti invece ci hanno raccontato di quanto invece il valore di essere all'interno di una comunità da un altro punto di vista però la stessa lo stesso al tiro alla fune ci ha parlato di socialità ci ha parlato voglio dire dei dopo scuola ci ha parlato delle feste quindi all'interno delle feste delle comunità e questo sarà un po' anche il racconto che noi avremo in queste ore ora perché è un mondo veramente molto variegato portiamo sul tavolo una nobile famiglia di giochi e sport tradizionali non solo italiana ma diciamo anche internazionale europea molto forte che è la famiglia dei birilli allora dico io due parole nel senso che la Borea scusatemi io non sono della marca cioè di Treviso quindi sicuramente lo dico non correttamente gioco di birilli giocato un po' nella modalità in tutta la parte veneziano e anche del trevigiano e loro sono circa su casale del Sile come zona quindi lungo il Sile non solo a casale del Sile c'è ancora qualche osteria che lo gioca fa anche dei tornei mi viene in mente a Breda di Piave le crozere e anche qui vedete la nostra scheda per dare il senso di quanto diciamo oggi c'è una pratica ma di quanto non importano i numeri anche se danno una cifra del rischio di estinzione in questo caso su casale del Sile sono una quindicina e l'età media sono 70 qui abbiamo riportato per ogni così ne approfitto anche per un attimo illustrare la scheda abbiamo riportato un po' i dati salienti che ci avete fornito c'è la voce bisogno più sentito che è il coinvolgimento delle nuove generazioni e chiaramente con questi numeri c'è un tema del rischio di scomparsa adesso vi lanciamo un video che la comunità ci ha mandato proprio perché si scusa ma non può essere presente diciamo che nei giochi di Birilli è uno di quelli che ha bisogno anche di un'infrastruttura perché ha una certa pericolosità quindi questo è uno degli elementi che abbiamo notato a differenza di altri giochi di Birilli che possono essere giocati anche in un campo più aperto questo qui invece è all'interno quasi di un vero e proprio tunnel dove i giocatori devono essere protetti un giocatore in particolare deve essere protetto addirittura dentro una piccola gabbia e la dimensione del Birilli perché dico che è straordinaria la famiglia di Birilli perché abbiamo dimensioni forme quindi saperi artigianali completamente diversi anche di soli pochi centinaia di chilometri sentiamo cosa ci racconta uno dei rappresentanti della Borella che tra l'altro è anche un rappresentante delle istituzioni un assessore e ci è piaciuto molto questo doppio ruolo il gioco della Borea è un gioco antico e molto antico e troviamo testimonianza già dal 1400 scusate ho stupato sentite tutti perché in fondo riuscite a sentire ok scusate no no va bene andiamo se sentono andiamo 1400 testimonianza tra l'altro scritta in particolare il potestà di Reviso dell'epoca aveva addirittura affisso delle targhe lungo le vie di Reviso nelle quali diceva che il gioco della Borea era rietato perché aveva scoperto che i giocatori scommettevano molti denari e quindi lo consideravano un gioco che non ha destino di questo che vi ho appena raccontato se ne trova una testimonianza cioè una targa che è affissa in via Manzone 17 in centro a Treviso il gioco della Borea come Eugenio Barbone mi ha insegnato è un gioco molto divertente che diciamo è necessita di particolari abilità che sono il corretto lancio della palla in acero in legno d'acero per colpire i tre birilli che in gergo sono chiamati soli e diciamo che il colpo può chiaramente essere colpire un birillo un birillo soltanto o due o tre contemporaneamente il colpire tre birilli contemporaneamente è definito San Martin e mentre colpirne due campanelle e se ne colpisci uno è colpo singolo e la particolarità del gioco è appunto legata alla composizione successiva di tutti i punteggi che poi vengono realizzati e all'esito di determinato numero di diri ci sarà la somma dei punteggi chiaro è che è un gioco che già da 1400 come vi ho detto prima viene principalmente praticato nelle osterie oppure nelle campagne tra i filari dei vigneti e tra i campi coltivati purtroppo la cosa che vi abbiamo notato negli ultimi anni è che non riesce a coinvolgere le generazioni più giovani e questo è un grosso limite perché si rischia visto che l'età media dei giocatori attuali è molto alta si rischia di perdere un po' la la cultura di questo gioco e quello che in effetti poi c'è intorno a questo gioco perché basta che vedete che tre birilli e una boccia di acido riescono a raccogliere un gruppo di 30-40 persone attualmente e prima erano centinaia significa che comunque ha una specie di importanza sociale e che dovremmo provare tutti insieme a conservare e detto questo ci tengo a ringraziare Aga perché il lavoro che stanno facendo è un lavoro molto attento e sicuramente ha un obiettivo che condividiamo come amministrazione comunale che è quello della conservazione e della promozione di determinate entità culturali e sociali che poi riguardano più o meno tutti i comuni soprattutto della provincia di Treviso vi ringrazio e vi auguro buona giornata Sì anche qui ci sono delle parole che vengono richiamate dei concetti cioè l'attività sociale la difficoltà della trasmissione sulle nuove generazioni ha accennato per la prima volta la dimensione dell'azzardo cioè quindi dell'aspetto patologico anche del gioco perché il gioco è vita e quindi la vita è composta da tanti ambiti e non ultimo anche il tema il tema ovviamente delle dipendenze e ne sappiamo noi ultimamente con tutto il tema dei della zardopatia legata sia online che anche delle slot machine questa è una foto tra l'altro fatta da una nostra fotografa che sta girando l'Italia non solo a fotografare giochi giocatori giocatrici ed è proprio il campo vedete che è all'interno di una struttura coperta e le dimensioni brilli sono anche diciamo importanti prima citava che ci sono dei divieti li troviamo anche nella città di Treviso a Verona dietro l'arena che tutti conoscete c'è proprio un vicolo Borella che richiama probabilmente lì un'esistenza di campi o meglio di osterie con dei campi e perché erano lì? Perché l'arena ha ospitato diciamo le signorine fino al al novecento ospitava veri e propri possiamo dirgli nobile parola casini case di prostituzione e quindi gli uomini di malaffare che governavano sfruttavano le signorine le donne giocavano molto spesso la Borella in queste osterie che sono proprio è un vicolo adiecente dietro l'arena quindi c'è un racconto forte anche attraverso la dimensione di Birilli nel Veneto ricordiamo abbiamo anche altre presenze e qui poi avremo un altro racconto sempre che arriva dalla marca ma non solo ne abbiamo anche con altre dimensioni anche verso il Veneto cosiddetto occidentale bene allora adesso in questo viaggio del Veneto che gioca e continua a giocare chiamiamo una nobile tradizione che si svolge con le mani e quindi chiamiamo gli amici della morra di Sant'Analfaedo l'amico Zivelonghi che viene a raccontarci la lessinia occidentale veronese ovviamente e chi sono cosa stanno facendo allora buongiorno a tutti mi presento sono Andrea Zivelonghi di Sant'Analfaedo lessinia occidentale veronese ma in realtà rappresento un po' tutta la zona quella della lessinia e dei monti veronesi dove il gioco della morra è praticato e tuttora giocato sono molto contento di essere qua grazie all'amico Paolo che ci ha invitato anche a Tocatì e spero che grazie a loro riusciremo a ottenere anche i risultati che ci prefiggiamo il gioco della morra penso che lo conosciate un po' tutti è un gioco antichissimo che risale dicono più di duemila anni fa è praticato non solo qua nelle nostre zone nel Veneto ma in tutta Italia ma anche all'estero io ci ho giocato anche in Spagna così è un gioco molto bello a me piace dire che è un gioco paritario perché mette tutti sullo stesso livello uomo donna bambino ragazzo adulto e anche anziani anzi tante volte si sovverte quello che è il normale svolgimento fisico magari dei giochi più degli sport fisici dove gli anziani tendono un po' a essere messi da parte invece noi dobbiamo ancora tanto imparare perché loro veramente giocavano giocavano tanto il girare per l'Italia grazie anche a FIGEST con cui si fanno anche i tornei nazionali ci permette di entrare in contatto con le altre comunità impararne le diverse sfumature perché la morra è come un po' un dialetto c'è il dialetto veneto ma poi ti sposti di 5 chilometri e le parole sono diverse e il gioco è codificato ma non in tutte queste sfumature quindi bisogna proprio giocarlo per capirlo con FIGEST si sta proponendo a livello nazionale e quindi questo riusciamo a farlo è bello perché si creano amicizie è un gioco intergenerazionale come ho detto prima e quindi la valorizzazione anche dei nostri vecchi con cui c'è sempre da imparare allora uno dei bisogni che sentiamo maggiori è quello dell'inserimento del gioco della morra nell'elenco delle discipline sportive tradizionali ne abbiamo già parlato con il dottor Perini già due anni fa a Tocca T perché la morra sconta magari come il gioco precedente un po' una nomea brutta di un gioco vietato tutto ravvietato dal TULPS quindi negli esercizi pubblici questo tranne nella provincia di Trento già dove nel 2001 è stato obbrogato questo divieto e quindi alle volte ci sentiamo un po' come dei clandestini però io penso che non sia il gioco che ne ha una colpa se anni fa è stato stabilito questo divieto probabilmente perché incitava certe pratiche o forse al gioco ad azzardo una volta sicuramente al giorno d'oggi non esiste questa pratica di azzardo il gioco non ha alea non è un gioco di fortuna anzi è un gioco molto di abilità e quindi noi pensiamo che questo divieto sia totalmente anacronistico non più al passo coi tempi e come abbiamo visto prima che era una foto del Tocca T dello scorso anno dove abbiamo coinvolto 180 persone in due giorni al nostro stand soprattutto bambini tanti stranieri tutti incuriositi dal gioco perché è un gioco che attira perché è folcloristico è chiassoso e alle volte chi non conosce il gioco può confondere questa animosità che c'è nel gioco come delle persone che siano arrabbiate o che stanno litigando ma non è così il gioco è folcloristico c'è anche una parte di presa in giro è un gioco perché è un gioco psicologico per vincere bisogna distrarre un po' l'avversario quindi un po' punzecchiarlo cercare di andare a prenderlo dove pecca si dice va bene ma anche con le parole alzandosi in piedi alzando il tono della voce quindi tutto questo fa parte del gioco ma vi assicuro che appena si è finito ci si mette lì e il massimo che succede bere un bicchiere di vino o di aranciata insieme cosa facciamo noi a Sant'Analfa Edo da 25 anni circa c'è un torneo che si svolge tutte le stati sia nel capoluogo e poi una frazione adiacente da un po' di anni in meno partecipiamo ad eventi quali il Tocatì vorremmo entrare nelle scuole perché le maestre ce lo chiedono perché è un gioco matematico si impara banalmente a fare le somme i bambini al Tocatì quelli che non riuscivano a svolgere il gioco ma cercavamo di insegnarli a fare la somma il più velocemente possibile semplicemente la morra è come la morra cinese il sasso carta forbice è solo un po' più complesso con molte più variabili e tutto quanto e questo allena è un gioco che ci piacerebbe proporre quindi è molto educativo secondo noi noi siamo velocissimi a fare le somme in verità non facciamo neanche più la somma noi vediamo e vediamo il punto se c'è o no se mi chiedi ma quanti punti c'erano prima io ti dico solo se ho preso se non ho preso magari non mi ricordo neanche il punto perché diventa talmente immediato io ho imparato dallo zio di mio papà che abitava lì a casa mia avevo 6-7 anni a 11 anni facevo già i primi tornei il torneo di Sant'Anna che dopo un po' di anni fa con molto orgoglio sono riuscito a vincere e andavo spesso in cerca dei vecchietti quelli più bravi per convincerli per convincerle mogli soprattutto lasciarli venire perché potessero far tardi quella sera lì per poter competere e imparare e a me questa cosa piace piace tantissimo ecco quindi grazie dell'incontro che avete fatto penso che sia preziosissimo penso che Toccatì sia una vetrina fantastica e spero che riusciremo a portare avanti i nostri progetti grazie beh grazie anche a questa testimonianza perché è stata stanno raccontando i giocatori sono giocatori che parlano e ci stanno raccontando in realtà quanto faccia parte il gioco della vita comune c'è la relazione con la comunità il recupero della relazione con gli anziani qui oggi si tocca il tema ad esempio dei divieti quindi e di divieti e c'è un'esperienza trentina che si possono superare i divieti ci sono divieti per temi che sappiamo legati alla morra ancora di problemi insomma di ordine pubblico diciamo così però ci sono anche divieti a utilizzo di spazi nelle strade giocare all'interno di spazi pubblici e quindi altro elemento importante di questo incontro adesso chiamerei gli amici di San Vito Almantico gli amici della Palotta che è un'altra esperienza singolare che arriva dal territorio veronese e che il buon Alessandro Sterza ci racconterà ecco che da buoni giocatori come vedete si portano dietro l'attrezzo di gioco lascio la parola a lui buongiorno a tutti vengo preso il contropiede perché non pensavo di dover parlare comunque eccomi qua dunque il gioco della Palotta che è il vero nome poi sporcato negli anni con mini tennis per farlo conoscere di più è un gioco che nasce in questa frazione di San Vito al Matico di Bussolengo che è un paesino sulle rive dell'Adige e nasce dall'intuizione o da volontà di tutte persone lavoratori che uscivano dalla guerra cioè gente che non sapeva cosa fare che non che adesso mi emoziono e si inventano questo gioco e nasce da un campo di bocce chiamato mini tennis ma non ha niente a che fare con il mini tennis ha regole sue regole proprie attrezzi propri ed è un campo di 11 metri per 6 metri e 20 e alla fine degli anni 60 inizia questo gioco io nasco con la testa questo questo ricordo vieni giù che nemmo giugare a palotta perciò al mio paese non studiava nessuno soprattutto i maschi tutti giocavano a palotta e si nasce in questa comunità di mille no allora era 700 abitanti dove qualsiasi persona di qualsiasi età da mio papà al più piccolo che io avevo 4-5 anni tutti giocavano a palotta negli anni purtroppo viene trasformato per farlo come ho detto il mini tennis finisce in mano al coni finisce lì perde l'identità e viene smesso poi un gruppo di amici anni fa dispiaciuti della perdita del proprio gioco nel proprio gioco si sono messi assieme hanno fondato un'associazione culturale sportiva educativa e si sta dando da fare in tutti i modi per riportarlo in vita cosa c'è di bello in questo gioco anche noi abbiamo capito che non serve le foto vecchie non serve le foto non serve giocare infatti noi e pochi amici ogni giorno i nostri campi sono aperti ogni giorno perciò noi decidiamo a fare che ogni giorno venga praticato organizziamo tornei mi sono presentato anche alle scuole elementari soprattutto per far conoscere il gioco ci siamo messi a disposizione nell'ora di educazione motoria di farli partecipare e cosa dire poi Paolo viva la palota concludo che nel paese c'erano degli artigiani che producono tuttora questo elemento che non è la classica racchetta da spiaggia questa già allora negli anni 60 il gruppo di uomini di allora si sono messi assieme per creare lo strumento è uno strumento di tre stati di compensato vuoto al centro ricoperti da pelle scamosciata con un manico fatto sull'impronta addirittura del giocatore e solo lo strumento però ha un valore sociale e culturale incredibile ecco va bene grazie grazie mille beh ringraziamo Alessandro l'abbiamo visto emozionarsi anche al festival stanno facendo anche loro come tutti voi ci ripeteremo però stanno facendo un lavoro straordinario di recupero e mi è piaciuto molto questo distingo di un'evoluzione che aveva preso una deriva sul tema del mini tennis per essere più accattivante invece recuperando l'idioma e quindi il senso anche di come era nato e attraverso il gioco si è rimessa in moto una comunità perché il segno forte che ci arriva dagli amici della palotta è questo ma da tutti voi anche questa è una testimonianza forte e un altro elemento interessante a nostro avviso è il ripensamento di luoghi di gioco cioè giocano anche su un campo di bocce cioè il luogo di gioco tradizionale per eccellenza che era diffuso voglio dire fino agli anni 80 poi è andato via scemando l'hanno ripensato addirittura cioè dal campo di bocce si hanno voluti quindi un pluriuso diciamo di spazi di gioco tradizionale e anche questo è un altro straordinario racconto adesso scusate la sequenza di giochi che arrivano dal Veronese ma in realtà poi c'è una rappresentanza diffusa per fortuna di tutto il Veneto e ne abbiamo avuto un modo anche all'inizio di già di sentirne e abbiamo un collegamento con rappresentante Marco Avigo della comunità del gioco dello Scianco quindi che ci parlerà appunto di questa tradizione che coinvolge decine e decine di giocatori e giocatrici nella territorio veronese e che tra l'altro ha altro aspetto importante è partito anche una recupero vent'anni fa da una dimensione bambino l'ha portata a una dimensione adulta addirittura andando a lavorare su una dimensione internazionale non so se perfetto sì intanto prego Paolo ma non campionato mondiale del mondo no no intanto vabbè prego mi ha perso qua va qua è parte sentite no no volevo volevo adesso te lo apro no volevo introdurre un attimo finché si collega Marco perché è un'operazione particolarmente cara è una pratica particolarmente cara come diceva Giuseppe prima alla nostra associazione perché noi nasciamo poi con il recupero di questo gioco che sembrava pur essendo ancora molto conosciuto non veniva più giocato se non in qualche occasione sparuta dentro qualche festa e in questi anni siamo riusciti effettivamente a riportarlo alla luce ci sono più di un centinaio di giocatori giocano sia sia ragazzi che ragazze e facciamo una grande operazione all'interno delle scuole che si è praticamente bloccata con la pandemia ma fino al 2019 noi riuscivamo a portare all'interno delle scuole attraverso i nostri volontari e la collaborazione con gli insegnanti riuscivamo a coinvolgere molte centinaia di ragazzini e di ragazzine fino a portarle per l'ultimo atto del torneo scolastico come lo abbiamo chiamato portandoli fuori dagli istituti e facendoli confrontare le selezioni che venivano fatte dagli insegnanti all'interno delle scuole tra di loro quindi questo vuol dire che ogni anno noi riuscivamo a coinvolgere una dozzina di istituti tra scuole medie e scuole superiori quindi per un totale di circa 6-700 ragazzini ogni anno questo si è bloccato questo si è bloccato da ormai ovviamente causa pandemia vedremo se riusciremo a riprendere l'anno prossimo anche se giustamente le scuole in questo momento si stanno concentrando su su qualcos'altro che non sia il gioco che arriva dall'esterno non so se Marco è collegato e allora continuo e ditemi quando c'è noi noi l'anno scorso non siamo riusciti a fare nulla come dico noi perché essendo campione mondiale del mondo non in carica ma essendo stato campione mondiale del mondo adesso io ho sempre una battuta questa però ve la spiego ve la spiego questa battuta perché il gioco tradizionale ha una caratteristica che è la stessa comunque non è non è vero cioè io devo riportare sempre alla alla verità tutta la dimensione non è vero lasciamo il racconto del presidente è presidente non posso e ora vi spiego vi spiego il motivo di queste affermazioni nonostante il vicepresidente sia all'oscuro di questo perché ormai è qualche anno che non gioca più noi siamo nati come ho detto prima con la rivalutazione in questo gioco l'evento più importante è che nonostante i campionati nonostante i vari tornei che a cui partecipiamo anche all'estero l'evento comunque più importante è quello che ha dato origine a tutto ed è il città di Verona torneo città di Verona di Scianco che si ogni anno a fine ottobre si svolge in una delle città in una delle piazze più importanti della città chi vince questo torneo chi vince questo torneo è automaticamente campione mondiale del mondo perché perché nessuno pratica il gioco così come viene praticato in quella piazza in quel momento e quindi noi possiamo benissimo vantarci di essere campione mondiale del mondo perché lì chi vince quel torneo diventa automaticamente campione mondiale del mondo e siccome Giuseppe non l'ha mai vinto ha come dire è un po' derusin dicevano noi altri un po' derusin e io quando vengo fuori questa cosa mi continua a darmi addosso ma questa è la motivazione bene non replico il mio presidente sono in un assise importante ufficiale quindi lascio poi al pranzo magari qualche altra piccola punzecchiatura lascerei la parola a Marco che ovviamente da giovane è anche un lavoratore lui e dopo deve andare a lavorare invece per raccontarci insomma com'è il movimento a Verona e questo gioco ci senti Marco? vi sento voi mi sentite? si benissimo ti sentiamo benissimo vai pure beh allora buongiorno a tutti sono Marco sono un giocatore di Sianco da molti anni ormai non posso vantarmi dei titoli di cui si vanta Paolo ma comunque insomma ho avuto una carriera nello Sianco appunto molto lunga e quindi ho potuto vedere molto da vicino lo sviluppo e il lavoro che ha fatto l'associazione nella tutela e nella salvaguardia di questo gioco che è un lavoro che va avanti da più di vent'anni e che AGA pratica in Italia e in Europa e ha si è sforzato molto per creare una rete di comunità di giocatori appunto sia in Italia che nel resto del mondo con il suo centro a Verona dove ogni anno appunto l'associazione organizza vari tornei e varie competizioni e negli ultimi anni in particolare a Verona nella comunità della città si sono sfidate oltre 50 squadre tra adulti e giovani mentre al momento sono attive circa 17 squadre di adulti ma appunto l'associazione è stata molto attiva anche nel mantenere una rete di comunità di giocatori in Europa con associazioni e organizzazioni europee provenienti dalla Croazia da Cipro dall'Ungheria dalla Francia dalla Romania e l'impegno è quello di riuscire a mantenere una e consolidare una rete di comunità e proprio per questo con questo obiettivo un'altra delle attività messe in pratica dall'associazione in particolare da alcuni giocatori e alcuni volontari dell'associazione è stato recentemente quello di creare un gruppo Facebook dove poter riunire i membri delle varie comunità italiane ed europee per fornire una base uno spazio di comunicazione e di confronto virtuale alle varie comunità di giocatori per consolidare in maniera ancora più forte la comunità di giocatori un altro aspetto in cui l'associazione è stata molto attiva nella salvaguardia del gioco è sicuramente quello della diffusione del gioco tra i giovani e quindi dell'attività con le varie scuole da molti anni l'associazione ha stabilito una relazione anche con le scuole veronesi ogni anno vengono organizzate delle giornate in cui viene presentato il gioco nelle scuole tra gli studenti e alla fine del periodo si viene organizzato un torneo scolastico in concomitanza o in prossimità delle finale del campionato solitamente con l'auspicio insomma che qualcuno che qualche una di queste squadre di questi giocatori abbia poi la voglia e l'interesse nel proseguire a praticare questo gioco e il principale obiettivo che ha l'associazione è stato sicuramente quello di riuscire a creare una rete così solida perché le varie comunità italiane ed europee sono sempre in contatto e ci auspichiamo che possano diventare ancora di più appunto grazie ai nuovi mezzi che ci fornisce la tecnologia e però sicuramente è un obiettivo molto molto importante perché primo un passo fondamentale per riuscire a salvaguardare a salvaguardare e a preservare il gioco tradizionale della strada ecco direi non so ci siano altri aspetti però questi sono i principali punti a mio parere dal punto di vista di un giocatore i principali punti su cui l'associazione è riuscita a lavorare grazie Marco grazie uno degli elementi lo ringraziamo e quindi so che devi tornare cioè devi andare al lavoro tra l'altro in arena quindi insomma passo dal gioco dal gioco al canto e quindi ti ringraziamo grazie mille e grazie a voi un altro elemento insomma di questo gruppo che costa insomma di un 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 un altro elemento direi interessante è questo che forse nuovo anche nei racconti che abbiamo avuto finora è che il movimento che è stato ripreso in dimensione adulta vent'anni fa si è messo come uno degli obiettivi il recupero degli spazi pubblici cioè andare a giocare in strada chiedere alle amministrazioni locali la l'utilizzo di spazi pubblici non già utilizzati quindi non già aree pedonali piuttosto che cosiddette spazi per già dedicati allo sport piastre pulifunzionali non mi veniva il termine ma chiusura di strade liberare le strade dal passaggio automobilistico pubblico privato aree mercatali piuttosto che dove c'erano plateatici proprio per il senso di lasciare un segno di riaggregazione quindi questo è uno degli aspetti interessanti di questa comunità di gioco adesso sempre nel viaggio che stiamo facendo chiamiamo gli amici del senturel quindi torniamo nelle famiglie di giochi del ancio però con la tradizione della boccia ma prima gli amici della palotta ci ha raccontato del campo di bocce ecco qui il campo di bocce che il buon gambino ci racconterà è un campo di bocce che è la strada è la strada giocano in strada è una cosiddetta boccia da strada si chiama in italiano loro arrivano sono di montagna anche loro un'altra montagna al di là della lessigna la montagna la montagna veronese la vera montagna veronese che è il baldo non se ne devono volere i lessinici perché poi è un balcone sul lago di Garda quindi tutte le connessioni dovute prego saluto la lessinia e bussolengo dall'alto del monte balda tanto volevo ringraziarvi l'aga come tutti presidente vicepresidente perché mi avete fatto un regalo pazzesco oggi potersi qua a venezia in questo stupendo palazzo bere un caffè qua non apprezzo ecco veramente grazie sono onorato di essere qua ecco raccontare il centurale per me è sempre un'emozione un'onore perché rappresenta un po' il valore è la mia radice io ho la mamma di San Zeno genitore di San Zeno il papà però no allora per me è sempre stato fin da piccolino sai tutti di San Zeno io ho il papà non di San Zeno io ho molto legato le mie radici allora ho sempre cercato di trovare qualcosa per essere sempre più radicato nel mio paese e c'è un gioco in particolare una manifestazione in particolare che è il centurale poi insomma io sono anche amministratore a San Zeno perciò per me è sempre stato un onore un modo anche di far conoscere in giro questo bellissimo gioco e il mio paese ecco il centurale perciò sono i nostri nonni il Beppi Rua il Cavaliere tutti i vecchiotti di San Zeno che a tempi atavici giocavano a questo centurale il centurale nasce poi però da una cosa bellissima perché nasce da una festa sacra la nostra patrona che è la Santissima Madonna della cintura della cintura e da qui il centurale si festeggia la prima domenica di settembre e c'è questa bellissima processione che viene portata questa Madonna con una cintura e ecco noi siamo abbiamo una confraternita siamo molto devoti allora una volta la festa era la festa i vecchi andavano si vestivano a festa andavano a messa andavano alla processione e dopo la processione iniziava poi il giro delle osterie si racconta si narra che a un certo punto sono arrivata è arrivata mattina a fare questo giro delle osterie e i vecchiotti cosa fai per smaltire la bala? il Sacro Campo del Saladi e un po' del Pana da meana dei V con la Cariola hanno iniziato a girare il paese il giorno dopo perciò nasce anche poi l'antico motto con la mamma ad Omar Soputel perché era così oggi la festa sacca e il giorno dopo la festa profana la continuazione giocosa e goliardica diciamo di questo gioco il gioco inizia sempre e qua si lega ancora con i giochi antichi con un punto amore noi il bollino lo decidiamo con un punto amore da lì iniziamo vengono sorteggiate le copie e anche lì c'è questo aspetto molto sociale perché viene sempre sorteggiata la coppia che durante l'anno ha avuto di attribe ha litigato e fatalità al settore tutti gli anni vengono sorteggiate allora lì risate collettive e via dicendo magari qualche volta vince anche questa coppia allora si ristaglia questo rapporto quando si rivede al bar ci si riabbraccia ecco poi si continua si va adesso non abbiamo più le carriole non abbiamo più tutte queste strade bianche purtroppo perciò facciamo delle tappe un po' mirate in giro per il paese si va sempre nelle osterie ecco qua è una foto di una volta questo qua è il mio nonno insomma si gioca in qualsiasi condizione come potete vedere che piova non piova a noi non interessa noi usciamo e manteniamo questa tradizione ecco si fanno si arriva al 12 ci sono si arriva diciamo alla finale sempre a tarda notte con i fari della macchina perché purtroppo o per fortuna ecco i partecipanti sono sempre più numerosi da noi il problema dei giovani non esiste perché abbiamo dei ragazzini che ha già 12 anni sono lì che ci corrono dietro ci portano le bocce perché scalpitano per giocare a centurale per noi centurale veramente se uno mi dice se vuoi vincere una medaglia olimpica o centurale io dico il centurale sono fortunato perché l'ho vinto 3-4 volte perciò per me è già una bellissima soddisfazione mi ricordo la prima volta mi sono portato vabbè la cupo subito alla nonna per fargliela vedere da tradizione di famiglia e poi me l'ho anche portata a letto ecco perciò è veramente un'emozione parlare del centurale e concludo un po' per un aspetto anche che mi piace del gioco di questa dimensione che ci porta un po' fuori dagli schemi di questa serietà che abbiamo tutti i giorni nel lavoro nella nostra vita anche per procurarsi i nostri bisogni e forse questi piccoli giochi tradizionali ci danno questo sogno questa dimensione dinamica di uscire un po' dagli schemi di pensare che la vita è fatta anche di semplicità di stagionalità di feste sacre di feste importanti e di quella che poi è il nostro futuro che alla fine non è sempre la tecnologia non è sempre la voglia di arricchirsi ma forse è meglio arricchire un po' più l'anima e anche attraverso questi giochi antichi riusciamo a fare grazie a tutti ancora per l'invito grazie intanto sentire è molto emozionante perché si susseguono anche generazioni diverse nel racconto lo vedete e quindi il gioco testimonia che è vivo è un racconto e questa foto secondo me è veramente molto potente perché racconta di una comunità autentica cioè dai bambini agli anziani quindi un lavoro intergenerazionale e c'è un altro elemento che è interessante che ci ha raccontato che lui in realtà il gioco l'ha utilizzato anche come elemento di integrazione cioè ha scherzato sul fatto che il papà non fosse la comunità che tutti lo schernivano come succede spesso nelle nostre comunità ma di fatto è stato un elemento di tra virgolette accettazione sullo scherzo e poi questa dimensione assolutamente informale cioè loro sono loro non sono una federazione un'associazione un gruppo al di là che poi esistono le istituzioni ma sono giocatori giocatrici cioè si ritrovano e giocano è un elemento connaturato con quella comunità lì e ora diamo la voce a un'altra diciamo realtà importantissima ritorniamo in realtà tra il veneziano e il trevigiano famiglia di birilli e le spacere le chiamiamo con Nicola Sarlo che viene a raccontarci anzi sì eccolo qua a raccontarci anche qui un'altra storia di giochi e sport tradizionali grazie mi presento sono Nicola Sarlo sono presidente della mia associazione che è la ASD le tre province però però sono qui in veste di presidente dell'area tecnica della Fabi Fabi è una federazione autonoma birillistica italiana e noi siamo nel trevigiano principalmente vi spiego un attimino questo gioco questo gioco è un gioco di birilli si differenzia in tanti particolari il nostro gioco è nove birilli uno rosso uno verde e il resto gialli posizionati su un cavalletto di ferro a forma di t rovesciata ora noi giochiamo abbiamo per abbattere questi birilli abbiamo delle piastre di acciaio che pesano 3 t e 50 li lanciamo da una altezza da una distanza di 13 metri praticamente abbassando noi prendiamo l'attrezzo in mano questa questo piastra ci abbassiamo il corpo si abbassa e poi si stende il braccio e si tira su in modo che la piastra vada a cadere perpendicolare sul cavalletto perché se noi riusciamo a farla cadere giusta sul cavalletto c'è una bella probabilità che si abbattono tutti i brilli ora come punteggio se si abbattono tutti sono 14 punti se noi invece li prendiamo a uno a due a tre a uno a uno per esempio se noi abbattiamo due birilli sono due punti se noi abbattiamo tre birilli davanti sono sei punti perché oltre i due diventano sei se noi prendiamo questo rosso da solo sono otto punti il verde da solo sei punti se appari se cade con un giallo se cadono assieme è un punto normale questo è uno sport che noi siamo praticamente la fabbi e dal 1978 che esiste nel trevigiano finora perché si è perso tanti si è perso tanti giocatori perché perché soprattutto questo si giocava nelle osterie cioè le osterie di una volta avevano queste strutture queste perché sono proprio strutture non si può giocare in strada avevano queste strutture dietro magari sul parcheggio della osteria e andavano a giocare e facevano giocare questo sport poi cosa succedeva che alla fine della partita alla fine della partita tutti quanti si sedevano a tavola e mangiavano in questa osteria noi continuiamo questa tradizione perché attualmente abbiamo 18 società facciamo un campionato italiano perché tramite lo CASAIN che è il centro sportivo industriale siamo affiliati alla FAB facciamo un campionato italiano e nel campionato praticamente sono delle squadre composte da nove giocatori cioè sei più tre di riserva che si affrontano però alla fine della partita ecco che diventa uno sport ludico anche se siamo a livello del CONI diventa uno sport ludico perché alla fine della partita ci scegliamo a tavola mangiamo beviamo e stiamo tutti in compagnia oltretutto noi adesso cerchiamo anche con la mia associazione con le tre province cerchiamo di portare questo sport nelle scuole in effetti io ho portato delle fotografie non so se si possono vedere qua se l'Aga le ha pubblicate ho portato delle fotografie dove ci sono dei ragazzini dei ragazzini che giocano li portiamo nelle scuole facciamo dei tornei con dei bambini è uno sport è uno sport che si può giocare dai cinque ai novant'anni perché perché questo qua non è uno sport di molta fatica l'importante è che il braccio possa resistere perché se poi c'è l'artrite al braccio non si fa più niente ma noi abbiamo nonni che hanno il più anziano finora ha 89 anni ed è il migliore di tutti ci batte sempre lui quando tira si becca sempre il rosso becca sempre il verde e fa sempre un sacco di punti e noi che siamo più giovani non ci riusciamo perché? perché è tutto un gioco di concentrazione è un gioco che è bellissimo è bellissimo perché adesso noi noi l'abbiamo portato anche a Venezia dal 2000 perché questo si giocava solo a Treviso nelle zone trevisane nelle zone di Porto Enone Sacile e su di là l'abbiamo portato nel 2000 a Noale e nel 2014 invece siccome è cresciuta la società a Noale i giocatori li abbiamo trovati abbiamo deciso di spostarci nel comune di Martellago così oltre al comune di Noale adesso abbiamo un altro comune nel veneziano Martellago con un campo con una struttura una struttura nuova dove si fanno campionati dove si fanno tornei dove si fanno giocare i bambini noi come tre province in settembre faremo un torneo perché purtroppo con il covid siamo stati fermi un anno e mezzo e ancora tuttora non si può fare il campionato perché il nostro campionato inizierebbe in aprile e finirebbe in ottobre perciò aspetteremo un altro anno a fare il campionato faremo questi tornei faremo questi amichevoli noi cercheremo di fare giocare i bambini per portare avanti e per far conoscere sempre questo sport noi ci teniamo ci teniamo a questo sport cerchiamo di riportarlo in tutte le piazze l'abbiamo portato al Toccatì grazie a Laga che ci invita noi è già 4-5 volte che ci andiamo abbiamo in più dal 2019 coinvolto anche il Trentino perché tramite un amico che ha visto questo sport ha detto ma ci piacerebbe portarlo nel Trentino allora hanno chiesto informazioni siamo stati su e a Imer cioè alle porte di Fiera di Primiero hanno costruito una struttura e anche loro hanno fatto delle squadrette hanno fatto questo sport e nel 2019 abbiamo fatto il campionato italiano lì da loro tanto per premiarli io concludo concludo ringraziando tutti quanti ringraziando Aga per l'invito ringraziando la regione Veneto che ci ha ospitati grazie a presto grazie grazie Sarlo stavamo non per maleducazione ma ho chiamato Paolo perché in realtà stavamo discutendo appunto di questo movimento birillistico che nasce nel Treviso e negli anni in realtà si forma negli anni settanta e che poi ci ha raccontato che coinvolge adesso vari territori noi l'abbiamo incrociato a Mantua quindi vicino ovviamente in Lombardia però vicino al Veneto e dove là ci hanno anche raccontato cioè ci hanno detto della relazione che c'era e poi un altro tema che ha toccato che è quello dei luoghi pubblici dei locali pubblici lui ha parlato oggi non ci sono più gli spazi dentro le osterie no dentro i bar dentro le osterie dove si gioca questo è un tema che vabbè dopo magari condividevamo con Paolo alcune riflessioni quindi sì un elemento molto interessante ci ha raccontato anche di come siete riusciti a coinvolgere addirittura con questo gioco non radicato in un'altra regione che vi hanno visto li avete ispirati e nel Trentino alle porte di Fiera di Primero avete fatto costruire degli spazi di gioco questo è estremamente interessante per la diffusione per la trasmissione del gioco quindi grazie e adesso torniamo ad un rapporto un po' particolare con l'acqua chiamiamo gli amici del del tiro col burcio un altro pezzo di Veneto e il buon Daniele Fabio Fabio Daniele buongiorno a tutti Fabio Daniele scusate perché Daniele è qui io sono Fabio e sono rappresentante dei Tiranti e il nostro è una passione che è nata un po' da lontano da bambini che poi per fortuna si è realizzata io mi ricordo sempre che eravamo un gruppetto e c'era questo mio amico che aveva una grandissima litografia in casa di alcune persone che tiravano questo enorme burcio e il suo papà ci ha detto andatevi a vedere che ho scoperto che c'è anche rappresentante il museo della navegazione interna e siamo andati a vedere siamo stati appassionati a queste grandissime barche e quindi a forza di avvicinarci a queste barche leggere testi del ruzzante che c'erano questi tiranti che erano a volte anche scelti all'interno del paese tra quelli un po' più grossi perché bisogna essere un po' matti per tirare queste barche pesantissime grandissime un giorno il comune di Fiasso d'Artico ha organizzato il primo palio del ruzzante che appunto si tratta del tirare questa barca il burcio e in una riva di 250 metri andare 250 metri tornare la barca la si tira in 5 però la squadra è composta da 8 perché possono esserci 3 riserve e vince la squadra che lo fa in meno tempo e la la cosa è bellissima perché abbiamo visto che c'è tantissima partecipazione perché la prima volta c'erano 2-3 paesi principalmente della riviera del Brenta che partecipavano poi hanno cominciato ad essere 6 7-8 è ancora una cosa poco organizzata perché sono i comuni che scelgono di partecipare e quindi questo va un po' anche in base alla simpatia politica di chi organizza questo e quest'altro e a noi ci piacerebbe invece che fosse una cosa di tutti che potessero partecipare tutti e soprattutto non solo noi comuni della riviera del Brenta ma proprio perché il Veneto è la terra dei fiumi qua dove c'è un fiume si può tirare e abbiamo visto che lo spazio aggregativo che c'è intorno a un evento del genere è pazzesco cioè ogni volta il palio si svolge a fine settembre ci sono centinaia di persone a guardarlo da tutta la riviera e noi delle squadre siamo belli agguerriti perché vogliamo vincere e tanto che abbiamo anche cominciato ad allenarci noi del nostro comune che poi io sono un po' quello che tiene in su la squadra e fa campagna acquisti in giro per gli altri paesi e ci alleniamo nell'argine del Brenta tirando le ruote dei trattori perché noi tirare la fune è diverso noi proprio dobbiamo tirare e appunto quello che fa più fatica è quello che si mette in testa che che deve essere quello un po' più grosso poi proprio perché non c'è ancora una regola fissa non abbiamo categorie di peso o così però è molto è molto faticoso però alla fine la cosa che conta è tirare tanto che ogni volta appunto proviamo ci troviamo e qua è a fiasso d'artico lungo un naviglio e quindi sono 250 metri andare in leggera pendenza e quindi una volta si tira e poi ovviamente si tira a favore di corrente quindi una volta in leggera salita e una volta in leggera discesa e poi c'è anche un aspetto un po' sociale perché il comune di fiasso d'artico dà sempre un premio in denaro che per fortuna gli ultimi tre li abbiamo vinti noi e li abbiamo sempre dati in beneficenza però anche quelli che hanno vinto prima li davano sempre in beneficenza realtà venete o comunque locali dei nostri comuni per la cosa che vorremmo noi non è tanto cioè è farci conoscere e avere gli strumenti giusti per farci riconoscere perché è quella la cosa il primo muro di gomma che ho trovato quando ho provato a morire nell'ambiente per fortuna ho trovato il numero e poi ho trovato il signor Paolo che abbiamo parlato un sacco di volte al telefono e anche per ore è stato bellissimo e quindi là abbiamo cominciato ad avere un po' di speranza anche perché di partecipanti ce ne sono tantissimi cioè ogni anno gli ultimi tre anni ho dovuto fare la selezione per decidere chi poteva fare la squadra o no quindi di gente che ha voglia di tirare ce n'è l'unica cosa è appunto avere uno spazio e a noi ci piacerebbe che diventasse una cosa itinerante e non legata a un singolo giorno proprio per la natura stessa del Veneto in quanto abbiamo un sacco di fiumi un sacco di navigli e dove c'è un naviglio e un fiume si può tirare e ho finito grazie 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 veramente anche questa è stata una testimonianza un altro modo alla fine di raccontare un territorio perché questo stiamo sentendo sempre da giovani generazioni la passione sì qui abbiamo un piccolo video di raccogliere di raccogliere grazie 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 ancora e sì un'altra testimonianza del rapporto con l'acqua che poi ritroveremo perché c'è un altro diciamo racconto è stato citato tra l'altro un luogo di cultura fluviale come il museo di navigazione che poi anche qui sentiremo e adesso veniamo a una famiglia di gioco che non abbiamo ancora incontrato ma che è per l'Italia diciamo forse uno delle tradizioni più antiche in assoluto e più conosciute al mondo nell'ambito dei giochi sport tradizionali che non è il calcio è la sferistica famiglia nobile italiana di gioco e chiamiamo gli amici del Tovegna a raccontarsi quindi si presenta lui perché io conosco te conosco di fatti cercavo il nominativo conosco te Antonella però hai portato un giocatore quindi è il presidente ti chiedo scusa buongiorno a tutti io sono Davide Colle sono presidente dell'associazione del Cralfarrese che tra tante attività che svolge svolge anche appunto organizzare i vari tornei di di Tovegna o gioco della palla per per noi per voi di scusa perché non di farra di mel farra di mel belluno quindi belluno esatto oggi adesso tocchiamo anche la provincia di belluno abbiamo sentito mel però mel non esiste più no sbaglio non esiste più il comune quindi farra di mel benissimo è chiuso niente è un gioco relativamente semplice nel senso che quando sei entrato nel meccanismo di capire come funziona è veramente semplice appassionante è bello quelli che lo guardano da fuori senza senza praticarlo c'è gente che ha vent'anni che lo guarda e non ha ancora capito come funzionano le regole fondamentalmente facciamo tre tre tornei uno a maggio il primo maggio uno a luglio e uno a settembre per assurdo quest'anno e mezzo di di covid sentivo prima che certe realtà rischiano di morire per assurdo a noi a quanto pare sta salvando questo gioco perché probabilmente la gente non avendo niente da fare di praticanti ce ne sono almeno una ventina attivi in paese e probabilmente l'anno scorso non avendo nulla da fare sentendosi chiusi da maggio giugno praticamente erano in piazza tutti i sabati e le domeniche a giocare quindi è stato una piacevole sorpresa sulla scia appunto dell'anno scorso abbiamo pensato quest'anno di di provare a fare una scuola il lunedì eh a cui parteci abbiamo cominciato quest'anno e eh dieci bambini si sono presentati e cinque adulti quindi sia bambini che adulti a noi piace così questo è il tipico campo di gioco eh diciamo che assomiglia molto al tennis eh perché il punteggio è simile eh c'è una battuta e una risposta poi non entro nel particolare perché sono veramente regole che bisognerebbe giocare per capirle però più o meno la palla è in gioco con le stesse modalità del tennis non si batte da una parte o dall'altra c'è solo un punto di battuta e e così eh io mi ricordo quando ero piccolo ho cominciato come come hanno cominciato i bambini quest'anno avevo 6-7 anni ci troviamo in piazza vedevamo quelli più vecchi giocare e noi cos'è sto gioco cos'è sto gioco domani sera venite qua ve lo insegniamo e così per tutte le sere d'estate poi adesso ci sono dei problemi che non sono proprio marginali come l'aumento del traffico perché questo è un gioco che va giocato per strada non si può creare un campo apposta va giocato per strada perché qua è tutto buono le finestre i balconi le gronde è il bello del gioco prendi una gronda prendi il tetto prendi il cammino quindi l'aumento del traffico per noi è un problema l'amministrazione comunale ci dà anche una mano perché ogni qualvolta vogliamo giocare facendo manda non ci fa nessun problema però è evidente che magari la domenica pomeriggio uno dice beh cosa facciamo oggi dai andiamo a giocare andiamo però non puoi chiudere la strada perché non hai chiesto i permessi prima dovresti avere la possibilità di chiuderla a tuo piacimento cosa che è fattibile secondo me è un paesino di 400 abitanti insomma chiudere un pezzo di strada che puoi bypassare insomma staremo a vedere dovremo prendere accordi anche su questo e basta vi ringrazio fu impresso perché andò a mangiare no? e grazie 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 presidente Nel Tovegna e sì ci sta particolarmente a cuore anche questo tipo di esperienza intanto perché è una realtà che ormai con noi ha costruito veramente un percorso importante ricordavamo prima il caffè insomma sono dieci anni e oltre hanno partecipato a una primo tavola alla commissione cultura della regione Veneto penso intorno al 2011 2012 forse anche prima per una legge regionale sui giochi sport tradizionali e loro erano presenti hanno fatto anche un intervento in commissione quindi vedete sono storie che poi oggi ringraziamo chi ci cita ringrazia l'associazione giochi antichi in realtà l'associazione giochi antichi senza il movimento di giocatori giocatrici non è assolutamente nulla e quindi se siamo anche in una giornata come questa è proprio grazie alle esperienze che in questi anni ci hanno supportato affiancato nei territori allora in questo momento noi abbiamo un tempo di catering nel senso che pensavamo di andare fino a luna ma qui siamo dentro un luogo museale per cui abbiamo dei tempi contingentati anche nell'utilizzo degli spazi io volevo qui abbiamo una serie di realtà che poi vedremo ne mancano tre alla fine e volevo ricordare a voce perché oggi non possono essere presenti si scusano il movimento della cuccagna che penso che non ha bisogno di presentazioni come tradizione lo abbiamo nel veronese ma c'è anche nel veneziano anzi nel veneziano dicono che sono tra i più forti e più agguerriti comunque è una tradizione che più o meno formalmente informalmente troviamo anche nelle feste come abbiamo sentito dire anche per altre attività e quindi fa parte cioè ci sono anche loro e quindi un altro modo diciamo di dimensione ludico tradizionale e qui vedete alcune immagini ma sono immagini che penso che noi tutti abbiamo vissuto all'interno delle nostre feste e poi invece un'altra realtà estremamente importante che ha una dimensione sportiva sua autonoma di una tradizione che si estende oltre il confine nazionale ricordiamolo perché arriva anche in Francia con alcune con alcune realtà di federazione però che è anche qui fortemente radicato nel nord dell'Italia che è la tradizione del tamburello quindi fa parte diciamo della famiglia della sferistica ovviamente a differenza di gran parte dei giochi di sferistica che si usano si possono usare con la mano chiusa aperta dimensioni di palle diverse un bracciale di legno a punta con tante 88 punte il tamburello invece ha ovviamente l'oggetto di ribattuta è giocato anche questo in campi veniva giocato anche in strada ahimè questa dimensione è stata praticamente persa e anche loro ci hanno detto che oggi si scusano non possono esserci ma saranno un movimento molto forte molto esteso tra il mantovano il veronese e il bresciano e poi abbiamo anche qualcosa nel Piemonte ok oltre che alla dimensione francese ma magari Paolo su questo si ricorda anche più in dettaglio altre cose quindi anche questa fa parte di questo di questo racconto dicevo che io mi fermerai qui perché ecco qua questo è il tamburello anche qui è interessante su queste disciplini che vediamo una dimensione adulti maschile e femminile quindi i generi e poi una forte attività che loro hanno all'interno del mondo scuola questo è un altro elemento importante mi vedete tutti ok allora intanto si è già posizionato persona molto pratica e attiva allora mi fa molto piacere anche per questo racconto presentare Maurizio Ugliani Ugliana che insomma ho avuto modo di conoscere poco tempo fa in realtà un viaggio domenicale in un posto straordinario che è il museo della navigazione fluviale a Battaglia Terme posto che se non ci siete stati dovete andare tutti veramente un patrimonio vero e in quella mattinata insomma abbiamo capito che avevamo la possibilità di fare un percorso insieme e quando abbiamo pensato questo evento abbiamo chiaramente pensato di invitare il lavoro che stanno facendo sulle barche tradizionali venete quindi ritorniamo all'acqua nella dimensione che non è solo lagunare come ci ha raccontato oggi o benacense insomma del lago di Garda o come ci ha citato l'amico Fabio dei navigli o dei fiumi in quel di Padova ma è molto di più quindi lascio la parola a lui grazie grazie mille grazie all'organizzazione naturalmente io sono Rizzuliana sono qui a rappresentare TVB che vuol dire ti voglio bene no non solo questo vuol dire traditional venisce all'inglese siamo partiti all'inglese perché perché riteniamo che la voga alla veneta le barche della tradizione veneta adesso spiego il motivo per cui sono legate le due cose e siano patrimonio internazionale e per quella che è la mia esperienza diretta io vedo che l'apprezzamento a livello internazionale è notevole quindi ho pensato che l'inglese sia forse un modo di comunicarlo a tutti quanti barche venete tradizionali legate collegate anche non solo ovviamente alla voga alla veneta o alla voga veneziana qui abbiamo una foto che è un po' un'immagine di quella sintesi che ho appena citato una barca tradizionale una barca in legno che abbiamo recuperato proprio qui a venezia era una gabarra praticamente anche se definita burchetto modello burchetto che faceva servizio a rialto portando la frutta era motorizzata è una delle ultime così mi hanno raccontato costruite in legno perché adesso ci sono i mototopi ovviamente in ferro in plastica non sembra che siano e stava per essere smantellata quindi l'obiettivo è stato quello quando me l'han segnalato di siccome era immatricolata l'avrei potuta inserire in una delle associazioni in cui ero socio anche presidente all'epoca abbiamo preferito fare una associazione ad hoc partendo con l'idea a questo punto di salvaguardare cercare di salvaguardare patrimonio di imbarcazioni in particolare di barche che poi appunto fossero in relazione con la campagna perché per i veneziani noi siamo campagnoli siamo terraferma siamo l'entroterra ok e e quindi perché perché l'entroterra pensiamo a tutta la pianura padano padano veneta cioè fino agli anni 50 le vere autostrade per il trasporto delle merci erano i fiumi fiumi canali pensiamo l'asta del Po ma poi bellissima quella definizione di Veneto terra di fiumi e il Veneto che è la regione che ha più fiumi cioè un patrimonio di fiumi e di canali straordinario insieme al Veneto è sull'acqua a parte ovviamente l'arco alpino che però alimenta quindi c'è un connubio una connessione straordinaria e questi corsi d'acqua erano praticati dico erano non mi piace parlare al passato devo dire la verità diciamo che sono tuttora praticati forse certamente con una minore intensità con una minore attenzione ma lo sono in modo un po' forse diverso mi viene in mente solo attualmente il canale bianco fissero tartaro che è un canale che viene utilizzato per trasporto anche per il trasporto merce tra il porto di Rovigo e quello di Val d'Aro Mantua la laguna di Venezia certamente è assolutamente imprescindibile ma per esempio anche il Sile ogni tanto abbiamo notizie di qualche chiatta che risale mentre è sviluppato sempre di più l'aspetto del turismo fluviale tant'è che molti di chi è barcari imprenditori si sono poi anziché di smettere del tutto la propria attività convertirsi magari nel trasporto su gomma hanno iniziato un'attività di trasporto turistico fluviale e dico parlo di imprenditori perché il museo della navigazione fluviale nasce dai barcari nasce da chi svolgeva questa attività che giocoforza ha dovuto abbandonare negli anni 60 gli è rimasto dentro il feeling questo legame con l'habitat fluviale col mestiere che hanno fatto con i valori e poi a un certo punto è riuscito per una serie di fortunate anche coincidenze comunque a esplodere a farle tirare fuori a trasformare un mestiere che veniva definito mestiere dei mille mestieri perché in barca non c'era il servizio di teleassistenza attuale si dovevano arrangiare un mestiere dei mille mestieri in un elemento culturale una consapevolezza del ruolo non solo economico ma sociale lungo i corsi d'acqua le barche sono state la gente del trasferimento di valori di culture di informazioni di notizie non solo di merce di valori immateriali qua stiamo parlando oggi abbiamo parlato sottolineato moltissimo il valore immateriale dei nostri giochi delle nostre attività anche sportive ma direi in sostanza un po' di tutto il legame tra l'attività di lavoro sulle barche tradizionali in particolare venete perché ripeto certamente veneto venezia eccetera hanno non solo una nomea ma da un punto di vista pratico è evidente insomma una profonda hanno sviluppato tantissimo insomma la nautica ecco e il collegamento è dato dal fatto che prima dell'avvento della motorizzazione di queste barche una delle tecniche per muoversi era la tecnica alla veneziana tecnica veneta cioè questo modo di vogare in piedi con la forcola fatta in un certo modo con dei tecnicismi particolari che davano la possibilità di muoversi in qualsiasi ambiente anche con poca acqua anche con pochi spazi non dimentichiamo c'è anche questo aspetto per cui la funzionalità oggi giusto parlava di forcola strumento funzionale oltre che estetico oggi via Venezia sappiamo bene la forcola è anche un oggetto acquistato come ricordo proprio per la bellezza artistica ma in realtà questo profilo questi profili sono legati a una funzionalità del muoversi senza motore quindi naturalmente c'era la vela è stato parlato citato prima il tirante l'attiraglio il tiro delle barche lungo gli argini quindi cura dell'habitat l'argine doveva essere pulito mantenuto cioè c'era tutta una complessità di elementi collegati tra di loro una sinergia una simbiosi volta a far sì che queste barche potessero trasportare trasportare quindi merce ma anche cultura valori le osterie erano i social di oggi momento di scambio anche di gioco e quindi ecco che torno al discorso della barca spinta per cui mi ricordo sempre due anni fa siamo andati a trovare con due amici inglesi e abbiamo fatto un giro di una settimana in gondola lungo l'anello ecco questo per dare così un'idea un po' delle opportunità che tra l'altro veramente interessante su un piano anche turistico ma così di svago che abbiamo tra i colli eugani battaglia terma è ai piedi dei colli eugani la trachite che calpestate adesso quando uscite in piazza San Marco arriva dai colli eugani arriva tra battaglia e monselice tanto per dare un'idea della tipologia di scambi che ci sono sempre stati dicevo il discorso della voga ecco mi ricordo questo campione del remo tagliapietra ciacci che diceva il mio allenamento era portare la merce a rialto andavo tornavo erano 60 km e quello era il mio allenamento per la regata quindi per lavoro lui vogava e quindi si robustiva ecco quindi da ultimo vorrei dire che abbiamo nella cinquina finalista al campiello di quest'anno quindi qui a Venezia un libro se l'acqua ride Paolo Malagutti scrittore veneto fatto studiato al museo della navigazione parlando col fondatore il caro Capellota che purtroppo è morto l'anno scorso ultraottantenne questo romanzo oltre a essere orgogliosi di ciò è una testimonianza di quello che può voler dire trasferire elementi di lavoro su un piano ludico diciamo in questo modo immateriale certamente perché piano culturale insomma quindi credo che l'attività che viene posta che viene portata avanti sia assolutamente un valore di per sé e quindi non ci dà altro che la possibilità di diffondere ulteriormente insomma queste attività il museo le attività che svolgete quindi con grande piacere grande soddisfazione insomma sono qui e ringrazio ovviamente dell'invito grazie grazie mille sottolineo ancora una volta il lavoro che stanno facendo al di là oltre l'associazione che ha presentato Maurizio Uliana il museo vale veramente un viaggio è un luogo straordinario anche molto emozionante al di là degli oggetti che poi porta in sé e sempre restando legati a questo mondo delle remiere io chiamerei adesso l'altra metà del cielo cioè il genere femminile che voga con una atleta insomma vabbè atleta sei stato uno atleta rimane sempre anche se vuoi che è Gloria Rogliani che così vediamo anche l'altro aspetto abbiamo sentito oggi il racconto del di Antonio dal Lago di Garda anche lui atleta di voga e adesso sentiamo il tuo sì allora intanto grazie di essere qui sono stata molto contenta perché ho toccato da vicino queste realtà che conoscevo ma solo a livello così di sentito o di letto e adesso ho avuto modo anche di confrontarmi ci sono due particolarità che mi caratterizzano e anche che cadono a puntino in questa situazione la mia formazione che avviene attraverso i patronati veneziani 50 anni fa non c'era un'attività sportiva a Venezia se non quelle delle varie parrocchie Venezia nasce soprattutto per le parrocchie ogni isoletta aveva la sua campanilla e la sua chiesetta quindi fondamentale per avere una comunità nei patronati cosa succedeva succedeva di tutto o di più non c'era la parte agonistica però noi la trovavamo perché noi eravamo continuamente in conflitto tra ragazzi tra di noi non c'era un educatore se non il parroco che non aveva neanche tempo e là è stata la mia più grande formazione perché da là si impara ad essere soli ad arrangiarti ad aiutare avere rispetto di te stesso e anche degli altri senza però che nessuno parli e questo è stato un valore veramente aggiunto perché purtroppo succede che anche l'intervento dell'adulto non ti dà quella spensieratezza nel gioco o nell'attività sportiva che ogni bambino dovrebbe avere questa è stata una formazione fondamentale riuscire ad arrangiarti in un contesto tra virgolette nel nome del signore che quindi avevi sempre un po' di paura non è che potevi essere completamente libero di andare oltre ti fermavi al momento giusto ed è stata una proprio una formazione di vita cresco e decido di fare la maestra compatronato del genere ora fai maestra devo trasmettere tutti quei valori che mi hanno reso insomma una persona attiva per gli altri e anche educatrice e divento maestra e poi faccio l'ISAF a Padova altra bella scuola adesso fanno scienze motorie torno a Venezia e faccio basca e faccio tanti sport nel frattempo ma non voglio personalizzare la mia è per farvi capire nel contesto come sono riuscita a diventare insomma dopo la campionessa e arrivo a Venezia dopo aver fatto gli sport vedo per caso le donne veneziane che passano pensa veneziana 23 anni mai stata a Santerasmo mai visto il territorio perché mio papà è imprenditore non aveva niente a che fare con la città quella che vivo adesso con tanto amore e tanta tutela vedo queste donne che vogliono e dico al mio amoroso che è mio marito ah se voglio vinso non voglio sembrare presuntosa però io cosa avevo capito subito di queste donne che erano forte forti sagge ma non avevano l'allenamento giusto quindi io dalla mia scuola ho subito capito che si poteva fare qualcosa di più allora sono ho iniziato a vogare ho avuto anche la fortuna di vincere ma ti ripeto quello non mi interessa però ho conosciuto queste donne straordinarie avevano 12-13 anni più di me abitavano nelle isole da Santerasmo Pellestrina e ho avuto subito un grande rapporto d'amore di passione e stavo giorni con loro perché loro cosa avevano tutto quello che non avevo io avevano il territorio negli occhi nella pelle nelle mani nella testa nel cuore e questo mi hanno trasmesso questo tipo di di voga femminile è quella che mi ha dato la possibilità di diventare campionessa loro non lo sapevano ma loro erano le mie molla perché mi hanno motivato ad allenarmi perché vogare alla Veneta è un sacrificio immenso e io vedevo loro che coltivavano la terra scappavano tante volte tra virgolette dai mariti perché non potevano vogare non era che era una cosa semplice parliamo di 30-40 anni fa e mi hanno trasmesso tutto quello che so adesso che non è nei libri e questa è stata la mia strada cioè il turismo esperienziale capire il territorio attraverso le persone che lo vivono sono loro l'unica tutela ovviamente ci vuole il libro ci vuole la cultura ci vuole tutta la tradizione per arrivare a un certo livello di professionalità ma solo quell'esperienza mi ha dato la modalità di lavorare con i ragazzi in che modo? con un'attività proprio ludica tra le parti proprio costitutive dello sport in primis la parte ludica è quella che è nata nello sport poi la voga alla veneta che cosa ha che mi ha dato anche la forza è un campo libero il bambino può essere anche aggressivo dentro la voga alla veneta l'aggressività non deve far paura è una parte importantissima del ragazzo va certamente incanalata va rivista va educata però sicuramente non tolta gli sport attuali sono l'antitesi della parte ludica sportiva un ragazzo che fa sport adesso ha solo 100.000 paure io faccio solo queste attività dove tutti fanno sport tutti sono iscritti tutti fanno campionati ma nessuno sa salire in barca nessuno ha la destrezza la destrezza finita la capacità di capire gli ostacoli e di andare oltre in maniera veloce intuitiva tutti lavorano in un contesto artificiale e quindi programmato nel tempo sempre ripetuto anche canestro calcio quindi la voga la veneziana ti dà sta possibilità le donne quindi mi hanno trasmesso il coraggio di essere quella che sono perché non avrei forse avuto il coraggio forse sarei diventato un'insegnante come tanti tradizionale fare bene le cose ma la cosa più importante per loro adesso è la spensieratezza e la velocità di fare le cose un'altra cosa che dobbiamo fare noi con i ragazzi in attività ludico sportiva parlo sempre è lavorare come internet cambiare completamente non parlare mai essere un esempio ma un esempio da tutto scegliere le imbarcazioni di legno portarli a visitare gli artigiani cioè non solo parlare 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 stare con loro chiese massacrante dalla mattina alla sera massacrante solo forse patronato San Giobbe il mio vecchio patronato mi ha dato sto massacro che io ho sempre fatto la fatica non la conoscono ecco le donne della voga mi hanno trasmesso questi valori sofferenza fatica io ero le prime volte che andavo all'allenamento ero distrutta e loro finito l'allenamento andavano nei campi allora dicevo ma io non valgo niente e allora mi davano la spinta e vincevo con loro con quella con quel modo proprio di fierezza ecco la fierezza è stata quella cosa che mi ha dato la motivazione per andare oltre se no avrei mollato e ho portato i progetti in tutte le scuole nelle scuole io non lavoro con i genitori lavoro solo con i bambini perché purtroppo non è facile far capire anche un genitore che il ragazzo deve faticare deve andare oltre ai propri limiti li deve superare con consapevolezza deve andare avanti e questo è quello che mi ha dato la voga femminile mi ha dato la possibilità di fare della voga la mia professione grazie grazie penso che non dobbiamo aggiungere parole ulteriori passione e consapevolezza è stato questo racconto da parte di Gloria e la ringraziamo perché è stata ovviamente abbastanza chiara di cosa vuol dire oggi quello che stiamo facendo e chiudiamo questo giro di presentazione di comunità con un gioco che è legato fortemente a una dimensione di comunità di una piccola comunità nel quartiere nel quartiere scusate nel comune di Verona che è il Zugo dell'Ovo e altro scenario e c'è il tema della festa ci piace chiudere con il tema della festa scusate perché col tema della festa perché è un'altra dimensione ancora abbiamo visto tante dimensioni federazioni associazioni gruppi qui c'è un comitato di abitanti di quel luogo legato al tema del cibo sentivamo prima Leandro Ventura che ha fatto un passaggio si sentiva non benissimo ma come sta lavorando oggi l'istituto centrale dei patrimoni materiali sul tema della cultura agroalimentare alimentare e con l'associazione Giochi Antichi stiamo lavorando sul tema del gioco cibo e quindi oggi ci racconterà un altro modo di giocare nei territori grazie buongiorno a tutti io sono Antonella Erbisti e faccio parte del comitato festeggiamenti di Sezzano a Sezzano si svolge Esugo dell'uovo che sarebbe il gioco dell'uovo oggi ho fatto una special edition delle medaglie che noi diamo alle coppie al primo secondo e terzo posto che vincono il gioco dell'uovo il gioco dell'uovo esugo dell'uovo si perde nella notte dei tempi noi lo pratichiamo in concomitanza con la festa della dolorata un tempo la festa della dolorata veniva fatta nel periodo pasquale e qui c'è il rimando all'uovo e il paese veniva abbellito con le uova c'era uove fresche di gallina ovviamente no di cioccolato e poi con l'arrivo degli austriaci tutte le festività sia religiose che pagane erano state fermate quando si è ripreso questa festività è stata portata il terzo fine settimana di settembre che è fatalità in concomitanza con il Tocatì e noi lo facciamo appunto là quindi si lega il sacro col profano sono tre giorni di festeggiamenti e il terzo giorno che è la domenica appena dopo la cerimonia dove si porta proprio tutto il palco con la Madonna allestita dalle donne lungo il paese dopo questa celebrazione si festeggia si parte il pagano e si festeggia con questo gioco si ha un uovo fresco in mano e si gioca a coppie e la bellezza se vai anche un po' più avanti la bellezza la fa la conformità del paese perché ovviamente è un gioco che si potrebbe fare dappertutto però è proprio come è fatto il paese qui alle spalle c'è la chiesa questa è la piazza e qui era ai bei tempi pre-covid penso fosse stata proprio quella del 2019 questa qua e poi c'è questa discesona che va giù e si arriva veramente lontani si parte uno di fronte all'altro ci si passa questo uovo e già lì uovo fresco e tanti non giocano perché hanno paura di sporcarsi e si parte dai bambini alti così fino alle persone un po' più mature e anziane e man mano che il tiro va a buon fine ci si allontana cosa dire io sono stata fin da piccola questo è stato l'anno scorso noi siamo stati fortunati abbiamo potuto fare il gioco e la sagra anche l'anno scorso questi siamo io e il mio marito che volevo dirti Paolo non sei l'unico campione del mondo perché noi nel 2006 campione mondiale del mondo ecco perché noi fra l'altro nel 2006 abbiamo registrato il campionato mondiale del jugo dell'ovo quindi quando si fa questo gioco è il campionato mondiale del jugo dell'ovo per noi io ho cominciato a giocare sono una foresta non vengo proprio da sezzano sono arrivata nel fine anni 80 e quindi anche per me ero vista male quando giocavo in paese e me lo sono dovuto conquistare sia il poter giocare che poi il far parte del comitato dei festeggiamenti perché insomma non eravamo dei local però adesso ce lo siamo insomma ce la godiamo la grande ancora io mio marito ci giochiamo e ci divertiamo abbiamo i nostri bambini e altri bambini che avevamo cominciato a fare il gioco dell'uovo kinder coloveto kinder per dire e per spronare anche i bambini a portare avanti questa questa nostra tradizione volevo ringraziarvi voi dell'aga intanto per l'invito qua e anche soprattutto per l'entrata col botto che abbiamo fatto l'anno scorso a far parte del toccati sia per quanto riguarda le dirette mentre si giocava anche perché appunto questo gioco è da fare qua è bello lo si può fare dappertutto però in paese con questa con questa discesa cioè qua abbiamo gli spalti noi è una roba il tifo ci sono le tifoserie vengono dagli altri paesi c'è contestazioni di quando la coppia che vince poi deve spaccare l'uovo alla fine perché bisogna dimostrare che l'uovo è fresco perché tanti dicono no le sodo le sodo le novo duro quindi insomma c'è tanta rivalità e tanta voglia di giocare e dopo volevo anche ringraziare per la possibilità di essere entrati nel documentario che per noi c'è stata una cosa per me io non lo sapevo neanche è stata una sorpresa di quella domenica mi ha detto Antonella guarda che viene una truppa e faremo questo poi rivedermi mio papà si è messo a piangere è stato ecco e questo è quanto grazie grazie veramente Antonella ci fa particolarmente piacere aver chiuso anche con una voce di donna due donne anzi che come vedete ancora una volta c'è la passione che guida e c'è un racconto ancora di persone che si sono integrate poi magari venivano anche da pochi chilometri ma giustamente ero foresta e chiudere come dicevo prima anche con la dimensione della festa perché poi tutte le nostre attività sono principalmente attività di comunità e quindi la festa è un bel simbolo finale per aprire poi adesso la vera anche il vero obiettivo di questa giornata cioè quindi chiamo Paolo anzi si stanno già Paolo e Valentina a un'idea di perché siamo qui oltre a conoscerci a presentarci però adesso comincia il vero lavoro per il futuro e e quindi lascerei la parola a Valentina che ha ascoltato da buona antropologa insomma il tutta questa giornata quante pagine vale no secondo me ne ho scritte molte di più continua a scrivere è anni che ne ho scritte molto di più in realtà ok vale ti lascio il tempo sono tre minuti e mezzo grazie allora adesso il grande compito è quello di trasmettervi intanto la passione e la commozione perché poi questi ultimi racconti ci hanno dato delle immagini fortissime io ho preso tanti appunti e mi sono assinata delle frasi che secondo me sono veramente frasi straordinarie mi riprometto di condividerle con voi anche per scritto che sono le frasi che ci hanno condotto attraverso questa geografia che è una geografia ludica ma è una geografia anche sentimentale è una geografia patrimoniale è una geografia d'acqua di terra di memoria di attaccamento e di fiducia anche nel lavoro che le generazioni hanno fatto su questo territorio e credo che abbiamo veramente la grande responsabilità di un risveglio collettivo mi sento proprio di parlare di un risveglio collettivo e se guardo questi appunti devo dire che comincerei con questa cosa che secondo me è stata molto importante che ci ha detto Sandro Perini che è quella della scoperta continua cioè del fatto che le istituzioni attraverso questo lavoro di comunità che stiamo facendo perché non dimentichiamo che la forza di questo progetto è quello di essere partito ed essere stato condotto ed essere condotto da persone che sono un po' come le donne della voga cioè persone che a un certo punto hanno detto questa tradizione deve rinascere deve continuare perché è la nostra cultura non possiamo lasciar morire in un mondo che è diventato nel giro di pochi anni ostile decisamente ostile perché l'arrivo della televisione sappiamo che cosa ha significato la globalizzazione nel bene e nel male e nel male perché effettivamente ci ha distolto ci ha distratto e ci ha portato a quello che Gloria ci diceva questa artificialità per cui i nostri ragazzi hanno perso anche io sono stata salvata come lei da delle donne della terra in Toscana che mi hanno proprio mostrato delle alternative molto concrete a quelle che invece il mio gruppo sociale e l'ambiente in cui sono cresciuto mi avevano tracciato quindi io credo che questa consapevolezza la parola è tornata tante volte ci deve ci deve guidare e quello che diceva appunto Sandro Perini era la scoperta e qui penso che dobbiamo sia e come stiamo facendo adesso attraverso questi racconti continuare a scoprire il nostro territorio e le nostre tradizioni e la forza cioè questa cosa bellissima di dire il gioco si deve fare qui allora Toccati invita le comunità a Verona ma anche grazie alla pandemia e grazie a queste giornate dell'immateriale noi stiamo andando sempre di più sui territori in modo che i territori siano presenti non soltanto giocando a Verona ma giocando dai loro contesti ed è quello il loro obiettivo quindi rafforzare questa rete significa davvero costruire un'Italia futura di tradizioni consapevoli e forti e fiere appunto questo tema della fierezza e questa questa questione della scoperta che cos'è è scoperta di contesti i contesti sono l'osteria sono i fiumi sono le piazze sono le strade ma è anche scoperta dei valori tu ho scoperto l'osteria quella l'ho scoperta con te anzi l'ho riscoperta con te l'osteria e questo tema dei valori è tornato direi in tutte in tutti gli interventi e unisce in qualche modo sia le pratiche ludico sportive più competitive e organizzate con i gruppi informali e per finire anche la festa perché alla fine quello che unisce tutti sono questi valori e il fatto che AGA ci porta anche attraverso l'internazionale perché alla fine questa è anche un'altra grande forza permette di far capire questo valore ai diversi livelli e il tema delle amministrazioni è tornato più volte perché? perché noi abbiamo il dovere di sensibilizzare lo sappiamo bene i comuni gli amministratori che altrimenti diciamo tutto questo rimane poco radicato e sappiamo quanto questo è difficile quindi la proposta che deve uscire da questo tavolo è anche una proposta di coinvolgimento forte delle nostre amministrazioni che sono quelle insomma che governano le frasi le frasi sono incredibili il tema dell'equilibrio fra i generi e del fatto che le donne si stanno avvicinando sempre più a certe pratiche che erano soltanto maschili come ci hanno raccontato i giocatori del tiro alla corda la borella la borella è stata veramente un ascolto incredibile di come questa pratica riporta anche alla scoperta di spazi dimenticati questi spazi di gioco incredibili con questi grandi birilli questa boccia l'acero quindi anche gli alberi la conoscenza dell'ambiente che arriva attraverso il gioco e sempre questa capacità di dire che il gioco non è solo gioco è anche la memoria del lavoro è anche la memoria della festa è la vita dei territori il tema degli anziani è venuto più volte sono venute fuori queste frasi bellissime io andavo in cerca dei vecchietti con la morra questa non è una frase banale anche io da piccola andavo in cerca di queste donne come le donne della voga ma era una cosa un po' controcorrente in quel momento perché li abbiamo un po' lasciati perdere i nostri anziani quindi questo credo e qua torniamo al tema dei valori il rapporto fra le generazioni non è qualcosa di teorico perché poi le parole finiscono per svuotarsi del loro significato trasmissione intergenerazionale noi dobbiamo andare a cercarle queste persone perché queste persone sono il nostro patrimonio andare in cerca di questi vecchietti la morra è un po' come il dialetto cioè vi rendete conto cosa significa questo significa che le varianti locali sono infinite e questa sapete quanto l'UNESCO si sta battendo contro la perdita di queste lingue dei dialetti della diversità linguistica del pianeta e attraverso il gioco tradizionale Tocca T si mantiene viva si mantiene viva anche la consapevolezza del valore della nostra lingua delle nostre lingue inoltre è come il dialetto perché cambia e continua a cambiare di contesto in contesto pur essendo lo stesso gioco ed ecco che qui veniamo alla lippa e alla capacità che ha avuto lo scianco di collegarsi all'internazionale ma senza lasciar perdere la diversità locale per cui a differenza dello sport una parità di calcio è la stessa le regole sono le stesse il linguaggio è lo stesso noi vediamo che nella lippa ognuno pratica con varianti ma per questo non impedisce di giocare insieme quindi vi rendete conto dal punto di vista culturale la potenza che ci dà questa possibilità vieni giù andiamo a giocare a balotta questa frase che cosa nasconde il fatto venizo venizo ma io non sono così palotta non balotta no palotta palotta non balotta venizo scusate scusate la straniera la straniera la straniera scusate la straniera però gli stranieri vedono cose che spesso gli autottoni non vedono allora vieni giù che andiamo a giocare a palotta venizo che andiamo a giocare a palotta cosa significa significa che spontaneamente ogni bambino anche se non può pagare la retta per andare a giocare al campo sportivo non si scrive da nessuno scende in strada a giocare non so se ci rendiamo conto del valore inclusivo che ha che dà il gioco tradizionale poi i campi da noi sono aperti ogni giorno sempre la palotta i campi aperti ogni giorno i campi sono sempre aperti come le chiese che invece sono chiuse è aperto cioè deve essere aperto perché? perché questo è un valore l'apertura il fatto che in qualsiasi momento tu trovi qualcuno con cui giocare socializzi prendi sicurezza attraverso questa apertura la racchetta artigianale sì lo so che devo fare veloce no 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 in realtà conoscendo conoscendo Alessandro quando dice quando dice i campi sono sempre aperti tutti i giorni è perché i suoi campi hanno bisogno di mano d'opera esatto quindi vanno deve andare a tirare il lupo piuttosto che a coltivare i broccoli poi la racchetta sempre aperti la racchetta artigianale la racchetta artigianale è un oggetto straordinario e l'artigianato ecco come il gioco è anche uno strumento di consapevolezza del valore di questi artigianali abbiamo raccolto testimonianze in giro per l'Italia stupende di attaccamento proprio all'attrezzo di gioco all'artigianato che ci sta dentro e quindi in qualche modo il gioco anche può rivitalizzare qui abbiamo abbiamo un grande artigiano anche della laguna sappiamo quanto l'artigianato è fondamentale perché senza l'artigiano che costruisce l'imbarcazione e gli attrezzi e gli strumenti per far navigare sull'acqua queste barche non abbiamo non avremo nessuna possibilità di trasmettere questo patrimonio e con lui la conoscenza dell'ambiente naturale la laguna quindi cioè una cosa di un valore inestimabile il gioco locale che prende forza ed ecco il caso del gioco dell'uovo con Tocatì da una rete da una rete di relazioni perché il gioco è relazione il senturel il senturel con questi alla fine questo gruppo informale il senturel sono i nostri nonni cioè il gioco è radici è ed è questo qualcosa di incorporato perché oltretutto si esprime in un linguaggio del corpo nel senturel abbiamo sentito il sacro il profano e anche la nostalgia per la strada bianca non abbiamo più le strade bianche purtroppo questa è una frase importantissima io vivo in un paese di strade bianche non ci rassegniamo perché le strade bianche possono tornare come può tornare una certa navigazione in laguna e con Saverio Pastor ne siamo convinti che che possa tornare a rafforzarsi la laguna delle barche con i reni e quindi quando lui il nostro narratore del senturel ci dice la mia medaglia olimpica se io devo scegliere fra la medaglia olimpica e il senturel cerco il senturel ci sta dando una grandissima lezione di appartenenza culturale le pagine sono tante quindi credo che dovrò fare molto molto veloce però ecco alcune frasi sono davvero troppo belle per non condividerle la vita è fatta anche di cose semplici cosa pensate che questo non sia importante da trasmettere ai nostri bambini che vivono i nostri ragazzi che vivono nella corsa all'acquisto e al fatto che senza l'oggetto il possesso di quel gioco che i genitori devono impegnarsi per comprare investendo risorse non hanno più perdono la capacità di vivere e di accontentarsi delle cose semplici questa è una grandissima lezione ed è anche una lezione di antropologia oltre a essere una lezione di morale di etica facciamo giocare anche con le persone che passano per caso e anche con i disabili ecco poter far giocare anche con le persone che passano per caso anche qui siamo in questo grandissimo tema dell'apertura e dell'inclusione che ci permette il gioco tradizionale e infine i contesti quante volte sono tornate le osterie ma le osterie nella loro accezione più positiva perché noi sappiamo che non è un'osteria il bar fighetto che si chiama osteria ma è l'osteria quella in cui ognuno si sente se stesso in Toscana le osterie sono i luoghi in cui davvero fra signore e mezzadro diciamo in quel luogo lì non c'è la differenza perché è molta politica è buona politica nasce anche in quei momenti e da quei luoghi e poi questo girare e viaggiare con i giochi l'abbiamo portato a Venezia qua eravamo nelle spacere questo portare il gioco al di là dei suoi confini l'abbiamo portato e quindi questo tema delle reti vedete come il portare il proprio gioco in altri contesti rafforza il gioco localmente ma rafforza una consapevolezza che io chiamerei planetaria del valore delle nostre tradizioni il Veneto è terra dei fiumi anche questo è una verità incredibile che è stata che ci è stata portata da Fabio Daniele e francamente a volte si rischia di dimenticarsi le cose più vicine questa riviera del Brenta questi fiumi il presidente dell'associazione giochi antichi viene dal bordo dell'Adige da Pescantina e questi fiumi che insomma che devono ricominciare a parlare i tanti linguaggi che sono stati dimenticati e quindi ecco il tiro del burcio il Tovegna il Covid che ha salvato il gioco perché? perché ci siamo fermati e abbiamo visto che il vicino aveva tanto valore che probabilmente ci stavamo dimenticando quindi siamo stati fermi e un gioco come quello del Tovegna viene rafforzato da questo tornare del vicino e abbiamo visto apparire io nel mio contesto a Siena un sacco di attività anche ludiche di strada che non c'erano che non si vedevano più nel periodo del Covid e poi ecco il gioco che va trovato il gioco che va giocato per strada allora qui siamo sempre nel Tovegna quindi finestre balconi gronde allora uno può dire ma come sono i danni no? ecco dietro a casa mia nel gioco il gioco della palla E è un gioco che permette proprio alla popolazione di vivere riconoscendo e riconquistando il proprio ambiente anche attraverso il danno perché anche qua quando si parla di coraggio abbiamo talmente paura di vivere di incidere sull'ambiente e nel paese di Ciciano si è creata un'alleanza proprio forte per cui nessuno si lamenta se un vetro è rotto perché l'associazione poi si incarica di sostituirlo ecco vedete che c'è proprio un cambiamento di mentalità che è in marcia le vere autostrade erano i fiumi perché riteniamo che la voga alla Veneta sia un patrimonio internazionale ecco qua secondo me c'è l'apertura di una possibile candidatura a UNESCO di cui si parla anche da un po' di questa voga che penso che sia davvero un elemento importante il lavoro la memoria del lavoro è il gioco che permette a questa memoria di trasmettersi e poi arriviamo al finale e al dibattito che adesso ci aspetta secondo me queste donne forti queste donne oggi siamo a Venezia siamo sulla laguna sono forse il messaggio più forte che abbiamo avuto da Gloria avevamo il territorio avevano il territorio negli occhi e nella pelle ci hanno trasmesso questo forti e sagge queste donne straordinarie che abitavano nelle isole quindi la terra e l'acqua che si mescolano in questa esperienza e quando poi lei ci dice mi hanno dato il coraggio di essere quello che sono capiamo quanto c'è una possibilità davvero culturale pedagogica fortissima che può essere trasmessa attraverso i nostri giochi un'altra frase poi chiudo la bellezza è la conformità del paese la bellezza è quell'unicità di quel paese che però attraverso il gioco viaggia e viaggia anche nell'immaginario ed ecco la televisione che ci porta in piazza che ci ha portato in piazza l'anno scorso e questo gioco è da fare qua questo è molto importante perché se Toccati invita le comunità a giocare a Verona Toccati vive anche nella consapevolezza ed è questo che ci sta portando sempre più a costruire reti dell'importanza di avere davvero i contesti e non solo la pratica ma i contesti culturali in cui quella pratica va inserita ed è per questo motivo che io mi auguro che numerosi campionati mondiali abbiano luogo in ogni paese della nostra Italia e quindi che questi campioni mondiali del mondo si moltiplichino in futuro e ci diano la forza e il coraggio di ritrovare ciò che siamo il coraggio di essere noi stessi e abbiamo adesso queste frasi che vedete lì allo schermo che sono un invito a prendere la parola nel dibattito che cosa vuole raggiungere questo dibattito avete in questa paginetta queste tre prospettive la prospettiva del favorire la conoscenza quella del test delle relazioni quella di costruire insieme uno spazio di ascolto è quello che stiamo facendo oggi ma anche quello di esprimere e proporre nuove idee e nel questionario i bisogni i rischi che sono emersi dalle vostre diciamo sono anche abbastanza comuni una cosa fondamentale è come fare innamorare i giovani come possono i giovani tornare a fare attività che sono state diciamo spesso insomma trascurate o abbandonate questa è una cosa importantissima è sicuramente un bisogno che moltissimi penso a Boselli ma a molti altri come come fare quindi come e queste sono risposte che dobbiamo che dobbiamo trovare insieme una cosa un'altra cosa importante come educare le nostre amministrazioni le nostre istituzioni qui siamo ospiti di una sovrintendenza quindi siamo in qualche modo ospite delle nostre istituzioni dei nostri ministeri abbiamo trovato istituzioni in ascolto le abbiamo cercate e le abbiamo trovate con Tocati il ministero dei beni culturali che oggi si chiama ministero della cultura questo mi fa molto piacere con Leandro Ventura oggi siamo ospiti della nostra sovrintendenza qui a Venezia abbiamo ascoltato le parole importanti della sovrintendente Emanuela abbiamo quindi la come dirvi il dovere la responsabilità di considerare le nostre istituzioni come dei partner dei partner di un percorso dobbiamo crederci anche stavolta è estremamente difficile molto difficile perché gli stessi funzionari vi diranno che non hanno la libertà di poter realizzare quello che vorrebbero ma noi siamo tutti cittadini di una grande comunità e siamo convinti e questo incontro lo prova perché io credo che se qualche anno fa ci avessero detto che avremmo riunito questa comunità di gioco qui al Palazzo Ducale probabilmente ci saremmo guardati e avremmo detto ma forse in un altro e invece è possibile molte cose sono possibili se veramente lo vogliamo e quindi ecco educare insieme a noi le amministrazioni facendole giocare e penso a Perini che va in giro giocando per i paesi del Veneto perché solo giocando e praticando possiamo capire a pieno se sicuramente lei non fosse salita in barca Gloria non avrebbe mai scoperto di essere una vogatrice quindi ecco e questo vale anche per le istituzioni io credo che una grande forza ai toccati è quello di mettere in gioco le persone perché prima di essere funzionario siamo tutti persone siamo stati bambini abbiamo giocato quindi abbiamo una memoria del corpo e quindi ecco questa dell'amministrazione e quindi riconoscimento e sostegno delle amministrazioni quindi ecco sarebbe interessante che ognuno di voi prendesse la parola per dire che cosa si aspetta e poi finire direi ognuno con una riflessione sui valori perché penso che questo sia veramente un filo rosso che ha attraversato quindi io direi di far girare adesso il microfono liberamente poi se volete alzarvi venire c'è già Antonio che è Boselli che si sta come vuoi Antonio il discorso che è molto importante che avevo già sollevato questo appunto delle amministrazioni secondo me io ho avuto mi sono relazionato con nel mio territorio ovviamente e nel nel comune dove vivo che comunque è una città perché siamo 30.000 abitanti è una città quello che ho notato è che c'è molta difficoltà nel trasmettere l'obiettivo dell'associazione ma in generale delle varie associazioni l'ultima volta volevo fare un esempio che mi sono confrontato col sindaco e con gli assessori mi sono accorto che praticamente loro riconoscono una qualità importantissima delle associazioni perché le associazioni mettono assieme la popolazione i gruppi quindi sia a livello sportivo ludico anche come attività noi siamo sul lago quindi la vela cioè ci sono una miriade di associazioni ma allo stesso tempo è come se le guardassero da fuori senza entrare nel merito quindi fanno i complimenti sulla gestione su tutto quello che è però ne restano fuori invece no cioè l'amministrazione certo che è comodo avere le associazioni che si occupano di tutte queste cose però le devono valorizzare perché è questo che manca cioè valorizzare le associazioni i sacrifici legati al volontariato valorizzarle difenderle anche cioè quando noi dicono sì fatevi sentire sì ma un'associazione di voga deve accudire i propri mezzi i veicoli le barche portare avanti insegnare quindi io sono un imprenditore quindi ho da lavorare da portare avanti la mia famiglia ho due figli e poi devo accudire le barche accudire il posto dove c'è la sede dell'associazione insegnare ai nuovi alle nuove leve ai nuovi rematori devo eh relazionarmi con l'amministrazione tenere i conti il conto bancario e in più praticamente dovrei anche eh gestire i social la comunicazione sì ma è impossibile difatti anche l'ultima volta io ho detto ma perché all'interno del comune magari c'è una figura preposta però io non l'ho conosciuta mai cioè dovrebbe esserci una persona che si relaziona con le associazioni perché credo che tra l'altro ci dovrebbe essere secondo me cioè c'è una persona che dovrebbe avere questo ruolo ma confrontarsi nel sentire quali sono le necessità aiutare dove serve e poi far valere il vanto di avere queste associazioni cioè se all'interno di un comune ci sono questi venti disperati che portano la bandiera del proprio comune in giro per il lago e per il territorio cioè diamogli valore quindi valorizzarli in in piazza anche per esempio cioè con con raffigurazioni con stampe cioè arrivi al cittadino ma il cittadino vede che il comune in prima persona difende queste associazioni quindi le porta avanti perché sono giuste perché è giusto che ci siano perché portano via i giovani dalla strada evitano che ci siano come da noi adesso in questo periodo che ci sono è un macello di rappresaglie di liti lotte tra i ragazzi cioè il fatto che ci siano le associazioni porta i giovani ad avvicinarsi a dei valori fondamentali che è il valore dello stare insieme del sudare insieme cioè di lavorare assieme cioè gli si insegna un sacco di cose quindi secondo me prima ho voluto parlare solo di quello lasciando da parte un attimo quello che è lo sport e la nostra attività perché è una grossa lacuna che c'è e che vedo che può precludere l'esistenza della nostra attività e quindi la vedo molto preoccupante come dicevi anche tu perché poi alla fine se sparisce sparisce come diceva lui cioè dell'altra attività che sta scomparendo quindi secondo me fondamentale adesso è proprio quello di sensibilizzare voi lo state facendo e quindi è una cosa che io apprezzo moltissimo secondo me fondamentale tutti lo dobbiamo fare se ci teniamo veramente alle nostre attività e probabilmente entrare a riuscire a sensibilizzare le amministrazioni non da soli quindi insieme ad altri questo io lo vedo un problema grande perché uno dice ma sì ma puoi coinvolgere i giovani basta che vai nelle scuole basta che no non è così perché lo giovane ti vede come un fenomeno che segue uno sport vecchio e quindi non ti vede come una cosa attrattiva ma ti vede come una cosa che non gli interessa ma se invece viene portata avanti la tradizione con informazioni con i social del comune con raffigurazioni con tutto quello che è il materiale che il comune ha cioè tra l'altro i fondi li hanno non è che non li hanno i fondi ci sono non è un problema di soldi l'ultima volta il sindaco mi ha detto no no ma i soldi ce n'è finché vuoi ho capito ma dice no ma il problema è portare avanti gli obiettivi no ci dovrebbe essere secondo me un ufficio una persona dove le associazioni si possono relazionare proprio per questi obiettivi grazie grazie mille grazie mille interessantissimo allora raccogliamo tutte queste testimonianze vediamo se qualcun altro vuole prendere la parola come vuoi Antonella come vuoi si può girare può girare si si ah perché lui deve no vieni qua perché lui sta registrando ah giusto giusto perché stiamo così abbiamo tutto registrato la memoria del il nostro contesto ovviamente è molto diverso perché noi ci rifacciamo a una festa religiosa per noi forse è la burocrazia che spezza un po' le gambe noi abbiamo per fortuna un presidente coraggioso e un po' matto secondo me perché se no dopo gli attentati che ci sono stati e quindi tutte le forme di rafforzamento per la sicurezza e le richieste anche per fare una festa di paese perché poi il gioco si svolge durante quei tre giorni di festa lì e tanti da quando appunto sono successe cioè queste norme burocratiche si sono fatte sempre più stringenti difficili hanno mollato tantissime sagre non vengono più svolte noi io lo dico il nostro presidente è un po' pazzo perché a questo punto bisogna essere anche un po' matti per prendersi la responsabilità per organizzare un evento e quindi per noi poi di portare avanti questa tradizione non è qui poi adesso mi viene in mente questo dopo se mi viene in mente qualcun altro grazie grazie ci abbiamo come si chiama non mi ricordo scusate se riprendo ancora le parole dei miei predecessori qui io parlo proprio di burocrazia perché vi porto un esempio come vi ho detto prima noi da Treviso abbiamo portato il campo e le spaccere a Venezia beh a Noale abbiamo costruito noi come associazione sul territorio di Noale abbiamo costruito il campo e lì ci abbiamo messo dei soldi di tasca propria dopodiché dopo alcuni anni il comune si è appropriato perché ovviamente è territorio comunale ma non ci ha ringraziato per aver costruito una struttura che aggregava i ragazzi ma ci ha messo un affitto ci ha costretto a pagare un affitto cioè a un certo punto noi per andare a allenarci per andare a giocare dovevamo pagare un affitto su un campo su una struttura costruita da noi dopodiché noi ci siamo un po' stancati e siamo abbiamo emigrato siamo andati a Martellago abbiamo trovato un sindaco che capisce la situazione ci ha concesso lo spazio anche lì abbiamo costruito una struttura a nostre spese però lì la burocrazia è intervenuta perché tra sindaco cioè tra politica e uffici comunali non c'è niente da fare allora il sindaco ci dice beh voi avete impiegato dei soldi questa struttura ve la do in gestione per dieci anni è intervenuta le uffici e dicono no non si può perché non è consentito allora io rischio noi rischiamo fra un po' quella struttura anche lì di pagare un affitto ecco queste sono le cose che secondo me la politica la regione o chi per essa deve intervenire nei comuni grazie grazie a te hai toccato anche tu un tema direi importantissimo ma tutti e tre gli interventi sì assolutamente tra l'altro eccoci mettiamo anche uno che è amministratore tra l'altro la doppia veste di giocatore amministratore quindi si può dare le domande e dare le risposte sì davvero ho la tripla veste perché tra senturel amministratore poi anche ho fondato la Proloco sono anche vicepresidente della Proloco per me ecco sulla Proloco è una è una io litigo con gli amministrati con te stesso scommesso no perché purtroppo la parte la parte politica è anche quella che concede ma è ben detto no c'è il sindaco che concede e poi c'è il segretario comunale o la parte amministrativa che non concede perché abbiamo delle regole che sono impressionanti noi per organizzare adesso io ho organizzato dei mercatini a San Zero di Montagna come Proloco meno male che è andato via con l'altro presidente perché sennò mi faceva diventare armato io ho organizzato è finita lì cosa sto lì a fare cioè se devo fare un piano di sicurezza il protocollo coppia queste cose qua la SUAP io come minimo devo prendermi un tecnico che mi ha detto solo queste cose qua cioè siamo arrivati al limite le saghe vanno perse i senturelli io non faccio niente andiamo giochiamo cioè allora o non fai niente perché si inizia a fare poi ti bombardano e purtroppo dopo il cittadino non va dal tecnico comunale va dal politico poi ci rimettiamo sempre noi anche per per decisioni che invece sono sono fatte dalla burocrazia perciò veramente bisognerebbe fare pressione su su chi dovere sulla regione ma soprattutto su sui ministeri competenti per per sburocratizzare un po' un po' almeno la burocrazia in termini di materia di sicurezza di SUAP e i protocolli genici se no le SAR non le fa più nessuno neanche strutturate come le proloco non riescono a fare e poi dobbiamo andare tutto in gestione fuori e lì vivono vivono altra gente non vive la comunità locale grazie grazie e anche questo penso che sia un altro punto importantissimo che tra l'altro noi come associazione poi cercheremo di dare alcune risposte sì suggerimenti insomma più che altro o anche insieme di costruzione risposte come linee di lavoro comune in questo senso Maurizio Ugliana parche tradizionali venete dunque io parlo nella doppia veste se vogliamo di un'associazione che sta gestendo un museo comunale quindi certamente non posso dire nulla contro l'amministrazione comunale battaglia a terme anzi dall'altra parte però certamente ho una ormai lunga perché l'età mi porta a dire questo esperienza di rapporti con le amministrazioni soprattutto perché noi che fruiamo del contesto fluviale dell'acqua il contesto è pubblico noi abbiamo le barche navighiamo o abbiamo bisogno di imbarcarci di sbarcare di mettere in secca di fare quindi il ragionamento generale ripeto poi dopo nei casi specifici a volte sono patologie negative altre volte invece troviamo una generosità spettacolare però in generale mi associo a quello che ha detto Antonio cioè bisognerebbe riuscire a far entrare nella testa collettiva perché non dimentichiamo che i politici sono lo specchio di chi vota e le amministrazioni la parte burocratica è lo specchio della legislazione fatta da chi è stato votato eccetera quindi gira e rigira siamo un po' tutti cioè è la società insomma che è coinvolta se se alla società piace la carta da dieci documenti per per una pratica cioè c'è poco da fare se no questo prevale e certamente diceva Antonio prima ci vorrebbe l'assunzione in casi come questi che che sia direttamente l'ente pubblico a gestire la parte burocratica a me è capitato di da un lato fare delle iniziative dove era il comune che le faceva quindi io proprio si può dire ho solo messo l'aspetto organizzativo io diciamo negli anni ho collaborato con varie amministrazioni di vari comuni di provincia regione varie quindi a volte era l'amministrazione che si prendeva carico dell'organizzazione il logo era suo cioè a me bastava semplicemente che venisse fatta l'iniziativa diciamo altre volte invece appunto dove venivamo coinvolti sì cioè c'era l'autorizzazione cioè l'idea era ok facciamolo ma dovete fare questo questo con l'altro ti mette in contatto con l'ente X con l'ufficio Y eccetera quindi un percorso a ostacoli spettacolari fino ad arrivare ai casi ancora più eclatanti per cui è un gioco di rimbalzo da un ufficio all'altro e poi ti senti dire ma tanto nessuno vi manda via tanto nessuno vi verrà a dire qualcosa e si fanno le cose senza averne anche un pezzo di carta diciamo tra virgolette quindi via molto di fatto ecco quindi è una questione probabilmente culturale nostra siamo propensi alla burocrazia diciamo anche perché è un'arma a doppio taglio cioè ti posso per gli amici le interpretano per i nemici la applico si diceva così della norma ultimo dettaglio io da un bel po' di tempo sono dell'avviso che i soldi io non ne voglio cerco di non averli perché chiedere contributi anche qui ti esponi all'arma io preferisco servizi datemi la possibilità cioè facilitatemi non non so se ho reso l'idea so che non è semplice ragionare così ma quelle quelle questioni legate di agevolazione con i soldi ho visto alla fine anche perché adesso i soldi sono sempre meno quindi si rischia se si rimane legati ai soldi per far qualcosa ho bisogno di continuare no i soldi mi li vado a cercare cercando di coinvolgere sponsor che ne so cioè mi invento qualcosa anche commercialmente al limite faccio pagare qualcosa perché credo che se le nostre cose sono di valore il valore lo si riconosce anche attraverso anche il pagamento insomma il riconoscimento del pagamento noi al museo per esempio siamo riusciti a far passare nel tempo il fatto che si paghi prima era gratis e abbiamo visto i risultati però i giovani non restavano al museo ci siamo trovati siamo partiti con un museo che stava per essere chiuso perché non c'era una struttura non c'era chi potesse seguire poi i visitatori i vecchi barcari volontari gratis iniziavano a avere oltre 80 anni quindi ricoveri ospedali malesseri e quindi però non c'era adesso riusciamo per dire covid per carità è una parentesi siamo riusciti a creare un volano un piccolo volano economico tale per cui abbiamo un giro di una decina di giovani guide collaborativi eccetera che che riescono ad avere un contributo insomma in proporzione al lavoro che fanno cioè un contributo una corrispondizione di stipendi quindi ecco ci sono queste tematiche secondo me che vanno di pari passo al valore poi della proposta culturale che si porta avanti grazie grazie Maurizio altro contributo ovviamente tocca il tema anche del finanziamento tocca il tema della sostenibilità economica ci sono altri interventi ancora viva le donne ci mancherebbe anche mi sembrava che altri interventi sì non c'erano altri interventi un'altra cosa che forse esula un pochino da questo però secondo me le amministrazioni dovrebbero avvicinarsi di più anche al cittadino e ai bambini cioè qua parliamo di giochi gli spazi dove giocare io mi sento una privilegiata perché vivo in campagna e ho tre bambini molto piccoli e li posso portare a giocare però se dovesse portarli a giocare nel parco giochi comunale o comunque cercare uno spazio dove non dico di farli giocare a zugo dell'uovo però in qualsiasi altro spazio oramai è veramente difficile quindi anche portare avanti lo stesso tradizione che ne so del gioco del fazzoletto qualsiasi tipo di gioco cioè degli spazi dove far giocare questi bambini che siano anche aperti perché tante volte ci sono tante polisportive o o altri spazi e poi tu arrivi lì ed è chiuso perché hanno paura che vengano rotti vengano vandalizzati noi abbiamo avuto in questo noi siamo a Sezzano 300 anime abbiamo avuto mettere il lucchetto al parco giochi perché ci avevano messo la panca e hanno detto se non le curate portiamo via tutto quindi sempre chiudere sempre dover chiudere forse sarebbe il caso anche di aprire e di dare la possibilità perché mi sembra anche che io ho 40 e passanni ma chi ne ha qualcuno di più che si dimentichi di quando era bambino e di come era bello anche giocare tutti insieme perché purtroppo in città non è così quindi di creare spazi l'oratorio oramai non esiste praticamente più come parlavi prima dell'oratorio comunque e quindi deve essere l'amministrazione comunale che deve intervenire perché ormai l'appoggio anche del parroco della zona c'è e non c'è quindi insomma di aprire e dare e concedere spazi grazie so che c'è tra l'altro una voce nuova amica Saverio Pastor dell'associazione Il Felze che è associazione per la difesa della tradizione di costruzione delle gondole di Venezia e prima si parlava ovviamente degli artigiani si parlava di costruzione delle forcole e qui ne abbiamo un esempio insomma alto allora buonasera non volevo intervenire e poi gloria mi ha dato una peata no perché sentendo la voce cristallina di Valentina mi sono venute in mente il convegno che avevamo fatto a Verona l'anno scorso un anno fa dove appunto dicevo ma porco cane qua sento parlare c'era il dottor Trovò c'era Perini c'era si era parlato di varie esperienze insomma avevo detto qua ognuno ci mette il cuore le sue competenze e con con però una una sua logica no e dei suoi limiti e quindi tanti registri di discorsivi tanti programmi concettuali tanti punti di incontro ma poi ognuno va per la sua strada e alla fine non si riesce ecco e oggi sentivo mi sono tornato con le parole e sentendo anche gli amici che hanno parlato adesso e mi pare che ci ritroviamo più o meno con questo tipo di problemi di una difficoltà a mettere insieme le buone intenzioni e convogliarle in progetti concreti di recupero di riscatto di trasformazione di questi giochi in valori culturali da promuovere portare avanti la voga è la nostra identità primaria la città di Danese è nata grazie a quei quei primi coloni di una laguna in ospitale che vogando hanno cominciato a portare legname fango pietre argilla e hanno costruito quello che ci sta intorno ecco e solo che appunto ci ritroviamo poi a scontrarci con la realtà e la realtà è questa come dicevo un'altra volta è questa che si vede qua fuori cioè di di barconi e motoscaffi adesso col covid si è un po' calmata la situazione ma c'è questo impeto che impedisce di di ragionare forse e di pensare che per esempio la mobilità a Venezia è il primo problema più grosso e invece di porre questa possibilità come un riscatto possibile cioè mettere sul campo progettualità idee per una mobilità sull'acqua sostenibile e moderna anche non si stiamo pensando di vogare tutti per il resto e trasportare turisti e merci a remi per forza ci sono fior di ingegneri fior di idro dinamici e guarda le regate sui foil no perché non facciamo diventare questa città la capitale del trasporto sull'acqua sull'acqua più moderno e competitivo facciamo venire qua ingegneri chiamiamo gente a vivere qua perché senza abitanti questa città sta morendo ecco e allora sì la politica deve fare chi può realmente fare le cose è il livello politico purtroppo noi abbiamo una politica che invece attualmente pensa ad altro e su per esempio su una bega di una regata una sciocchezza alla fine ma forse anche no anche forse una cosa importante siamo quattro gatti ne tiene fuori due tre su quattro perché hanno avuto un momento di testosterone che batteva in testa ecco allora la politica deve essere deve spingere deve trovare i finanziamenti deve convogliare le buone intenzioni e dare la possibilità agli antropologi alle soprintendenze agli architetti e poi anche agli artigiani e poi alle associazioni di esprimere al massimo le loro le loro potenzialità se no fra un anno ci ritroviamo ancora con queste buone intenzioni e senza sapere però se fra un anno ci rivedremo ancora grazie Saverio sì Zivelonghi della Morra allora ascoltando anche interventi prima e di stamattina mi piacerebbe porre l'attenzione sulla spontaneità del gioco perché secondo me il gioco tradizionale deve essere deve restare spontaneo le occasioni di gioco si devono creare dal nulla non devo giocare a strutture se ho fatto domande specifiche un mese prima non dovrei chiudere le strade chissà quanto tempo prima se devo fare il gioco in piazza ok ovviamente è contemperato però deve essere spontaneo deve essere favorita questa cosa dalle amministrazioni se dobbiamo chiedere qualcosa alle amministrazioni ma siamo noi per primi ad esempio ovviamente nella federazione italiana dei giochi tradizionali ci stiamo confrontando sul fatto l'amor ha vietato o no facciamo giocare solo i tesserati dicono non è un problema i tesserati possono giocare ma non tutti si vogliono tesserare nel momento che ti metti un'organizzazione così io parlo anche al mio paese io lo posso capire qualche altro giovane della mia età ma le persone un po' più su e dopo si perde quella spontaneità nell'organizzazione è come per dire se oggi per giocare a calcio o qualsiasi sport devi andare dentro nell'associazione sportiva dentro nel campo come detto che i campi poi sono chiusi perché poi le associazioni hanno delle responsabilità non è che lo fanno perché io sono dirigente di società quindi lo so ma i bambini è bello che giochino sì se vogliono in un'associazione sportiva ma devono poter trovarsi al campetto da soli alla sera a giocare dovrebbero questo secondo me questo va se guardato però siamo forse noi per prime che vogliamo un po' inquadrarli dopo è ovvio che se io devo giocare a mora con un sardo o con un laziale devo trovare un punto di incontro qualche regola me la dovrò pur dare perché sennò non possiamo giocare perché loro giocano in piedi io seduto loro parlano che io non capisco e quindi o parliamo in italiano o non c'è niente da fare se non si gioca insieme non si può fare però dato questo che è dato proprio il gioco il resto dovrebbe essere disorganizzato c'è un senso spontaneo secondo me e questa dimensione che era una volta andemosò a giugare a palotta non è che sia uguale a noi e sparecchi il tavolo dai che facciamo due punti o sei lì ti saluti e lanci tre punti secondo me questa cosa dobbiamo tutelarla non so ovvio che se bisogna chiudere una piazza il giorno d'oggi non è che posso mettermi lì due transenne in barba tutti però dovrebbe essere un po' più snella un po' più spontanea perché anche noi organizziamo i tornei però il torneo deve essere una volta all'anno due volte all'anno il bello è giocare sul bar il sabato pomeriggio che ci siano persone che giocano che ci si trova che viene voglia anche quello che passa da lì a quel momento di imparare di giocare abbiamo fatto al Tocatimi mi ricordo tre anni fa c'erano due ragazzi cicoslovacchi e ci hanno sentito gridare si sono fermati erano solari erano e abbiamo giocato in inglese e questi ragazzi ridevano perché non riuscivano a entrare nella logica del gioco chiamavano e si sono divertiti tantissimo per dire passavano di lì questo questo deve essere un po' il gioco tutti i giochi che ho sentito sono un po' così grazie grazie anche perché ci dai un altro spunto importante sul tema ovviamente della libertà del gioco la spontaneità è il tema della libertà che è uno degli elementi fondamentali direi proprio valoriali allora io ho ascoltato ovviamente con grande interesse anche perché gli argomenti sono i nostri argomenti faccio un piccolo preambolo rispetto a quello che è stato detto prima di cominciare ad esprimere ognuno le nostre esigenze una cosa che mi ha colpito ma non poteva essere diversamente è che molte attività molte pratiche ludiche tradizionali come le chiamiamo lasciando perdere il gioco e lo sport quindi indipendentemente da come viene gestito sono comunque pratiche si fanno derivare da lavori abbiamo avuto i tiranti dei burci piuttosto che altre altre situazioni e moltissime ma è una caratteristica della pratica tradizionale quella di derivare da lavori che adesso si sono trasformati e il fatto e questo fatto può essere legato per esempio un altro argomento che è uscito la mancanza di spazi di gioco perché era molto più semplice giocare quando era finito il lavoro e continuare in maniera ludica la stessa attività adesso questi lavori non ci sono più non ci sono più e si è fatto un passo di lato non in avanti o indietro un passo di lato e quindi questo è un argomento di discussione la settimana scorsa io insieme con Valentina eravamo siamo stati chiamati in Val Sabbia Antonio probabilmente conosce la zona poi Valentina non è riuscita a venire all'ultimo momento ma siamo stati chiamati dai giocatori di palla elastica anche Antonella conosce bene l'attività perché perché hanno questi problemi di cui stiamo discutendo noi non sono problemi che abbiamo noi solamente sono problemi che tutte quante le realtà che si occupano di queste pratiche hanno sostanzialmente e allora avendo fatto un progetto sulla regione Lombardia ormai due anni consecutivamente ci hanno individuato come una realtà che può mettere in relazione le istituzioni con le realtà di gioco e ci hanno chiamato a discutere di questo problema l'abbiamo discusso insieme con due sindaci e con un consigliere regionale che anche se era della zona era assolutamente all'oscuro di quel dei problemi che del gioco prima di tutto e delle situazioni che ne derivavano dei problemi che ne derivavano perché dico questo perché come ho detto i problemi di cui stiamo discutendo noi non sono solamente problemi nostri al di là del fatto che poi chi pratica in acqua abbia delle specificità rispetto ad altri ma sono comunque problemi che tutti abbiamo e perché allora noi ci troviamo qui entrando poi sull'argomento proprio perché probabilmente noi pensiamo se riusciamo a strutturare un'organizzazione una rete che abbia presente questi questi problemi e che si ponga come rete nei confronti delle istituzioni Antonio prima diceva ma possibile che all'interno di un comune come Desenzano non ci sia qualcuno che si occupa delle associazioni e del volontariato sicuramente c'è ma un problema che di cui noi ci troviamo che ci troviamo ad affrontare sempre è che come volontariato vengono considerate altre organizzazioni organizzazioni che si occupano di assistenza per esempio e non veniamo considerati come volontari quindi anche lì ci sono dei meccanismi contorti per cui noi facciamo fatica ad essere considerati volontari cosa che non è perché tutti noi siamo volontari però è uno dei problemi da far capire allora noi diciamo noi pensiamo che operazioni di questo tipo potrebbero essere risolte o comunque messe in discussione se insieme con noi parliamo le nostre organizzazioni potessimo avere al nostro fianco le istituzioni che non sono le istituzioni comunali ma sono le istituzioni regionali quindi con una come dire un'operazione a tenaglia no noi dal basso le istituzioni regionali dall'alto far capire le esigenze che noi abbiamo e questo questo è un po' il motivo della nostra presenza qui ed è anche è quello che ho detto la settimana scorsa in Val Sabbia dicendo noi domenica prossima sabato prossimo siamo a Venezia a discutere di questo a discutere della possibilità di una formalizzazione di una struttura di rete sarebbe estremamente interessante riportare su altre regioni la stessa la stessa idea e io penso senza nulla togliere ad altre regioni se regioni come Lombardia e Veneto cominciassero di traprendere un'operazione di questo tipo sarebbe molto più facile anche per altre regioni fino ad arrivare ad una rete nazionale questo questo è un po' il ragionamento che ci siamo fatti e che abbiamo di cui abbiamo parlato con alcuni di voi in altre situazioni e con l'aiuto della regione abbiamo voluto portare alla vostra attenzione è certo che sì non è una cosa domanno la femomia domanno la femomia è Saberio ci vuole tempo è un passo dopo l'altro sì ci vuole tempo ma non troppo perché noi non abbiamo un tempo illimitato come umani ci vuole tempo ma non troppo perché concludo noi siamo qui in rappresentanza di una quindecina di organizzazioni di vario genere ma altre 4-5 organizzazioni che avrebbero dovuto essere qui non ci sono e purtroppo non ci sono per i motivi che abbiamo poi discusso questa mattina sì io l'integrazione di quello che ha detto chiaramente Paolo penso che anche da quanto emerso poi negli ultimi oltre alle presentazioni negli ultimi interventi di suggerimenti di problematicità di città vogliamo portare un esperimento nostro cittadino perché poi bisogna andare sul concreto anche nelle proposte dico circa una decina d'anni fa anzi 12 anni fa nella città di Verona un gruppo di cittadini chiaramente sensibilizzati un po' di quello che stava facendo l'associazione a vario livello lo scianco ma anche il toccatini ha chiesto la propria circoscrizione in città di Verona divisa in circoscrizioni ha chiesto una circoscrizione tra l'altro popolare e popolosa di 35.000 abitanti quindi insomma su una 260.000 che fa la città ha chiesto di chiudere una strada per il gioco ha chiesto un nostro supporto perché qui entravi nel tema delle norme cioè quindi tocchiamo il tema degli spazi aperti spontaneità il gioco la vera fianco le istituzioni cosa è successo è successo che noi abbiamo detto volentieri conosciamo anche alcuni elementi assolutamente di valore l'unica cosa è che abbiamo chiesto espressamente anzi due cose una che fosse dedicata una strada al gioco cioè non al gioco dello scianco piuttosto che al gioco del tamburello o di qualsiasi gioco la seconda cosa è che questo spazio non venisse chiuso cioè come un parco giochi ma rimanesse aperto e quindi abbiamo suggerito di fare una perimetrazione colorata a terra in una strada di passaggio di traffico ed è anche di area mercatale durante la settimana il classico mercato rionale abbiamo chiesto andava benissimo la permanenza del mercato rionale perché è elemento di socialità quindi per noi è vita sono stati apportati solo dei cartelli che con divieto di passaggio è strada non era un giardino non era una piazzetta no no era proprio strada abbiamo inciso sul tema della norma perché questo è quello che noi tutti chiediamo a vario titolo a incidere sul tema della norma e sul tema della consapevolezza del valore che ognuno di noi ha per il territorio in questo caso era il gioco libero e aperto poi potremmo fare anche altri esempi bene da 12 anni c'è uno spazio in cui i cittadini di quel quartiere vanno a vario titolo liberamente a giocare quando qualche cittadino per Enemoti adesso non entro nei dettagli perché i tempi sono corpi però hanno contestato perché c'era quello che giocava col gioco rumoroso quell'altro perché non mi è simpatico chi gioca lì quell'altro perché ma io devo passare di qua bene siccome c'era una norma quindi dobbiamo vederla dall'altro punto di vista l'istituzione del caso il burocrate scusate in termini di eccezione negativa o il funzionario umano anch'esso ha detto io mi stengo la norma questi possono giocare passata la norma non posso cambiarlo ma non solo la politica cioè i rappresentanti il presidente della circoscrizione i consiglieri non si sono azzardati ci hanno chiamato a dire ma potremmo fare modificare noi ma è i cittadini che lo decidono ma non il cittadino perché è tuo amico della tua bandiera politica o dell'altra fazione no non è stato toccato nulla perché perché ha il gioco e noi dobbiamo essere consapevoli è tra e voglio dire è un valore universale questa è una diciamo una chiave non mi piace usare il termine arma una chiave fortissima che i cittadini hanno in mano tutti si sentono appartenenti al gioco qui probabilmente dentro questa stanza come giusto che sia abbiamo visioni diverse del mondo politiche non so se religiose laiche o meno non importa siamo accomunati tutti dal gioco e dal valore che lui porta in sé anche rispetto ai nostri territori in quel caso la politica e le istituzioni anche i tecnici che ricordiamo assumono ogni giorno responsabilità nelle azioni che fanno rispondendo a delle norme che possono metterli in difficoltà si sono sentiti legittimati a far sì che quello spazio rimanesse uno spazio libero spontaneo dove ci sono gli skater che di gioco tradizionale non hanno niente ma va bene così che giocano a fianco ai signori del tamburello a quelli dello scianco o ai bambini che giocano a pallone dove vediamo adesso sempre più spesso cartelli che dicono in piazza qui è vietato giocare a pallone ok quindi il tanto amato calcio italico questi sono piccoli segni perché quei segni li danno fiducia ai cittadini che le politiche in realtà non sono sempre contro di loro ma sono anche per loro e qui introduciamo un altro tema Paolo ha parlato noi ringraziamo Sandro Perini che non sempre le persone dentro le istituzioni stanno tutta una giornata seduti in ascolto di poter andare in regione con ovviamente da territori diversi quindi con punti di vista diversi a cominciare a dialogare non solo con la regione ma oggi perché abbiamo chiesto al ministero e all'istituto centrale patrimoni materiali di essere fare non un saluto a Leandro Ventura francamente adesso dei politici non c'è più nessuno se non qualcuno che ha la triplice veste ma è più giocatore più giocatore no a noi francamente vabbè se devono fare discorsini per fare la politica ci interessa fino a domani mattina ma perché l'obiettivo è quello che il livello alto nazionale regionale e le amministrazioni comunali capiscono che loro hanno un'opportunità attraverso di noi per essere più vicini ai cittadini e in piccolissime azioni cambiando anche le norme basta poco costruiscono e rafforzano il senso di comunità al di là della loro appartenenza voglio dire visione del mondo e qui lascio la parola alla Vale perché c'è anche un altro elemento politico perché qui si è la politica alta non la partitica la politica alta che è tutta la dimensione UNESCO dove le politiche ci sono giusto Vale esatto ma infatti questo è un tema fondamentale sono stati trattati e affrontati alcune questioni fondamentali si deve agire a diversi livelli è chiaro che questa convenzione dell'UNESCO ci ha dato e con Saverio anche negli anni passati abbiamo lavorato tanto anche qui a Venezia un'opportunità molto importante per cambiare le politiche cambiare anche le politiche culturali in dialogo con le istituzioni il fatto che siamo qui oggi non è una cosa da poco non è sufficiente non è assolutamente sufficiente ma è l'apertura di uno spazio perché perché proprio il discorso che diceva Paolo cioè la regione cioè il livello alto diciamo così regionale che poi si incontra con il livello associativo quindi come fare in modo che noi sappiamo benissimo che il vero lavoro si deve fare a livello locale cioè il vero lavoro è quello che unisce l'amministrazione comunale con le associazioni con gli artigianati e che a quel punto porta allo scatto cioè il cambiamento allora l'UNESCO ci dà la possibilità di diciamo promuovere anche attraverso percorsi di candidatura come quello che stiamo intraprendendo con Tocatì che è un percorso estremamente importante ci dà la possibilità di proporre quelle che nel gergo UNESCO vengono chiamate delle misure di salvaguardia un ambito fondamentale è proprio quello delle normative allora il fatto che siamo diciamo in candidatura attraverso Tocatì ma che altre candidature e qua penso alla voga potrebbero potranno partire nei prossimi tempi che cosa significa significa che si crea un sistema di governance come insomma oggi questa parola di governance è il governo alla fine un sistema di governo di molti livelli che cominciano a dialogare fra di loro ragion per cui ecco l'ufficio UNESCO per esempio del nostro ministero che sta seguendo il dossier Tocatì insieme anche all'istituto l'ufficio UNESCO in particolare per le sue competenze tecniche mette in piedi e qua guardo le perle di vetro tra l'altro che sono dei piani di salvaguardia che sono esattamente pensiamo alla laguna la concretizzazione di un processo allora la cosa importante è che tutti questi livelli si mettano a dialogare fra di loro che cosa sta succedendo in questo momento non solo io sto lavorando in diversi contesti non solo con Tocatì sto lavorando a Cremona con la liuteria che è impegnata in un piano di salvaguardia complicatissimo ed estremamente in un contesto estremamente conflittuale o sto pensando a nuove candidature come quella del patrimonio alimentare ci stiamo rendendo conto che servono e qua penso a Antonio Boselli degli strumenti di comunicazione a livello locale proprio dei kit di comunicazione e credo che la rete di Tocatì dovrà impegnarsi in questo senso che cosa è un kit di comunicazione alla fine sono alcuni powerpoint fondamentali che possono servire alle associazioni locali per fare a livello locale un lavoro di sensibilizzazione delle loro istituzioni naturalmente chiamando anche se è il caso ed ecco quello che è successo a Sabbio Chiese chiamando anche altre associazioni come AGA chiamando Tocatì in modo da chiaramente rafforzare noi facilitatori che ruolo abbiamo abbiamo questo ruolo cioè di far sapere far conoscere tutte le possibilità che ci sono e che sono anche possibilità di cambiare le normative perché per difendere l'informalità e la spontaneità del gioco di cui abbiamo parlato ci vuole un cambiamento cioè quel gioco ed ecco l'esempio della strada del gioco quella possibilità deve essere data ai ragazzi ma ci vuole sia un cambiamento dell'immaginario perché le mamme i papà non devono aver paura devono lasciare liberi i ragazzi si deve entrare anche in un nuovo immaginario perché altrimenti tutto viene bloccato voi lo sapete i ragazzi non li fanno uscire perché hanno paura che si facciano male quindi siamo a dei livelli proprio di handicap fisico tra un pochino se si continua in questo modo quindi disabilità cioè si crea la non abilità ecco l'abilità delle donne evocatrici non può svilupparsi se non sei lasciato libero di agire quindi c'è un lavoro di comunicazione che è fondamentale io credo che noi nei prossimi anni dovremmo farlo capillarmente cioè fornire proprio gli strumenti per cui ognuno poi adatti questi strumenti di comunicazione al proprio contesto e quindi dare una legittimità c'è un altro elemento forte che è quello del mondo associativo voi sapete che l'UNESCO forse non lo sapete dà la possibilità alle associazioni di essere riconosciute ONG associazioni non governative di essere accreditate per la salvaguardia del patrimonio immateriale in Italia l'Unione Nazionale delle Proloco ha fatto questo percorso quindi idealmente ogni Proloco che fa parte dell'UMPI potrebbe avere al proprio interno una persona che si occupa esclusivamente dell'ascolto di quelli che sono i bisogni delle comunità portatrici di tradizioni culturali e del sostegno alle diverse azioni quindi quello che stiamo costruendo è un sistema di questo genere è naturale che purtroppo diciamo ci vuole molto tempo e spesso è una corsa contro il tempo perché noi sappiamo quanto poi queste tradizioni queste conoscenze rischiano di perdersi ed è difficile recuperarle oltre un certo limite quindi è chiaro che l'impegno deve essere massimo ma l'impegno non può prescindere da un fare rete a livello locale quindi se gli artigiani del Fels i vogatori si mettono insieme e cominciano a costruire un sistema toccati da parte sua sta portando avanti un lavoro importantissimo è far capire che cos'è una buona pratica di salvaguardia una buona pratica è quella che parte dal basso quindi parte da Gloria Saverio cioè dai praticanti coloro che sono sul terreno è chiaro che in rete si può raggiungere obiettivi che altrimenti non si riescono a raggiungere in altro modo quindi questo tema della rete regionale è fondamentale e ancora più direi della rete nazionale perché perché ha questa possibilità di entrare in maniera capillare sul territorio con delle attività delle azioni molto pensate su misura alle diverse realtà perché è una scala insomma diciamo più controllabile poi naturalmente noi abbiamo l'internazionale abbiamo la possibilità su alcune giochi pensiamo allo Cianco di chiamare comunità ad altri contesti internazionali attraverso l'UNESCO chiamiamo quest'anno a Tocca T abbiamo i cinque paesi della candidatura con le loro comunità quindi vedete che questa costruzione progressiva non è qualcosa di impossibile perché cinque anni fa non c'era c'era per carità un lavoro enorme fatto da associazione giochi antichi ma di questo a questo livello di costruzione di dialogo con le istituzioni non c'era niente quindi quando nel 2017 abbiamo organizzato la prima giornata riprendendo il manifesto di Aga del 2008 ancora cioè una giornata come questa a Palazzo Ducale non era facilmente immaginabile e questo io insisto nel dirlo perché per darvi la fiducia che poi le cose possono cambiare anche rapidamente cinque anni sono magari anche tanti però sono anche pochi per incidere su certi processi se consideriamo che a tutt'oggi la convenzione è stata ratificata nel 2007 e non abbiamo ancora gli antropologi nelle sovrintendenze quindi voglio dire ecco ce ne abbiamo molto pochi stanno iniziando l'Istituto Centrale per il Patrimogio e Materiale è soltanto un anno quanto è? un anno e mezzo che sono entrati i colleghi a lavorare sul patrimonio e Materiale quindi sono tempi stiamo fondando qualcosa di nuovo questo deve essere chiaro a tutti su delle radici molto antiche stiamo prendendo consapevolezza di questo enorme valore quindi io direi comunicazione rimaniamo davvero collegati in questo impegniamoci a pensare e a continuare a lavorare sui vostri bisogni in altri contesti nelle Alpi stiamo già lavorando a un kit di comunicazione per le comunità locali perché possono fare il lavoro in maniera autonoma e poi naturalmente ci si collega e si continua insieme però ecco questo io penso che se ognuno di noi ha la capacità di organizzare poi a livello locale questi processi la rete esiste per questo no? perché tanti pesciolini messi insieme fanno una frittura fanno una grande forza sì mi veniva anche in mente una cosa sempre cerco di fare esercizi di concretezza prima si parlava del tema dei campi no? cioè io costruisco un campo noale ci raccontavano gli amici delle spacere e dopodiché le norme cosa gli dicono si si tu costruisci il campo lo fai poi io ti devo mettere l'affitto una volta che l'hai fatto perché c'è una rivalutazione e poi addirittura per gestirlo devi andare in gara quasi a volte no? cioè che sono capitate anche cose così adesso non so nello specifico però quindi c'è la norma che sopraffa sostanzialmente o il funzionario che interpreta la norma a volte sopraffa o la norma stessa sopraffa poi lo stato vitale delle nostre realtà e in realtà per esperienze personali dell'associazione intanto vi diciamo una cosa dentro le organizzazioni dentro le istituzioni c'è un livello di discrezionalità che cosa vuol dire? e lo citava prima qualcuno cioè ti dicono sempre non si può fare poi questo può essere usato a seconda delle situazioni se noi questa cosa qui e lo dico davanti a un funzionario d'Operini se noi questa cosa qui la facciamo insieme cioè nel senso portiamo delle istanze con dei progetti specifici all'interno avendo a fianco in primis la regione Veneto e una serie di comuni piccoli o grandi che sia da questo punto di vista per noi il piccolo comune da 500 abitanti al valore tanto quanto di Venezia e Verona come elemento di sperimentazione lì forse c'è una possibilità anche di lavorare su dei tempi più veloci perché noi dopo questa giornata non è che abbiamo voluto fare una bella giornata in un monumento a Venezia cioè certo siamo tutti contenti felici ci siamo presentati però adesso è venuto il tempo di insomma di cominciare ad agire a più piani con la regione dobbiamo identificare dei comuni come dire amici che sono quelli pilota che sono dove voi risiedete voi siete appartenenti di quel territorio per cui ci direte chi sono gli interlocutori il sindaco di Noale piuttosto che di Desenzano e e mi riaggancio a quello che diceva Paolo e anche Valentina e con la forza di un'istituzione come l'UNESCO o di istituzioni come il Ministero o le sovraintendenze andiamo all'interno di questi luoghi a dire e a portare delle esperienze perché a volte tu vai là e gli dici sì ma io ho desiderio e poi questi ti guardano e gli dico sì ho capito hai valore però se cominci gli scusa ma anche qua molto banalmente sì ma guarda l'UNESCO dice questo l'UNESCO del 2003 dice che il gioco e gli sport tradizionali sono patrimonio dell'umanità ok si chiedete il 99% delle istituzioni questo non lo sanno non sanno neanche cosa vuol dire ben immateriali ora noi possiamo anche non saperlo ma tanto li pratichiamo e quindi siamo noi ma loro lo dovrebbero sapere per professione quindi li stiamo facendo un straordinario lavoro di educazione a loro dobbiamo metterli nelle condizioni perché non sempre abbiamo i perini ma non lo dico perché devo sviolinarlo davanti a lui perché è così però di dove e questo è l'eccezionalità di in questo momento trovarci una regione come questa cioè non solo della qualità e della ricchezza del gruppo che c'è ma di avere anche una disponibilità di ascolto e di sperimentare da parte delle istituzioni cominciamo uno a uno sui soggetti vediamo chi inizia prima chi inizia dopo chi dà disponibilità immediata anche a incidere e noi ci siamo ripeto ci faremo probabilmente anche una programmazione perché non è che dobbiamo cioè anche noi siamo umani nel senso che abbiamo un limite e probabilmente possiamo anche vedere di sceglierne due o tre io guardo Perini perché va benissimo che esista un articolo per la legge dello sport ma bisogna dargli gambe bisogna dargli delle gambe a questo articolo di legge che non è solo e sono d'accordo il fatto che vengano messi dei contributi anche perché se c'è da costruire un campo gioco o da cose i fondi piano piano vediamo se ma già il fatto che le istituzioni ci accompagnino anche nelle modifiche delle norme per cui lì dove vi è un'attività di gioco e sport tradizionale riconosciuta vi saranno delle facilitazioni per esempio nell'utilizzo degli spazi che non paghino l'affitto le organizzazioni che portano avanti seriamente quei luoghi quegli spazi perché vengono riconosciuti spazi culturali così come la strada così come la piazza di Sezzano piuttosto che voglio dire l'acqua che viene solcata dai vogatori lì non è che abbiamo la bacchetta magica però lì portiamo su un terreno di concretezza e misuriamo le istituzioni su questo nessuno ci garantisce che le cose arriveranno immediatamente però è un agire tenendo conto che abbiamo un UNESCO che è l'istituzione massima ricordiamolo sono la sezione cultura delle Nazioni Unite che ci può dare degli strumenti per dialogare a livello alto con le istituzioni questo è un elemento che dobbiamo sempre ricordarci quindi la formalizzazione di una rete oggi cioè l'avvio più che una formalizzazione giusto Paolo l'avvio di una rete è un elemento che magari può già nella prima entro un anno cominciare ad identificare ci potete dare voi suggerire nei vostri territori ci avete raccontato dove si potrebbe incidere e noi prestarci a vedere a selezionarne uno o due insieme a voi e farli dei progetti pilota decidiamo che sono due tre situazioni magari anche di formi per caratteristiche certo vediamo quanto anche quanto c'è la disponibilità nell'impegno anche di coloro che poi porteranno avanti con noi questo lavoro una dimensione importantissima è quella dell'educazione e della scuola noi abbiamo iniziato l'anno scorso proprio alle porte in quel famoso convegno che c'è stato prima del lockdown qui sul tema delle generazioni perché sappiamo quanto insomma abbiamo maestre qui con noi il tema della scuola è fondamentale per la trasmissione dei patrimoni viventi allora una possibilità è che in quegli stessi territori in cui si fa questo lavoro con le amministrazioni si faccia un lavoro anche con le scuole quindi l'impegno sarà anche a settembre ottobre di organizzare un incontro con l'assessore per far partire questo progetto pilota per cui alcune comunità ludiche lavoreranno anche con la scuola del loro territorio attraverso un processo di formazione di accompagnamento nel quale potremo entrare anche noi a sostegno e a supporto però vedete che anche questa è un'altra dimensione di cui abbiamo parlato importantissima che non può diciamo adesso è stata procrastinata previa del covid e chiaramente come diceva Giuseppe di altre priorità ma non può essere abbandonata l'abbiamo avviata quasi due anni fa ormai e adesso è il momento sicuramente di riprenderla e quindi ecco anche su questo ci deve essere un impegno quindi l'impegno sarà un po' diciamo globale perché toccherà sia il tema della sensibilizzazione dell'amministrazione dell'evoluzione delle normative dell'uso dei spazi culturali quindi tutto questo che ci stiamo dicendo stamattina e anche il tema delle generazioni della scuola perché oggi la scuola è un luogo fondamentale insomma per la trasmissione delle tradizioni non per niente lo scianco è andato a rivitalizzare e a fare nuovi diciamo adepti nelle scuole del territorio di Verona perché insomma senza i giovani come sappiamo poi quindi anche questo lavoro con le scuole è un lavoro che è impegnativo ci aspetta nel quale voi dovrete avere un ruolo poi è vero che purtroppo ognuno di noi ha tempo limitato lavoro impegni responsabilità ma tutti insieme insomma siamo una una forza notevole poi abbiamo anche anche i più giovani che ci accompagnano e che potranno sostenere tutta questa questa impresa come l'hanno fatto per la giornata di oggi non so se Sofia e Lorenzo volete dire una parola anche voi che avete lavorato nell'ombra Sofia che ha fatto tutto il lavoro su questionari powerpoint sistemazione delle immagini insomma un grossissimo lavoro dietro le quinte che sappiamo che senza questo lavoro non c'è risultato possibile no beh io da parte mia ringrazio mi sentite si si è scaricato forse no non ti sentiamo no appunto dicevo io da parte mia ringrazio soltanto perché oltre a essere un lavoro sono veramente temi che a me da sempre interessano quindi per me ogni volta che penso che anche il mio lavoro è un'enorme fortuna e sono felice di incontrare voi come comunità infatti ogni tanto mi siedo ascolto quello che raccontate quello che descrivete perché è enormemente importante appunto per me prendere parte a questi incontri quindi vi ringrazio sempre come ogni volta che ho l'opportunità e la fortuna di incontrarvi e invece per quanto riguarda a livello lavorativo tutto ciò che rispondete nei questionari tutto quello che fate per aiutarci a portare avanti appunto questo tipo di lavoro per noi è preziosissimo quindi scusateci se ogni tanto appunto soprattutto io vi stresso per avere foto risposte ma anche questi sono dati che magari sembrano secondari ma che invece proprio ci aiutano a portare avanti quello che stiamo facendo quindi grazie mille ecco sì le parole di Sofia in realtà sono le parole giusto per per raccontare che l'associazione ha oggi una dimensione di quattro dipendenti più una serie di collaboratori quindi parliamo anche di sostenibilità economica dipendenti a tempo indeterminato part time piuttosto che a tempo pieno e giovani che escono dalle università che hanno fatto con noi un percorso Sofia Lorenzo ne sono un esempio ma abbiamo anche Silvia Laura poi abbiamo anche generazioni diverse come dipendenti come Susanna e noi siamo un'organizzazione che ha la fortuna di poter lavorare giorno per giorno a differenza mia e di Paolo che siamo volontari e che nella vita abbiamo insomma altri lavori o altre mansioni nel senso che Paolo ha raggiunto come artigiano la pensione e quindi è dedito completamente all'associazione per fortuna dell'associazione come qualche altro e tanti altri invece membri del direttivo sono solo soci cioè scusate volontari ma svolgono lavoro le parole di Sofia vi stanno indicando che noi ci lavoriamo realmente giorno per giorno e anche il lavoro che facciamo per Tocatì in realtà Tocatì non è un festival per voglio dire per intrattenere persone o per fare flussi turistici poi che arrivino tantissime persone a giocare che ormai è diventata una dimensione ma è stato il motore per noi per incontrarvi per incontrarvi e per mettervi in relazione e per farci sentire in realtà parte di veramente di un unico grande gruppo e per arrivare anche a stimolare le istituzioni a guardare il gioco con il valore che ha quindi grazie grazie per questa giornata almeno da parte mia e poi lascio la parola conclusiva a Paolo sarebbe molto interessante arrivati a questo punto cominciare la discussione perché gli argomenti sono moltissimi ma ce li teniamo per la prossima volta e nel frattempo magari ci coordiniamo e individuiamo da subito un'altra data per incontrarci non a brevissimo ma a breve insomma sempre con la disponibilità della della regione della regione veneto io mi ero assegnato alcuni punti ma è inutile adesso riaprire argomenti mi sembra che cominciamo ad essere un po' tutti stanchi non so se qualcuno oltre a me si è appisolato nel frattempo non so e quindi vi ringrazio ringrazio ancora la sovrintendente per la disponibilità che ci ha dato di essere in questo magnifico posto ringrazio la regione del veneto ringrazio sandro che stoicamente rimane assolutamente fino all'ultimo momento anzi se vuoi venire per favore a fare un saluto ti ringrazierei e per quanto mi riguarda ringrazio ancora tutti quanti voi e vi do appuntamento la prossima volta io per concludere direi questo innanzitutto complimentarmi con con l'organizzazione con con i ragazzi ma con Paolo insomma con Aga in generale per per questo evento che personalmente a me è piaciuto molto devo dire forse è piaciuto anche più dell'altra volta probabilmente questo è anche nel segno che bisogna sempre migliorare siamo attraverso a me è piaciuto perché c'è stato un elemento di novità abbiamo presentato le discipline abbiamo presentato anche nuove discipline ma le abbiamo presentate non leggendo su un foglio di carta ma vedendo sentendo le persone direttamente che che proprio spiegavano quasi ci facevano vedere magari volevate anche provare a lanciare far una bella fortaglia ecco voglio dire e questo è stato un bel una bella diciamo una novità rispetto anche alla precedente edizione e quindi sicuramente io direi che da questo punto di vista almeno personalmente esco soddisfatto ho conosciuto anche cose nuove cose nuove scusate se perdo il microfono direi che si è partito dal bello diciamo che nel senso che sono arrivate nuove proposte che probabilmente possibilmente potranno essere prese in considerazione e troveremo in modo il tempo e il modo i tempi magari anche presto il modo per poter eventualmente concretizzare perché ovviamente tutto dopo deve passare attraverso la nostra direzione ci sono dei direttori che comandano che decidono però noi dobbiamo trovare il modo di portare evidenziare e portare a conoscenza queste nuove proposte poi la discussione è andata avanti e sono saltate fuori anche le problematiche perché sembrava tutto bello e invece poi ci sono le problematiche del affidamento di pianti l'utilizzo di spazi utilizzo delle strade perché molti di queste discipline si giocano proprio in strada a fianco delle case con delle finestre mi immagino le signore che si vedono arrivare le palline cosa diranno è un po' come succedeva a noi quando giocavamo in giardino partivano delle pallonate incredibili partivano i vetri scappavano via tutti però voglio dire là poi ci sono delle questioni che si complica perché nel momento in cui tu giochi in casa tu puoi fare tutto nel momento in cui tu esci e ti devi rapportare con qualcuno e in questo caso quel qualcuno è sempre l'ente pubblico il comune che ti deve autorizzare ti deve dare la possibilità di fare questa cosa ho capito che c'è la volontà di creare questa rete e ovviamente dalla rete verrà fuori qualche proposta qualche idea qualche come avete giustamente anticipato e quindi se ci sono delle proposte che in qualche modo ritenete di portare all'attenzione della regione allora questo mi sembra giusto un metodo giusto per operare poi non è detto che tutte le questioni tutte le problematiche riguarderanno l'assessore allo sport perché quando si parla di occupazione di una piazza o di una strada secondo me andiamo a toccare anche qualche altro assessorato che ha altre competenze questo per essere corretti però insomma se vogliamo andare avanti bisogna andare avanti anche cercando di eventualmente di risolvere certe certe questioni per resto grazie a tutti per chi ho conosciuto poi magari se volete ci passiamo anche in un telefono se qualcuno per esempio Antonella giusto? come? Gloria 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 si mi sbaglio Antonella Gloria ma anche qualcun altro per esempio il nostro amico della Andrea dell'amore insomma se qualcuno vuole lasciarle il proprio numero di telefono oppure faccio il mio in modo tale che ci si possa sentire se ci sono questioni dirette per il resto direi che può andare almeno per quanto mi riguarda grazie di tutto arrivederci alla prossima grazie grazie a tutti